Allora noi cominciamo questa giornata in memoria di Vincenzo Di Benedetto e il mio compito questa mattina è veramente molto circoscritto ed è quello anzitutto di ringraziare gli amici, i colleghi, gli studiosi che hanno accettato di partecipare a questa giornata con la quale intendiamo ricordare un grande maestro della scuola. La scuola normale come voi sapete soprattutto gli allievi è costituita da allievi e da maestri, vive in questo intreccio ed è una fortuna quando gli allievi incontrano personalità straordinarie come quella di Di Benedetto. Abbiamo voluto perciò ricordarlo per significare l'attenzione con la quale guardiamo alla presenza di studiosi come Di Benedetto nella nostra scuola e alla traccia che intendiamo custodire, che hanno lasciato con il loro lavoro e la formazione di studiosi di qualità che non ho nemmeno bisogno di ricordare. Lo ricordiamo anche perché nella nostra scuola gli studi classici, come voi sapete sono sempre stato un pilastro e un punto di riferimento fondamentale, vi hanno insegnato da noi, ricordo quelli che non sono più con noi come Giovanni Pugliese Carratelli oppure Arnaldo Momigliano, sono strutture fondamentali della nostra scuola. Ed è quindi anche questo aspetto della ricerca che fa la scuola nell'ampito degli studi classici che intendiamo oggi ricordare. Ma se posso dire senza retorica vorrei poi ricordare un ultimo elemento, molto breve, come voi sapete Di Benedetto era figlio di un sarto calabrese, se ricordo bene, ed era uno dei numerosissimi allievi che vengono dal meridione nella nostra scuola, che noi accogliamo nella nostra scuola e che diventano cittadini nella nostra scuola. Credo che questo sia uno degli aspetti più importanti della missione della scuola normale ieri ed oggi e questi elementi, appunto l'altezza del Magistero, l'importanza degli studi classici, la cittadinanza costituita venendo anche da luoghi così lontani, sono gli elementi che ci hanno spinto fra gli altri a volerlo ricordare. Sicché quando Luigi Battezzato e Maria Martinelli ci proposero di avviare, appunto di tenere questa giornata accettammo subito con molto piacere perché la ritenevamo un obbligo, un dovere, un dovere sentito ma un dovere. Sono molto grato anche alla collaborazione del Dipartimento dell'Università di Pisa, rappresentato qui dal Professor Tulli, e agli altri amici come Riccardo Di Donato, che hanno proprio in questi giorni promosso la pubblicazione di un quadruplice, di una quadruplice opera appunto di Di Benedetto intitolato appunto Il richiamo del testo, nel quale appunto vengono raccolti molti degli aspetti della sua ricerca così multiforme dal mondo antico alla letteratura italiana e via discorrendo. Se ce ne fossero le condizioni, anche noi come edizione della normale saremmo lieti eventualmente di andare in questa direzione, di pubblicare testi di Benedetto o su di Benedetto, ma ritengo che il lavoro che ha fatto già Riccardo Di Donato con questo volume sia esemplare da tenere in grande considerazione. Vi ringrazio quindi tutti e do la parola all'amico Tulli. Prego Tulli. Grazie al Professor Ciliberto, grazie della ospitalità in questa splendida set per una iniziativa che credo di poter dire fortemente ci accomuna. La scuola normale è il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, erede di una tradizione che facciamo ruotare intorno alla Facoltà di Lettere e Filosofia, al Dipartimento di Filologia Classica, una tradizione che nel passato scende con radici molto profonde. Credo di poter dire che Vincenzo Di Benedetto, proprio nella polarità, nella dialettica fra le due istituzioni, l'Università di Pisa e la scuola normale superiore, tra sua formazione e sua militanza come maestro, abbia il campo pieno della sua, pieno e forte della sua espressione. E in questa polarità credo di poter dire che Vincenzo Di Benedetto ha realizzato un aspetto per noi tutti essenziale del suo insegnamento, ovvero il seminario. Il seminario sia nelle cornici istituzionali, sia nell'interlocuzione diretta, con un numero straordinariamente grande di allievi, di giovani, poi cresciuti, poi colleghi. Un seminario che ha sempre realizzato come intenso dialogo e come di fatto, lo sappiamo bene, comunanza di vita. E nel seminario Vincenzo Di Benedetto dava una prova straordinaria, per noi tutti davvero un paradigma di generosità intellettuale. Credo che la generosità intellettuale di Vincenzo Di Benedetto possa essere considerata una cifra distintiva di lui e attraverso lui di un intero periodo. Una generosità intellettuale che trovava un sostegno molto concreto nell'immenso tesoro di nozioni che Vincenzo Di Benedetto possedeva e che con grande dolore, anche a distanza di mesi che ci separano dalla sua scomparsa, rimpiangiava. Un immenso tesoro di nozioni messo al servizio di un ben preciso punto di vista. Un punto di vista che oggi vediamo sostenuto, spostato verso il futuro da allievi e amici con i quali continuiamo a condividere una quotidianità di didattiche e di presenza nelle nostre strutture. Naturalmente Euripide, Sofocle, Eschilo, naturalmente Ippocrate, la medicina e a scendere giù, Omero, fino ai contributi molto apprezzati sulla letteratura italiana. Vincenzo Di Benedetto è stato in condizione di avvolgere nella sua dottrina, avvolgere nella sua interpretazione del testo, nel suo contatto con il testo, davvero centinaia di allievi, centinaia e centinaia di allievi e della scuola e dell'Università di Pisa. So di non poter attribuire a me stesso la condizione di scolare o di Vincenzo Di Benedetto, ma la sua generosità intellettuale, credo che molti dei presenti lo sappiano, è arrivata largamente a coinvolgermi e di questo gli sono oggi immensamente grato. Una generosità intellettuale, quella di Vincenzo Di Benedetto, messa al servizio, ripeto, di un punto di vista, un punto di vista nel quale credo di poter riconoscere un aspetto del quale sono profondamente convinto, ovvero la fondamentale unità della filologia classica e in particolare del greco nella nostra città, fra scuola normale e dipartimento. Grazie, auguri a tutti. Quindi diamo la parola alla dottoressa Martinelli per l'avvio dei lavori. Voglio dire solo poche parole, da una parte per ringraziare la scuola normale per avere promosso e per avere organizzato questo incontro e il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica per avere concesso il patrocinio alla nostra iniziativa. Si tratta, come è stato già detto da chi mi ha preceduto, di due istituzioni in cui Di Benedetto ha trascorso, direi, la quasi totalità, si esclude il peraltro fondamentale soggiorno a Oxford a lavorare insieme, possiamo ben dirlo, e a studiare insieme sotto Edward Frankel. Di Benedetto ha trascorso praticamente la sua vita prima di studente, ma già da studente di studioso, come sapete i suoi primi articoli appartengono ai primissimi anni della sua attività universitaria, e poi di maestro. Alla scuola normale ha passato più di vent'anni, è stato docente di filologia greca dal 1971 al 1993 e all'Università di Pisa ha insegnato ancora più a lungo, ininterrottamente, fino al suo pensionamento, senza interruzioni, come è stato notato. Siamo contenti di vedere qui anche molti allievi, vecchi e nuovi, anche più recenti, ma non solo, quegli allievi a cui Vincenzo Di Benedetto ha dedicato quella che è rimasta la sua ultima grande fatica, la sua odissea del 2010. E quindi vogliamo per prima cosa ricordare come nei seminari della scuola normale, come è già stato detto, ma non solo nei seminari, anche nell'attività che naturalmente andava molto al di là di un tutorato, ma invece era uno scambio costante di insegnamenti e di metodi spesso innovativi, sempre efficaci, sempre rigorosi, nel tipo di attività che la normale offre ai suoi allievi, quindi non solo seminari, ma anche i colloqui annuali. E poi anche nei corsi seminari all'Università voglio ricordare come sia stata sempre continua, costante, insieme alla trasmissione appunto di questo suo metodo e, d'altra parte, anche alla trasmissione di un atteggiamento, cosa che è risultata fondamentale per i suoi allievi, costantemente, perennemente critico nei confronti di verità, spesso anche ormai accettate come costituite e indiscutibili. Insieme a questa trasmissione continua e costante è stata anche la proposta da parte di Vincenzo Di Benedetto dei progressi e della discussione delle sue ricerche, per cui i suoi seminari, i suoi corsi, ma anche le nostre ricerche, anche più modeste dei primi anni, si incrociavano e venivano stimolate e arricchite dalla discussione degli studi che Vincenzo Di Benedetto aveva in corso. Tutto questo per dire che non è molto facile scendere il profilo di Benedetto studioso da quello di Benedetto Maestro, come è stato ricordato più volte. Tuttavia abbiamo voluto dedicare questa giornata più in particolare alla sua attività di infaticabile, direi, interprete di testi e non solo testi, anche di contesti di più ampia portata culturale, nell'ambito della letteratura e del pensiero filosofico e scientifico della Grecia antica, da una parte, e altro grande campo in cui Vincenzo Di Benedetto ha messo in relazione le sue conoscenze sul mondo antico con non solo la ricezione del medesimo, ma anche fondamentali nervature della cultura più recente, nell'ambito della letteratura italiana. Quindi un ambito che come tutti saprete ha portato, questi ambiti diciamo hanno portato alla realizzazione di risultati numerosi e notevoli, una serie molto lunga di monografie affiancate ad edizioni critiche e a numerosissimi contributi in prestigiose riviste italiane e internazionali che sono state riunite nella preziosa opera che è stata ricordata poco fa, i quattro volumi di, difficile chiamarli scritti minori, del richiamo del testo curata da Riccardo Di Donato, a cui va naturalmente il ringraziamento di tutti. Quindi ci fa piacere che abbiano accettato il nostro invito a riflettere su tutti questi aspetti, alcuni degli aspetti di cui Di Benedetto si è occupato, direi forse i principali. Siamo contenti che abbiano accettato appunto il nostro invito a riflettere su tutto questo, dei studiosi che non sono stati legati direttamente al suo insegnamento, oppure allo scambio quotidiano di esperienze che ha ricordato anche il professor Tulli poco fa, però che hanno avuto modo di confrontarsi ovviamente con i suoi lavori. Quindi questa giornata si vuole porre come un contributo critico alla riflessione e alla discussione, all'evidenziazione su metodi, risultati, su questi aspetti appunto più significativi di questo vastissimo contributo intellettuale di Vincenzo Di Benedetto. Quindi concludo ringraziando naturalmente in primis i nostri relatori. Ringraziamo anche i colleghi che vediamo qui e anche quelli che non potendo partecipare ci hanno fatto sentire la loro vicinanza a questa iniziativa, ci hanno pregato di portare il loro saluto e la loro adesione al nostro incontro, varie persone, spero di non dimenticare nessuno, da Valeria Andò a Gabriele Burzacchini, a Vittorio Scitti, a Franca Perusino, nell'ambito della scuola normale, ricordo invece Salvatore Settis e Claudio Ciociola e poi per quello che riguarda l'Università di Pisa, Rolando Ferri e anche se un ex di lunga data, Franco Baltomini. Anche allievi per la scuola normale, ricordo il professor Most, che non può essere presente e che ci ha pregato di salutare. Ringraziamo anche allievi come Angela Longo e Maria Zanichelli che pure non sono presenti ma che sono vicino a noi in questa giornata, spero che poi ci possano rivedere. E per finire questa parte così ringrazierò anche tutti gli altri presenti, fra cui ci fa molto piacere la presenza anche di molti giovani e giovanissimi e anche a loro, come naturalmente a tutti gli altri, è rivolto l'invito a partecipare alla nostra discussione, alla nostra riflessione, a cui quindi ora possiamo dare inizio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti e direi possiamo iniziare con la prima relazione su Omero e abbiamo invitato a parlare degli studi omerici di Benedetto, la collega amica Barbara Graziosi, che è professore di letteratura greca all'Università di Durham, è autrice di vari libri, in particolare appunto sull'epica greca, da Inventing Homer del 2002 pubblicato a Cambridge e poi un paio di libri pubblicati insieme a Johannes Howbold, il saggio su Homer, The Resonance of Epic e un commento al sesto libro dell'Iliade e poi anche curato un volume molto interessante sulla ricezione di Omero nel ventesimo secolo e insieme ad altri autori l'Oxford Handbook of Hellenic Studies e nel 2013 ha pubblicato il libro The Gods of Olympus History che è stato anche selezionato per la shortlist del Critico's Prize e dirige ora un progetto finanziato dallo European Research Council Living Poets, A New Approach to Ancient Poetry e ha vinto vari premi sia di ricerca che per la sua ricerca che per la sua didattica e quindi con molto piacere le do la parola. Allora innanzitutto vorrei ringraziare molto Luigi Battezzato, Maria Chiara Martinelli per l'invito a parlare oggi e tutti voi per essere qui presenti è un invito che rappresenta per me un onore perché si tratta di parlare di uno studioso che ammiro molto anche se da lontano perché non ho mai avuto l'opportunità ho il modo di conoscere Vincenzo Di Benedetto personalmente e devo dire che è anche un invito che mi ha creato non poca ansia e quasi diciamo timore nel senso che si tratta non solo di parlare di uno studioso di enorme portata intellettuale ma anche di parlare a un pubblico di esperti sia in campo di studi omerici e qui voglio ricordare che ci sono degli allievi di Benedetto che ammiro molto come colleghi e studiosi di Omero che mi hanno aiutato nelle mie ricerche Maria Serena Mirto, Franco Ferrari e altri anche gli organizzatori del convegno quindi esperti in campo di studi omerici, esperti anche nel campo della storia degli studi perché si tratta di fare il punto sulla produzione di uno studioso singolo però aprirla anche a un discorso intellettuale più ampio e qui abbiamo maestri nella scuola a partire da Momigliano che è già stato citato Riccardo Di Donato, insomma questi sono insegnanti che ci aiutano a capire come fare il punto sull'individuo e aprire invece un discorso più ampio di portata intellettuale e culturale e poi tanti di voi sono alunni e allievi diretti del professore Di Benedetto e quindi sono anche esperti per esperienza e quindi ecco questo mi ha creato non poca ansia e mi sono chiesta come mi immagino vi sarete chiesti tutti perché chiedere a lei di parlare quando il pubblico è molto più esperto ecco io penso che la risposta a questa domanda non sia assolutamente il motivo non sia quello di minimizzare l'importanza dell'insegnamento diretto ma anzi di presentare anche le pubblicazioni come una forma di pedagogia meno personale, meno attenta all'individuo però anche di più ampia portata sia nello spazio che nel tempo e quindi siccome purtroppo il professore Di Benedetto non può più parlarci direttamente nonostante tutto attraverso i libri e articoli continua a fare un lavoro didattico ed è compito nostro di cercare di fare che questo lavoro sia quanto più utile possibile anche per il futuro ecco per questo siamo qua io penso oggi e il mio ruolo è un po' il ruolo della cavia ecco questa qui stando ai confini del mondo su a Durham vicino al Vallo di Adriano cosa avrà capito leggendo i libri no? si può chiedere, si può fare questa domanda senza il contatto diretto però siccome questo ruolo della cavia un pochino mi mette in agitazione perché gli esperimenti di solito non finiscono bene per la cavia anche quando sono utili al lavoro scientifico darò molto spazio alla discussione e sarò breve nel mio intervento ecco questo è un vantaggio del mio intervento e l'altra cosa che volevo dire è che vorrei arrogarmi da relatrice diciamo il privilegio di far domande al pubblico perché ci sono cose su cui effettivamente mi sarebbe utile di sapere di più ecco allora incomincio dalla filologia e passo poi quasi subito alla critica letteraria che è il campo in cui secondo me Di Benedetto ha dato un contributo fondamentale agli studi omerici ho fatto il circolare, spero che avete delle fotocopie per spiegare un po' l'andamento del discorso che voglio fare così potete seguire la struttura di quello che voglio dire poi ci sono un po' di citazioni dai lavori di Di Benedetto su Omero che voi conoscete già ma per ricordarci un po' anche come scriveva e per metterle in relazione ad altre affermazioni sia antiche che moderne che mi sembra possano essere paragonate in maniera utili allora incominciamo dalla critica del testo sulle origini dei poemi omerici Di Benedetto aveva idee molto chiare e che si possano riassumere facilmente e sono queste c'era una volta un poeta che scrisse l'Iliade e poi un secondo che scrisse l'Odissea gli articoli spesso molto polemici che difendono questa posizione e insistono sulle debolezze delle altre possibili teorie sull'origine dei testi sono a mio parere tra i meno interessanti da lui scritti e quindi non voglio dedicare loro troppo tempo vorrei però soffermarmi su tre punti che mi sembrano importanti allora prima di tutto bisogna dire che la presentazione del lavoro di altri studiosi per esempio nelle appendici sull'oralistica omerica nella seconda edizione del laboratorio di Omero non è generosa ed è proprio per questo anche non tanto affidabile secondo me diciamo che se si vuole sapere che cosa abbia il contributo non so di Gentili allo studio omerico io non partirei dalle affermazioni di Benedetto negli articoli già citati perché si soffermano su tutte le parti più deboli e più stupide delle argomentazioni degli altri che peraltro ci sono se uno va a guardare e invece di usare un principio diciamo di carità interpretativa secondo cui si va a cercare il meglio in quello che si legge detto questo mi sembra che la domanda più interessante di cui vogliamo occuparci oggi forse è il perché di questo accanimento contro l'oralità omerica ecco questa era la prima domanda che mi sono fatta anch'io leggendo queste polemiche perché è così importante farle per alcuni le motivazioni di un tale atteggiamento sono di ordine filologico per esempio dal punto di vista formale la posizione di West e quella di Benedetto si assomigliano molto come si vede dai primi due passi che ho messo nelle fotocopie entrambi gli studiosi immaginano un autore singolo per l'Iliede attivo alla fine dell'ottavo secolo con in mano una penna sostanzialmente insomma quello che avevano ecco uno stilo dotato di molto tempo per scrivere e riscrivere limare, aumentare, migliorare le prime frasi della prefazio di West sembrano a ben guardare quasi versioni latine di paragrafi scritti anche da Di Benedetto le motivazioni e i risultati però sono diametralmente opposti per West l'appello all'autore serve a giustificare interventi abbastanza radicali sul testo tradito atti a renderlo più antico morfologicamente più uniforme e grammaticalmente più corretto almeno secondo le regole della grammatica greca come le intendiamo noi oggi e secondo me lì c'è un problema a questo fine West si avvale di varianti minori trovate nei papiri ma soprattutto del proprio giudizio di editore i risultati sono secondo me discutibili e mi chiedo, questa è la mia prima domanda a voi in realtà, se Di Benedetto si sia mai espresso in merito all'edizione Teubner a giudicare sia da qualche commento sparso sui papiri tolemaici sia dalle scelte fatte per il commento dell'Odissea testo von der Müll addirittura aumentato da alcuni versi direi che Di Benedetto fosse molto lontano dalle scelte editoriali di West e questo devo dire subito lo considero un punto a favore di Di Benedetto la questione si può forse esprimere in termini più generali nella critica del testo l'appello all'autore porta di solito a una visione analitica del testo omerico e infatti West espunge non solo versi qua e là ma l'intero decimo libro dell'Iliede con il risultato che l'ultima traduzione inglese dell'Iliede non lo traduce quindi se si va all'aeroporto si compra l'ultima versione dell'Iliede in inglese non c'è il decimo libro perché West l'ha messo fra parentesi nel campo della critica letteraria invece l'appello all'autore serve al contrario serve a stabilire una posizione unitaria e quindi ad accettare la cosiddetta vulgata più o meno così come sta secondo me il motivo per cui Di Benedetto che su altri autori interveniva filologicamente e qui ci sarebbe da chiedersi perché si occupa di filologia per la tragedia greca come sentiremo per altri testi invece Omero niente sostanzialmente accetta il testo come sta perché questo? ecco secondo me il motivo è che l'appello all'autore almeno così come viene concepito sia da lui che da West separa l'interpretazione letteraria dalla filologia e questo è una cosa di cui noi omeristi o insomma studiosi di Omero oggi secondo me dobbiamo occuparci e si potrebbe dire di più ma ai fini dell'argomento di oggi il punto importante è questo per Di Benedetto l'appello all'autore era una necessità letteraria ecco poi terzo punto prima di passare alla seconda parte sul fatto che lo studio della poesia orale abbia inibito la critica letteraria io do in larga misura e tenendo conto di alcune eccezioni ragione a Di Benedetto spesso è così spesso e non solo in Italia gli studiosi che si occupano di oralità offrono letture meno convincenti meno attente e meno profonde di quelli che invece insistono su Omero scrittore ma questo non vuol dire che Omero fosse effettivamente scrittore l'osservazione di Di Benedetto non stabilisce quale sia l'effettiva origine dei poemi omerici ci rivela invece qualcosa di importante su di noi stessi sulla nostra cultura e sulla nostra forma mentis e questa cosa si può riassumere così se immaginiamo uno scrittore leggiamo meglio presupporre un'intelligenza viva ed individuale ci aiuta a sviluppare la nostra propria individuale intelligenza di lettori per questo credo che Di Benedetto si sia lanciato in polemiche e attacchi anche discutibili sia nel tono che nel contenuto difendeva Omero scrittore a spada tratta e con enorme energia perché Omero scrittore lo aiutava a leggere e leggere era in fondo il mestiere di Di Benedetto sulle effettive origini dei poemi omerici è bene invece secondo me ammettere in primo luogo la nostra ignoranza ovvero stabilire i limiti di quello che possiamo sapere sicuramente questo l'ha dimostrato Parry l'hanno visto molti altri i poemi provengono da una ricca e sofisticata tradizione orale altrettanto sicuramente l'Iliè dell'Odissea sono poemi scritti perché alla fine dei conti quello che abbiamo fra le mani sono testi scritti quindi oralità e scrittura giocano entrambe un ruolo importante nella formazione dei poemi si potrebbe discutere più a lungo sul peso di ognuna sui vari possibili modelli di composizione e ricezione ma oggi non mi sembra il caso di avviare il discorso discorso sul quale in ogni caso sarebbe bene mantenere un tono speculativo piuttosto che polemico passo allora alla critica letteraria perché sulla critica del testo Di Benedetto insistiva giustamente sul varone della vulgata allora seconda parte vedete che stiamo facendo veloci adesso guarderò anche l'orologio per non stancarvi oltre misura visto che abbiamo una giornata lunga nel lavoro di Di Benedetto la parte più importante è la lettura almeno nel lavoro suo mero su questo mi sento di dire che non c'è migliore del lettore di Omero secondo me in nessun tempo e nessuna lingua ho trovato un interprete almeno per me personalmente più stimolante si può aprire il laboratorio di Omero o il commento all'odissea a qualunque pagina e imparare qualcosa quello che impressiona soprattutto è infatti la densità di interesse poche ripetizioni aggiunte cose che si possono tagliare e allora mi sento di dire questo macchiavellicamente che il fine giustifica i mezzi se le polemiche e le difese a spada tratta di Omero scrittore erano il mezzo che rendeva possibile questa lettura una lettura di questa portata da parte di Benedetto allora anche questo mezzo secondo me va accolto perché ci dà un'interpretazione molto importante purtroppo abbiamo poco tempo oggi e non posso semplicemente leggere ad alta voce il laboratorio di Omero il commento all'odissea anche se sarebbero letture utili da fare insieme e mi sono trovata un po' a disagio a pensare bene adesso su cosa scegliere di cosa parlare ecco all'interno di un lavoro molto importante e ho pensato di soffermarmi su tre argomenti perché mi sembrano sia centrali per il lavoro di Benedetto e sia anche importanti per il futuro degli studi omerici il primo è il poeta vorrei discutere del poeta e dei personaggi come del resto fa anche di Benedetto stesso proprio all'inizio del laboratorio di Omero e quindi guarderemo le prime pagine del suo libro poi vorrei parlare delle ripetizioni che sono un argomento importante per gli studi omerici e infine dirò qualche parola solo qualche parola sulla società omerica allora appena entrati nel laboratorio di Omero e senza tanti preamboli ci si trova a esplorare relazioni tra poeta e personaggi tra personaggi e altri personaggi tra poeta e pubblico queste sono e si capisce subito relazioni complesse e anche relazioni pericolose nel senso che possono fare male come Aristotele di Benedetto comincia con l'osservare che il poeta dice relativamente poco in prima persona mentre dà grande spazio ai personaggi di Benedetto aggiunge nel primo capitolo che il narratore a volte fa da spalla al personaggio incominciamo allora con Licaone che è come incomincia anche di Benedetto Omero ci dice che il figlio di Priamo nel ventunesimo libro cade di nuovo tra le mani di Achille di Benedetto osserva alla ripetizione fattuale il narratore fa corrispondere l'iterazione verbale a lui che non voleva Uc e Thelonta del verso 36 quando Licaone è preso per la prima volta da Achille corrisponde esattamente lui che non voleva Uc e Thelonta del verso 48 Achille una volta presolo per la seconda volta lo avrebbe mandato all'Ade lui che pure non voleva andarci Uc e Thelonta già questa iterazione ha una risonanza spiacevole per il povero Licaone ma non si tratta solo di questo nel discorso che Achille pronuncia nel momento in cui sta per uccidere Licaone anche Achille gioca con un procedimento di iterazione con un effetto di sarcasmo che ha come obiettivo ancora Licaone sto citando da Di Benedetto il mare ci dice Achille non ha potuto fermare Licaone che infatti è arrivato fino a Troia ma ora lo fermerà la terra perché presto lo seppellirà così dice Achille conclude Di Benedetto cito il gioco iterativo di Achille ha un impatto maggiore proprio perché in precedenza era stato avviato dal narratore ecco così comincia un libro che continua allo stesso livello di intensità di analisi fino alla fine quello che colpisce secondo me già dalle prime pagine è una sensibilità diciamo all'umiliazione allo schiaffo qui è Licaone a subire il sarcasmo di Achille prima ancora di sentire la ferita delle armi qualche pagina dopo incontriamo Pandaro che si compiace di essere riuscito a colpire Diomede una seconda volta mentre noi sappiamo benissimo perché il poeta ce lo dice che il secondo tentativo è ancora più futile del primo così vediamo uno che si vanta di aver colpito quando noi sappiamo che invece questo non serve a niente non ha fatto neanche male il colpo Omero aggiunge di Benedetto si permise di giocare non solo con Pandaro ma anche con il padre degli dei e degli uomini e con questo commento avvia un'analisi molto interessante della Dio Sapate quando era seduce Zeus quest'ultimo ripete le parole di Paride preso da Desiderio per Elena nel terzo libro nemmeno quando ci unimmo la prima volta ti vogli tanto come ti voglio in questo momento solo che Zeus elabora questo concetto mai tanto come oggi facendo la lista di tutte le sue amanti divine e mortali e concludendo che comunque anche in quei casi il desiderio era minore ora molti lettori sia antichi che moderni ed è interessante leggere gli scogli su questo exploit di Zeus trovano che Zeus dimostri poco tatto nei confronti di Hera alla quale elenca tutte le femmine con cui si è unito e con cui l'ha tradita a Di Benedetto invece interessa l'umiliazione del maschio proprio nel momento in cui Zeus si sente al massimo della propria potenza noi sappiamo che Hera lo sta manipolando a suo piacimento questo è quello che ci rivela il laboratorio di Omero e c'è di peggio ancora il poeta non solo gioca con Zeus facendo in modo che si scopra proprio nel momento meno opportuno e quindi Benedetto usa scopra in tutti i sensi del termine ovviamente ma rivela ed espone anche i nostri desideri più intimi quando Glauco e Diomede che in teoria dovrebbero combattere uno contro l'altro invece si scambiano doni in nome di un antico vincolo di ospitalità noi siamo pronti a gioire con loro ecco ecco finalmente un atto di amicizia il poeta invece interviene e allora Zeus tolse il senno a Glauco perché scambiò armi d'oro contro armi di bronzo armi da cento buoi contro armi che valevano nove così conclude Omero questo bello scambio di doni in questo caso lo schiaffo lo riceviamo noi quindi che veniamo scoperti nel nostro desiderio di pace l'umiliazione di Glauco il quale è evidentemente perso in questo duello virtuale e anche l'umiliazione nostra che ci eravamo illusi ci potessero essere semplici manifestazioni di amicizia tra nemici in guerra allora ci possiamo chiedere che tipo di Omero si immagina di Benedetto ecco è un Omero che ci schiaffeggia in questa maniera che ci provoca questi shock all'interno del racconto l'Umero di Benedetto non è secondo me un autore che si fa semplicemente gioco di personaggi e di pubblico scoprendo ed esplorando desideri illusioni belleità e quindi vulnerabilità altrui fa anche questo come osserva di Benedetto ma dopo aver esposto il compiacimento futile di Pandano il poeta rende omaggio e qui cito al personaggio nel momento della morte aggiungendo Panangiamman due versi a rituale e rimbombarono su di lui le armi una ricca aggettivazione del sostantivo armi qualificate come scintillanti e fulgide una cosa che non fa mai altrove e acquista il valore di una deritualizzata partecipazione da parte del narratore così dopo aver esposto Pandano nella sua futilità alla fine gli rende onore allo stesso modo una volta esposto in noi quel desiderio di armonia stimolato dall'incontro tra Glauco e Diomede desiderio che sul momento fa sbattere diciamo contro la realtà monetaria delle cose dopo ci compensa con lo scambio di doni tra Ettore e Ajace nel libro settimo e soprattutto alla fine del poema con l'incontro tra Priamo e Achille come osserva Di Benedetto il poeta dell'Iliede non ha quindi uno sguardo spietato ma non è nemmeno un sentimentale o un illuso e così Di Benedetto conclude la sua lettura dell'Iliede e l'ultimo passo sulle vostre fotocopie un passo secondo me commovente oltre che molto intelligente sul quale ritorno alla fine del discorso che voglio fare oggi ma su cui non mi soffermo ora perché non voglio ripetere troppe volte le stesse cose allora chiudo il discorso sul poeta e sui personaggi uno dei punti forti della lettura di Benedetto è questo il poeta ovvero la voce narrante emerge non solo da pochi passi isolati come per altri lettori moderni di Omero dal proemio o dalle apostrofi in seconda persona o dalle indicazioni spaziali destra e sinistra di cui si è recentemente per esempio occupata Janice Rose Clay ma da tutto il poema non abbiamo quindi una tradizione impersonale anonima come vorrebbero alcuni ma una voce che si sente chiara e che partecipa e a me sembra che questo approccio non solo si trovi in sintonia con alcune letture moderne ma cosa più importante sia bene in sintonia con la critica letteraria antica tra gli studiosi recenti citerei Andrew Lerdi in un articolo su Virgilio che ci invita ad ascoltare la voce del poeta e ad immaginarne il carattere l'ho messo mi pare sulle fotocopie sì ma questo invito trova ottima risposta e questa è una cosa di cui non si è occupato di Benedetto non si occupa neanche Angiulet ma che dico io adesso trova ottima risposta nella Lysis Ectu Prosopo la soluzione sulla base del carattere che è un metodo importante e ben rappresentato negli scoli omerici questo metodo antico viene utilizzato per esempio per risolvere contraddizioni ecco un problema omerico del tipo che piaceva agli antichi Omero dice che il vino dà forza varie volte mentre invece Ettore lo rifiuta insistendo che lo indebolirebbe nel sesto libro non c'è problema insiste Aristarco visto che Ettore e Omero avevano sulla questione idee diverse ecco questo lo troviamo nei poemi antichi e ci sono molte soluzioni di questo tipo che ci fanno capire che quando si ascoltava il poema si sentiva la voce del poeta in maniera molto pronunciata e in questo Di Benedetto ci può aiutare anche se lui non mette in relazione alla propria lettura alle pratiche di critica antica il gioco tra narratore e personaggio è stato naturalmente anche studiato attraverso la narratologia però va notato che la divisione tra narratore e autore non trova riscontro diretto nella critica omerica antica uno dei vantaggi secondo me della lettura di Di Benedetto sta proprio in questa forte capacità di immaginare il poeta ora anche se Di Benedetto non si addentra nella critica del testo e se non in difesa della vulgata a me sembra che differenze di sintassi e qualche volta addirittura di morfologia tra narrazione e discorsi diretti possono essere spiegate appertendo proprio dall'alisis ectu prosopo e quindi da un metodo di lettura antica cioè diciamo che nella sensibilità antica si concedevano ai personaggi espressioni anche forzate difficili poco grammaticali eccetera mentre il poleta in prima persona parlava in mono molto più piano e corretto e qui se uno incomincia a pensarci si potrebbe effettivamente fare un discorso interessante anche di costituzione del testo comunque questa non è una cosa di cui si è occupato di Benedetto e ora invece continuiamo con il lavoro suo e parliamo di ripetizioni siamo già alla seconda pagina allora sulle ripetizioni che è il mio secondo argomento posso essere breve perché l'approccio generale è già emesso discutendo del poeta e personaggi così all'inizio lì delle fotocopie ho fatto il riassunto dell'inizio del laboratorio di Omerio nell'episodio di Licaone alla ripetizione di fatto due incontri con Achille si accompagna una prima ripetizione verbale Licaone che non voleva entrambe poi danno forza o fanno da spalla alle terribili parole di Achille nel caso di Pandaro i due attacchi a Diomede rivelano il personaggio nel suo inutile vantarsi quando in realtà sta perdendo Zeus ripete le parole di Paride elaborandole ulteriormente e rendendosi così ancora più ridicolo proprio nel momento di maggior desiderio l'incontro tra Glauco e Diomede viene ripetuto da quello di Ettore e Ajace e poi da quello di Primo e Achille come ho già scritto altrove Di Benedetto è secondo me impareggiabile interprete delle ripetizioni di Omero il commento all'Odissea sia nell'introduzione sia nelle note a piepagine dimostra ampiamente questo talento che tra l'altro nella mia esperienza didattica è un talento molto difficile da comunicare o da sviluppare negli studenti che si stufano con le ripetizioni insomma non è per niente facile e qui Di Benedetto ci aiuta ci aiuta veramente in un lavoro importante per Omero potrei fare mille esempi di questo veramente non sapevo dove andare però forse uno dei più centrali più interessanti è quello è l'intervento sugli epiteti di Odisseo allora un passo questo qui nelle fotocopie discute di Politlas è una discussione secondo me geniale non lo leggo ora ma potete riguardarvelo ricordarvi quello che dice guardando le fotocopie vorrei dire due cose di questo al centro della lettura di Di Benedetto troviamo due elementi che mi sembra meritino di essere identificati e messi a fuoco da una parte Di Benedetto trova una tensione tra linguaggio formulare e sviluppo narrativo tensione che già di per sé risulta espressiva dall'altra Di Benedetto osserva come il testo stesso ovvero il poeta come direbbe lui riflette sul significato della formula in questo caso sull'epiteto Politlas Odisseo sopporta diversamente all'inizio del poema quando subisce gli eventi e non può farci niente e alla fine quando invece sceglie di sopportare in maniera da potersi poi vendicare sui pretendenti così alla fine del poema Politlas e Polymetis si accostano non solo nel dipanarsi della trama ma anche attraverso un riflettere esplicito sulla sopportazione di Odisseo inserito all'interno del testo vi sono nei poemi aggiungo io molti altri esempi di glosse interne giochi etimologici ed elaborazioni di formule insomma si vede all'interno dei poemi stessi una riflessione attiva e intelligente sul linguaggio formulare per esempio a parole arcaiche ed obsolete si accompagna spesso una glossa comune a filopi si accompagna a mache per esempio o da ifron un molto interessante epiteto omerico di cui non si sa il significato si vede già che all'interno dei poeti del poema non è chiaro che cosa voglia dire ma viene spiegato in vario modo con varie etimologie all'interno dei poemi stessi e poi non so Achille pieveloce provoca tutta un'elaborazione all'inizio del ventunesimo libro quando Apollo si fa inseguire da Achille e poi gli dice Achille pieveloce sei stupido non riuscirai mai a raggiungermi perché io sono immortale e tu invece sei mortale e a quel punto Achille si arrabbia diventa ancora più furioso e dice e dice se solo fossi immortale ti ammazzerei ora ora stesso e questa è diciamo un'espressione di frustrazione che gioca tutta sull'epiteto tradizionale di Achille pieveloce è pieveloce ma non può raggiungere Apollo è così perché è mortale insomma già per questo motivo di gioco tra linguaggio formulare e riflessione sul linguaggio formulare mi sembra che non si possa fare una distinzione netta tra tradizione formulare e innovazione specifica come del resto anche oralità e scrittura collaborano nella creazione del testo e dei poemi il genio di Di Benedetto sta secondo me nel capire l'espressività della ripetizione in questo offre una risposta importante al riduzionismo di Parry secondo cui la formula non significava niente e Parry dice addirittura non andrebbe nemmeno tradotta perché tanto è solo un riempitivo tanti di tanti di tanti insomma arriviamo alla fine del verso ecco questo è quanto questa è una cosa che faceva male anche a Parry tra l'altro non era contento di questa conclusione ovviamente ma che non sapeva come risolvere ecco ce la risolve di Benedetto con molta maestria ma la sua lettura corregge anche molte interpretazioni di stampo orale in cui l'attenzione viene distratta per esempio dalla scena tipica e si perde così interesse per l'attenzione narrativa di Benedetto non perde invece mai d'occhio lo sviluppo della storia la ripetizione non è mai uguale non è mai priva di significato perché come direbbe Eraclito tutto scorre e non possiamo immergerci nella stessa corrente più di una volta così la stessa formula si immerge in punti diversi e ha significati diversi già così e poi viene anche variata eccetera nel commento all'Odissea Di Benedetto scrive esplicitamente di questo flusso della narrazione ricordandoci che come deve sopportare Odisseo così dobbiamo sopportare anche noi non esiste gratificazione immediata non si può ascoltare e piangere come fa Penelope all'inizio si ritorna no Di Benedetto dice questa è una reazione stupida ed emotiva immediata alla letteratura e non si può neanche solo semplicemente ascoltare e divertirsi come fanno i feaci bisogna saper aspettare ecco questa è una cosa che ci insegna dal commento l'aspettare il soffrire e il dissimulare di Odisseo hanno valenza sinistra tra l'altro nella lettura di Benedetto c'è poco spazio per l'avventura o per la curiosità il punto dell'Odissea sta nella riconquista del potere secondo Di Benedetto cito dall'introduzione è un passo che si trova anche nelle vostre fotocopie dice Di Benedetto la conquista del potere non è fatta di incantesimi o di prove difficili da superare ricercando ignoti percorsi il potere si conquista prima dissimulando e poi combattendo e ammazzando non è un bel riassunto dell'Odissea questo è un riassunto diciamo piuttosto disincantato dell'Odissea ma a me sembra utile anche perché ci aiuta a distinguere tra la presentazione di Odissea nel poema e in altre tradizioni sul suo conto comprese quelle moderne in larga misura l'Odissea diventa avventura da ragazzi con Charles Lamb il quale la trasforma in una specie di Robinson Crusoe romanzo di formazione per l'avventuriero britannico coloniale come del resto James Joyce sapeva benissimo e come del resto prende in giro nel suo Ulysses Di Benedetto ci ricorda che il potere non ha un bel aspetto nell'Odissea dopo tanto soffrire e aspettare da parte nostra oltre che di Odisseo la storia sfocia sostanzialmente in un bagno di sangue un bagno di sangue che poi a cui mette fine Atena in maniera del tutto artificiale cosa che dava fastidio ad Aristotele tra l'altro che dice agli dèi non devono intervenire così quando si capisce benissimo che le cose sarebbero andate altrimenti ecco allora finisco con due osservazioni molto brevi sulla società omerica visto che già ci siamo avviati in quella direzione le circostanze politiche descritte dall'Odissea sono come ben noto difficili da interpretare Di Benedetto segue in larga misura Findlay's World of Odysseus mentre invece gli studi più recenti insistono sulla natura composita della società omerica che è fatta di ricordi tradizioni orali anacronismi immaginazione secondo me anche molto importante curiosità per le rovine micenee che in qualche modo ispirano la poesia oltre che realtà storica dell'ottavo secolo Robin Osborne offre un utile riassunto della questione in un articolo che ho citato nelle fotocopie dal punto di vista storico i contributi secondo me più convincenti di Di Benedetto non sono quelli che si legano a una data e a un posto per esempio Sparta nel 730 avanti Cristo ma piuttosto le prospettive più ampie che ci offre su strutture e pratiche del periodo arcaico specialmente colonizzazione e pirateria molto interessante sulla pirateria oltre a questo vorrei offrire un'osservazione finale che sfocia forse nella speculazione biografica o nell'analisi psicologica e che offro quindi con grande cautela e spero anche rispetto specialmente visto che non conoscevo il professore a me sembra che soprattutto in confronto a studi anglosassoni Di Benedetto offre una visione più amara e più sinistra del potere molti presentano i poemi omerici come prodotti di una società aristocratica e competitiva e sostanzialmente si mettono quasi dalla parte dell'aristocratico nella tradizione anglosassone come mantengo il potere come riesco a prendere il potere dall'altro così Osborne nell'articolo già citato vede nei poemi un'analisi della natura sempre provvisoria dell'autorità il nocciolo della questione è per Osborne di ordine politico il negoziare tra potenti i problemi tra potenti questo è quello che interessa a lui per Di Benedetto invece la questione è di ordine poetico bisogna in qualche modo e nonostante tutto fare spazio creare il modo di riflettere e di cantare ritorno alla conclusione del laboratorio di Omero che ho già citato la leggo il principio di autorità la concezione secondo cui alla colpa segue la punizione concezione che è alla base dell'amministrazione della giustizia nell'ambito dello Stato l'idea aristocratica le strutture proprietarie sono evidentemente tutti elementi di un sistema coerente di fronte a questo sistema il poeta dell'Iliede non si pone in un atteggiamento di diniego e tuttavia egli riesce a realizzare poesia e grandissima poesia in quanto egli va al di là di questo sistema ecco questo è il passo che Osborne e molti altri fan vista eccetera non fanno e si crea come Achille di fronte ad Agamemnon uno spazio a sé si sente qui forse un eco del ragazzo di Saracena come l'aveva chiamato Edward Frankel una consapevolezza delle strutture stritolanti del potere eppure un dover farsi spazio farsi spazio per realizzare poesia ecco grazie 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 davvero Barbara per questa bellissima relazione e devo dire commovente nel ricordo finale che ha messo in discussione messo in rilievo una serie di temi fondamentali direi forse quello più importante di tutti è quello che queste varie strategie di lettura che Benedetto utilizzava pensare all'autore immaginare all'autore sono tutte strategie per dare senso per leggere il testo come dotato di una enorme densità di senso e di significato e quindi opporsi a qualsiasi lettura che tendeva a svuotare di significato svuotare di senso a pensare alcune parti del testo come non portatrici di un significato e di un senso questo è sicuramente il punto fondamentale che si vede in queste e in altre opere su questo forse posso aggiungere una parola diciamo essere all'altezza degli autori o possiamo dire essere all'altezza dei testi è sempre un compito per tutti gli interpreti della letteratura trovare il significato migliore diciamo elevare anche noi come lettori è sempre un compito difficile però nel caso di Omero è un compito particolarmente importante perché dagli anni 30 in poi il testo è stato veramente svuotato di significato ma anche da parte di persone come Parry che ne soffrivano ecco era proprio una difficoltà reale e non immaginaria nel momento in cui ci si accorge che c'è l'economia formulare per esempio che c'è effettivamente c'è insomma uno la può contare può vedere che c'è direi forse al pubblico se ci sono domande sì per favore mi farebbe piacere grazie sì sì Ottavenskust è l'università di Innsbruck allora credo che la risposta alla domanda perché di Benedetto non si occupi di filologia nel senso di critica del testo l'abbia dato nel 78 a mio padre quando mio padre a questa epoca Reinhard Venskust si occupava soprattutto dell'epoca medievale l'aveva inventato Vincenzo proprio a casa nostra per parlare anche di Omero e Vincenzo disse no Omero è troppo complicato questo era quello che gli aveva detto già Eduard Frenkel e c'è anche in qualche pagina dei suoi ricordi di Eduard Frenkel e poi disse che se io adesso volessi veramente far bene le cose ci metterei 30-40 anni io non so se arrivo quindi alla fine si è semplicemente deciso di tagliare questo nodo gordiano ha detto però l'errore che ha fatto e credo che è veramente un errore avrebbe dovuto dire facciamo finta che abbiamo il testo così come l'ha scritto Omero grazie mille questo è un intervento molto utile che mi dà forse l'opportunità di dire un paio di cose sul fatto che lo studio del testo di Omero sia molto complicato uno sul secondo fatto che ci vogliano almeno 30-40 anni due aveva ragione e dirò di più a costo di sembrare polemica l'edizione di West è stata fatta in fretta e si vede dopo che si è fatto questo lavoro di 30-40 anni si capiscono molte cose molto meglio molto molto meglio sul testo tradito e secondo me il risultato finale è che non si cambia niente nell'edizione allora è un lavoro enorme in cui alla fine non si cambia il testo e per questo c'è un problema a me hanno chiesto dalla OXO di Università di Press hanno chiesto facciamo un nuovo OCT di Omero chi lo vuol fare è una domanda complicata perché un lavoro di 30-40 anni al cui si poi alla fine si arriva probabilmente allo stesso testo vi do un esempio così che mi viene adesso in mente ma se ne possono fare molti ci sono due parole in Omero due epiteti molto simili uno è Areifilos caro ad Ares l'altro è Diifilos caro ad Zeus identici però nel testo tradito scritti pronunciati in maniera diversa cioè Areifilos una parola Diifilos due parole a questa fastidio sta cosa perché dice morfoligicamente sono uguali hanno lo stesso significato la stessa formazione e li stampiamo tutti e due come parole singole solo che una volta che si va a guardare un po' più con calma passando almeno ecco qualche settimana di quei 30-40 anni che bisogna usare ci si accorge che Areifilos vuol dire caro ad Ares ma non di personaggi effettivamente cari ad Ares viene usato per gli Akei soprattutto che non sono cari al dio Ares che invece combatte dalla parte dei Troiani e quindi vuol dire sostanzialmente guerriero è una versione di Areios vuol dire sì warlike una cosa così insomma che ha a che fare con la guerra guerriero mentre di Ifilos è usato di singoli personaggi che sono effettivamente cari a Zeus specialmente Sarpedone Ettore Menelao ed è usato solo una volta al plurale ed è usato per distinguere gli Araldi che effettivamente sono cari a Zeus allora qui abbiamo nella pronuncia dei poemi di Ifilos con l'accento mentre Areifilos è in clitico una lettura di come vengono usate queste due parole che West elide a favore di una diciamo uniformità per uniformare il testo dal punto di vista morfologico ecco questi sono i tipi di lavori che di Benedetto non ha fatto ma che avrebbe molto facilmente potuto fare vista la sua forma mentis e su cui secondo me vale la pena di lavorare non tanto per fare una nuova edizione ma per capire meglio che cosa abbiamo fra le mani come testo e questa è una cosa che lui non aveva tanto capito secondo me io desidero innanzitutto esprimere una profonda gratitudine alla nostra relatrice per quello che ci ha appena detto è la seconda volta a mia notizia che Barbara Graziosi si occupa dell'opera di Benedetto relativa ad Omero e dico volentieri in pubblico che il suo primo intervento la recensione dell'Odissea per la Brimmore Classical Review è un saggio di rara sensibilità e finezza nel cogliere l'implicazione umana che la grande esperienza conclusiva della vita di Vincenzo ha rappresentato nella sua opera intellettuale perché solo chi ha visto il modo in cui il lavoro sull'Odissea è stato costruito in una condizione non confrontabile con quella ordinare degli studi può apprezzare questo punto l'esperienza di una vita che si traduce in studio devo dire che una parte di noi quelli che leggono i libri cominciando dalle prefazioni avevano molto apprezzato anche l'umanità con cui si conclude la prefazione scritta da Barbara Graziosi e da suo marito al sesto di Liliade quell'immagine di un lavoro che viene fatto al piano terra mentre i bambini dormono al piano finalmente si dormono intervengo su tre punti e naturalmente non do risposte ma dico quello che penso il primo punto le ragioni di questo atteggiamento così particolare io per la formazione che ho avuto credo alla diacronia e credo alla diacronia come elemento esplicativo dei fenomeni Vincenzo è arrivato ad Omero dopo aver studiato la tragedia e la lirica mi esprimo in modo sommario molto sommario e soprattutto dopo aver sviluppato in questa sua esperienza di studioso una qualità che a me che ho avuto la fortuna di vivergli accanto per parecchi decenni è parsa sempre una qualità unica una personale memoria poetica che gli serviva per intersecare i diversi livelli dell'analisi Vincenzo leggeva un brano di tragedia e diceva questa situazione si trova anche questa situazione si trova anche ed era non soltanto vero ma serviva a spiegare naturalmente quando si è calato nel mare di Omero la sua navigazione ha trovato un ostacolo perché questo desiderio bisogno dell'impossibile cioè della ricerca dell'intenzionalità nella espressione lo portava o a condizioni aporetiche o a trovare che tutto quello che gli altri avevano detto era sbagliato e purtroppo in questo come in tanti altri casi il terzo non si dava alla parte al corollario della domanda grande la risposta è semplice cioè cosa poteva pensare e cosa effettivamente pensava di una edizione dell'Iliade animata da uno spirito che con aggettivo atopico definirei interventista c'è una categoria che è stata elaborata in queste stanze che è cresciuta poi nel dialogo fra i filologi e che è stata esplicitata soprattutto da Sebastiano Timpanaro la categoria della lo dico con rispetto per chi ha evocato il vallo d'Adriano della anglica adroganzia i i nostri maggiori i nostri maestri avevano un atteggiamento di umiltà nei confronti della tradizione e non ritenevano di affermare la loro esistenza intervenendo continuamente per modificarla questo sul sul primo dei tre punti ho due brevissime notazioni sui gli altri due punti la questione delle ripetizioni e il modo in cui giustamente è stato sottolineato l'intervento relativo a Odisseo nel quinto ovviamente dell'Odissea noi siamo freschi con alcuni dei più piccoli di quelli che sono qui presenti di una lettura scolastica del quinto dell'Odissea in cui abbiamo molto discusso anche di queste note c'è una peculiarità del quinto che Vincenzo coglie meglio di chiunque altro questo canto in cui ci sono sei monologhi Odisseo ne fa quattro persino gli dei abbondano Poseidone due e c'è tuttavia nella espressione nella costruzione del pensiero una scheletricità formulare il verso che introduce i monologhi di Odisseo è ostinatamente uguale a se stesso quattro volte anche se due volte è sceduto da un verso che indica lo sgomento lo sciogliersi delle ginocchia delle membra e poi nell'altro colon indica altre cose e naturalmente per Vincenzo la polisemia funzionale dell'epiteto se posso riassumere una posizione diversa dalla sua costituiva un problema interpretativo perché rigadeva nella prima delle questioni che ho evocato l'epiteto inserito nella formula è polifunzionale nel senso che non ha un significato o l'altro ce li ha tutti e poi naturalmente all'interno nel momento nel micro contesto del verso l'interprete giudicherà quale di queste sfumature il pubblico avrà meglio colto non l'autore avrà meglio pensato e quindi lì i suoi presupposti entrano in difficoltà secondo me terzo e ultimo punto che mi permette di chiudere con la conferma dell'apprezzamento che ho espresso introducendo è assolutamente vero che l'uomo che discuteva del potere che poi era lo stesso che con i suoi più giovani amici o con i meno giovani dei suoi amici si esprimeva in modo critico nei confronti della realtà che lo circondava era non ciò che restava era la sostanza di quel ragazzo che qui era venuto per studiare perché voleva cambiare il mondo e visto i risultati che ha ottenuto con i suoi studi e con i suoi scolari possiamo dire con gioia ci è riuscito grazie su questo si potrebbero dire tante cose ma sarò breve due cose mi sono venute in mente la prima riguarda noi in questa stanza e cioè secondo me quando si ha una lettura importante di un testo importante come abbiamo in questo caso possiamo tutti tutti abbiamo ecco questa possibilità di dare il meglio di noi stessi anche noi se riflettiamo su questo su questo principio in cui Di Benedetto ci aiuta a diventare lettori migliori e dare anche di noi stessi nella lettura di Omero possiamo anche fare una riflessione sulla situazione antica di questo testo una cosa che io non ho capito mai non capirò neanche mai probabilmente è l'accanimento di Cetti nel dire siccome questa è un'opera di grande intenzionalità come voleva dire Di Benedetto di grande valore di enorme intelligenza nell'inscenare rapporti non solo fra personaggi e personaggi ma anche fra poeta e personaggi fra poeta e pubblico c'è questa enorme intelligenza ecco sul rapporto umano diciamo allora deve essere il lavoro di un singolo genio ecco qui non possiamo immaginarci invece un testo che va bene forse parte da una persona ma viene poi così tanto stimato che anche chi poi interviene al rapsodo che poi ci riflette e che poi ce lo dà lo dà al pubblico si accorge che Areifilos e Diifilos vogliono dire cose diverse ci pensa eccetera c'è un modo in cui una tradizione forte può diventare ancora più forte con il contributo di altri ecco questo vorrei dire altri interventi ma ogni volta ogni volta e soprattutto quando reading Romer o Tragedy era trying ad encapsulare un tipo di lesson che è totalmente valid per noi, e credo che è quello che ci fa leggere, perché ciò che ci permette di fare è vedere come questi texti sono relevanti, e credo che hai dimostrato molto bene con il tuo paper Omer. Come facevano a fare i rhapsodi, a ricordarsi tutto, a darlo al pubblico, come faceva il pubblico, tre giorni, io ho paura di dare un paper di 40 minuti perché la gente si stufa, insomma ci sono tante cose che si possono capire sul contesto passato, poi con la letteratura è sempre così, c'è sempre quell'andare fuori e quel tornare poi a noi, ecco leggendo meno ci si accorge che i bambini hanno costruito castelli di sabbia per 3.000 anni, ecco ci sono queste esperienze che poi ritornano, quando facevo il commento a Elia de Sey, c'è uno scoglio, a un certo punto quando Andromaca dice appunto ad Ettore bevi così ti rinforzi, ecco questo commento marginale dice le madri vogliono sempre nutrire i figli, allora io non so chi l'abbia scritto però ecco ci possiamo riconoscere nell'umanità comune ecco in questi commenti marginali. Bene, se non ci sono altri interventi io direi che siamo esattamente in tempo e quindi possiamo fare la nostra pausa caffè e iniziare alle 11 precise fra un quarto d'ora così riusciamo ad avere tempo per le altre relazioni e discussioni, grazie a tutti. Bene, allora cominciamo la seconda parte della nostra mattinata che inizierà con una relazione dedicata ad uno degli altri grandi aspetti dell'attività di ricerca di Vincenzo Di Benedetto, la lirica greca. Abbiamo chiamato a parlarne un grande esperto di questi argomenti come il professor Cingano che insegna, come sapete, a Venezia e che si occupa di molteplici questioni che riguardano direi soprattutto la cultura arcaica, quindi l'epica greca con vari problemi non solo relativi alla critica letteraria ma anche ad esempio la formazione dei grandi corpora, la lirica con opere di vario genere da commenti importanti come quello delle pitiche, cioè alcune delle pitiche della valla, ha moltissimi lavori che vanno dall'interpretazione letteraria a questioni ancora più complesse che vanno dal genere letterario a problemi di performance e anche in collegamento con le tradizioni locali, cosa molto importante e interessante e vari aspetti legati al mito e alla biografia, quindi interessi molto estesi e naturalmente poi anche una grande attività di diffusione e discussione della cultura con i suoi seminari internazionali organizzati all'Università di Venezia da cui hanno partecipato anche alcuni dei nostri giovani, quindi lo ringraziamo di aver accolto il nostro invito e gli diamo volentierissimo la parola. Grazie, sono io che ringrazio Chiara e Luigi per avermi dato l'occasione di venire qui e di risolvere un debito di affetto che ho nei confronti di Benedetto anche se come tutti sanno non sono stato in contatto così intenso con lui e anche come ha detto Barbara in precedenza proprio per questo sono interessato a vedere se alcune esplorazioni biografiche che faccio trovano conferma nelle persone che l'hanno intensamente frequentato in seminari, corsi e lezioni. Lo studio della lirica greca di Vincenzo di Benedetto è stato certo intenso e appassionato in particolare per quanto riguarda Saffo ma non continuativo con regolarità né sistematico massicciamente come nel caso della poesia epica e tragica e risulta difficile per chi come il sottoscritto è stato estraneo al suo insegnamento pisane o al suo itinerario intellettuale delineare un percorso motivato, ovvero perché si è andato a scegliere determinati autori, determinati frammenti. In alcuni casi è evidente l'interesse immediato per un nuovo ritrovamento papiraccio come nel caso della nuova Saffo pubblicata nel 2004 e in generale prevale l'interesse per testi lirici tramandati su papiro un campo nel quale il suo cum e la sua competenza filologica a tutto campo potevano esercitarsi offrendo risultati innovativi. Mi stupisce appunto da Estraneo che la sua acribia, dato lo stimolo che gli è venuto dalla nuova Saffo, non si sia esercitata anche sul nuovo archiloco, il Pioxi 4708, l'elegia di archiloco su telefono, ma penso che in questo caso sia possibile azzardare una spiegazione, proprio perché quasi in contemporanea veniva pubblicato nel 2004 sulla ZPE il papiro appunto di Colonia e di Saffo che integrava Pioxi 1787, con grandi novità non solo sul piano del contenuto ma anche su quello della storia del testo di Saffo. Si può aggiungere del resto che Di Benedetto non aveva lavorato neanche sull'archiloco di Colonia, il cosiddetto Last Tanguy in Paris, pubblicato nel 1974, quindi 30 anni prima, da McEvac e West, e lo stesso vale per l'altro importante scoperta papiracea lirica di quegli anni, il papiro di Lille di Stesicolo, frammento 222b Davis, che pure suscitò contributi di vari studiosi italiani anche in ambito pisano, franco maltomini e italiano, Riccardelli, Tosi, Galavotti, Barigazzi e Gargiulo. Non è con Saffo tuttavia che dobbiamo iniziare in una prospettiva vagamente cronologica una comunicazione sulla lirica greca degli studi di Di Benedetto, ma con il suo conterraneo Alceo, al quale Di Benedetto dedicò il suo primo saggio quando era solo uno studente 21enne nel 1955, Pittaco e Alceo, pubblicato nella Parola del Passato. In questo lungo saggio, il non elevato rango sociale di Pittaco era attribuito all'origine traccia della madre cortigiana, mentre veniva rivendicato il rango nobile e greco del padre. Per sostenere questa tesi, Di Benedetto sosteneva contro la Comunis Opinio e anche contro l'evidenza del primo epigramma di Callimaco e fondandosi sulla voce Hugh Radius in esicchio, che il padre di Pittaco non si chiamasse Hugh Rass, né fosse di origine traccia. Nei patronimici, o quelli che sono considerati dalla maggioranza degli studiosi, patronimici ton Hugh Raon Pai da Hugh Radius, egli vedeva piuttosto un epiteto denigrativo equivalente a Bastardo, fondandosi appunto sull'autorità di esicchio alla voce Hugh Radius. Bastardo quindi, un'ipotesi considerata paguitù plausible da Gautier Liberman nella sua ottima edizione di Alceo, senza peraltro fornire spiegazioni. Il nome greco del padre, Di Benedetto, costruiva un'ampia prospettiva storica nella quale per rivoluzionare lo stato delle cose doveva fondarsi su due elementi, agire su due elementi, sganciare il patronimico, il radios dal valore comunemente attribuito e trovare un padre a Pittaco. E questo padre trovava in Archeanate, Archeanax, che deduceva dal frammento 112, un frammento papiraccio di Berlino, dove uno scoglio marginale al lacunoso Rigo 24 glossa con Fittacos il termine Archeanactidan, che potrebbe essere sia accusativo singolare che genitivo plurale. Di Benedetto, per eliminare, devo aggiungere, il radios come patronimico, aggiungeva, faceva una delle osservazioni linguistiche che lo hanno reso famoso, che i patronimici in adios non sono mai esistiti in Grecia. Quindi questa duplice ipotesi, il radios non è un patronimico, ma indica semplicemente l'origine umile di Pittaco e il nuovo nome del padre di Pittaco, che era appunto Archeanax, doveva fare i conti con problemi sostanziali. Era sostenuta, come sempre, in futuro, già allora, dal 21enne di Benedetto, con molta forza. Non è stata generalmente accettata, in particolare per la totale assenza dei legami di Pittaco, di suo padre, con gli Archeanattidi. Così, ad esempio, sosteneva Page in Saffron al Sius nel 1955. Purtroppo il volume di Page, Saffron al Sius, usciva in contemporanea, quasi, nello stesso anno, con il lungo saggio di Benedetto. E quindi non assistiamo alla interazione tra i due grandi studiosi su questo tema. Rimane da dire che l'unico modo, tuttavia, per rifutare l'identificazione di Archeanax con Pittaco, nel rigo 24 del frammento 112, è presupporre che il nome Pittaco, glossato dallo scoglio, si riferisse all'altro termine mancante nella lacuna, nel margine sinistro, e disgiunto da Archeanattidan, ovvero, in questo piccolo excursus dove venivano fatti i nomi delle grandi famiglie di lesbo in perenne lotta tra loro, nella lacuna, prima di E. Archeanattidon, Dils, ad esempio, suppliva con E. Tinaton Hurradion. Questa era la via seguita anche da Page, ma c'è da dire una cosa trascurata dagli studiosi successivi, e cioè che Page, pur accettando la congettura, il supplemento di Dils, e quindi scindendo l'identificazione del padre di Pittaco con Archeanatte, notava, come fosse sorprendente, che Archeanattidan fosse il solo dei tre nomi che non venisse spiegato, glossato dallo scoglio, perché gli altri nomi nel testo erano Cleanactidan, che veniva identificato dallo scoglio con Myrcilon, il supplito Ton Iuradion, glossato a questo punto con Fittacos, appunto, e quindi il nome Archeanactidan non rimaneva libero da qualsiasi glossa, e questo in effetti è un fatto curioso, lo sarebbe anche, ovviamente, se non fosse glossato Iuradion, ma comunque va aggiunto che questa rimane una aporia nella tesi di chi vuole rifutare l'interpretazione di Benedetto. E del resto, una delle ultime versioni che sono occupate estesamente degli scoli a questi frammenti, Antonietta Porro, nell'edizione del Corpus dei Papiri, è possibilista su questa possibilità. Un'altra arma sulla quale di Benedetto si fondava era la contestazione dell'uso dell'articolo davanti ai due nomi propri, Ton Iuradion, Ton Clenactidan, e questa dell'uso, della pertinenza o meno dell'articolo nel dialetto lesbio è un argomento che di Benedetto nei suoi saggi sulla poesia di Saffo usa molto frequentemente come elemento di rimente dell'interpretazione di qualche frammento. Colpiscono in questo lavoro, data la giovane età, l'argomentare già perfettamente accademico, il rigore filologico, la capacità di individuare problemi irrisolti nelle lacune del testo e nelle ricostruzioni degli altri studiosi e di fornire sia complesse proposte alternative che si distinguono per originalità e direi per audacia, abbiamo visto, data l'età del proponente, sia integrazioni e supplementi, quali ad esempio di astante nel verso il duale non attestato nel verso contenuto nel commento di Epioxi 2306 ovvero il frammento 305a al verso 22 dove il verso integrato recita ostis damme di astante thelei chiunque voglia nel momento in cui noi siamo l'uno opposto all'altro. Di astante è ad esempio accettato, accolto nel testo da Lieberman e sembra essere stato proposto indipendentemente anche da Bruno Snell che è solo citato in apparato peraltro da Foggia che non accetta di astante nel testo. Quindi anche in questa produzione giovanile emerge la capacità di integrare. In questo testo di Benedetto già dialoga alla pari si può dire con la generazione precedente alla sua delle grandi personalità anche italiane di storici e filologi nati nei primi del secolo. Carlo Galavotti e Santo Mazzarino i quali si erano appunto cimentati con le recenti scoperte papiracce relative ai carmi politici di Alceo. Le complesse genealogie interne alla famiglia delle Alcedi e quelle di Tirano di Lesbo, Aessa Ostili, Pitta, Comisilo eccetera vengono scavate dal testo e restituite all'attenzione e all'interpretazione del lettore in una prospettiva essenzialmente storica. Devo dire quanto alla lingua al modus di esporre di Benedetto non ho trovato una sostanziale differenza rispetto agli e i saggi di epoca più tarda e questo è un elemento che mi ha effettivamente colpito. In questo saggio di Benedetto dubitava anche dell'esistenza di un secondo fratello di Alceo oltre ad Antimenidas, Chichis, attestato solo di una fonte è ovvero dall'essico di Cirillo del frammento 414. Per aggiornare i suoi dubbi bisogna dire che la scoperta recente di Chichis, quale è il nome del padre di Alceo, in due epigrammi, un epigramma sui nove lirici greci emendato dalla Barb nel 68 e in un epigramma dell'antologia palatina secondo congettura di Lenus restituisce plausibilità al nome di Chichis. Viene da chiedersi già dopo la lettura di questo articolo per quali rami di Benedetto si sia interessato allo studio della lirica greca. Se gli influssi di Edward Frenkel sono evidenti nel suo vivo interesse per la tragedia riesce più difficile individuare dove e come abbiamo imparato l'arte di interpretare la lirica. Le tracce di possibili influenze italiane o straniere sono tenue. A Pisa, sappiamo, insegnava Peretti e il volume di Teognide di Peretti uscì nel 1953 quindi pochi anni prima della pubblicazione di questo articolo ma non si può certo definire Peretti uno studioso di lirica. Di Benedetto peraltro riconosce di dovergli l'apprendimento di un metodo di lavoro in uno dei contributi su Dionisio Trace pubblicato nella preziosa raccolta in quattro volumi. Quindi riconosce un debito che non può peraltro essere quello relativo alla lirica. E anche l'estesa conoscenza in dubbia della lirica greca in Edward Frenkel che funse da maestro e da guida al giovane Di Benedetto a Pisa e a Oxford trapela nel volume Horace ovviamente pubblicato negli anni giovanili di Di Benedetto nel 1957 e nelle lezioni tenute all'università di Bari nel 67. Peraltro le pubblicazioni di Frenkel sulla lirica sono assolutamente scarse. La sua formazione sulla lirica greca mi sembra di poter dire che fu essenzialmente autodidatta o meglio trovò nella carta stampata maestri indiretti. Essa risale addirittura agli anni dell'adolescenza come apprendiamo dalle vive parole dello stesso Di Benedetto in una pagina di ricordi pubblicata nel 2001 su Lexis che costituisce un vero e proprio stream of consciousness nel quale come in un gioco di scatole cinesi strati dell'infanzia e dell'adolescenza rivivono attraverso le vocazioni di dettagli prustiani tanto remoti quanto nitidi e significativi. Galeotta nell'incontro con la lirica greca fu l'antologia della lirica greca arcaica Polinia pubblicata da Bruno Gentili e Gennaro Perrotta nel 48. Di Benedetto rievoca con dovizie di particolare e con affetto l'impatto e l'importanza che ebbero su di lui la scoperta di quel volume verso la fine del 1950. Sorprende quasi in chi lo abbia conosciuto se si pensa anche ad aspre polemiche da lui sostenute contro molti studiosi e relativamente all'oralistica come ha ricordato Barbara anche con Gentili in epoca più tarda sorprende dicevo il sincero insistito riconoscimento da lui tributato alla competenza alla lungimiranza metodologica e al valore innovativo che i due autori un Gentili poco più che trentenne e il suo maestro Perrotta nato nel 900 avevano profuso nel volume cito l'inizio è folgorante di questo ricordo sarà stato il dicembre del 1950 avevo 16 anni e a Castrovillari ero nel negozio di La Regina in Corso Garibaldi una cartoleria che vendeva anche giocattoli poi continua Polini era veramente un libro bello qualcosa di incomparabile rispetto a libri stampati nel primissimo dopoguerra mi colpì anche un'altra cosa più importante erano quelle sequenze di lunghe e brevi che avevano pari dignità grafica rispetto ai caratteri del testo e apparivano bene in evidenza successivamente un giorno dopo l'altro cominciai ad acquisire nuove conoscenze sotto la guida di Perrotta e Gentili uscivo dalla soggezione dell'esametro e del distico elegiaco attraverso i lirici greci scoprì il valore dell'attualità della letteratura del passato e parlo di Polinia perché ho un debito di riconoscenza verso questo libro e verso i suoi autori Polini è stato per me un libro straordinariamente importante che è stato determinante per la mia formazione filologica e letteraria non meno importante della metrica si è rivelato per me l'aspetto più popiamente filologico il testo veniva mostrato come in fieri mi fermo qui ma devo dire che continua sempre con questo profondo riconoscimento nei riguardi di questo volume e ovviamente dei suoi autori e non sarà un caso immagino se il primo articolo su Saffo di Benedetto l'ha pubblicato proprio nei quadri anurbinati di cultura classica fondato diretto da Bruno Gentili come si vede nelle coordinate qui prospettate metriche integrazioni dei testi lacunosi attenziano allo stile capacità di ricavare il massimo di analisi di informazione nello studio del dettaglio ritroviamo la combinazione di elementi che formano l'arte interpretativa di Di Benedetto ed essa trova l'oggetto di studio ideale nell'ambito della lirica nei densi ma lacunosi lacerti di Saffo va detto subito che i risultati raggiunti nell'interpretazione di molti frammenti di Saffo si sostanziano nella straordinaria competenza e familiarità di Di Benedetto con testi antichi assolutamente centrici alla lirica e alla letteratura greca in senso classico e di conseguenza non troppo frequentati come vedremo tra poco nel 1987 parlo del saggio generale su Saffo l'introduzione al volume appunto uscito per la Bur con la cura di Franco Ferrari la lunga introduzione è opera di Di Benedetto ed è fondamentale per apprezzare sulla lunga distanza la capacità di mediazione tra erudizione e penetrazione filologica e profondità di analisi da un lato e dall'altro di una capacità divulgativa che Di Benedetto aveva affinato nel corso degli anni con le numerose introduzioni e note a varie tragedie greche è un'introduzione che penso affascine anche lo studenze del liceo classico che prende in mano il volume anche se non si presenta a ben vedere come un'introduzione generale e progressiva all'opera di Saffo gli acceni biografici e sulla produzione poetica sono affidati alla premessa al testo di Ferrari che segue l'introduzione Di Benedetto entra in effetti subito in media stress sin dalla prima pagina con il sotto capitolo Eros come nevrosi e sofferenza al quale ne seguono altri di pare tensione e approfondimento e densità narrativa non vi è direi alcuna concessione a un'impostazione tradizionale dove si procede passo per passo nella conoscenza di un autore la forte tensione estetica emotiva della poesia di Saffo e il convolgimento che esige dal lettore hanno buon gioco nell'agevolare la comprensione di pagine pur difficili perché provenienti in parte dagli studi precedenti pubblicati in riviste specializzate il lettore è introdotto contemporaneamente nel mondo poetico ed espressivo di Saffo e nel calidoscopio delle sue nevrosi e degli eccessi di gelosia trepidazione eccetera causati dalla forza di Eros non vi è negli studi saffici di Di Benedetto una dimensione antropologica vera e propria o meglio essa emerge in filigrana da una sottile analisi filologica e psicologica che rivela la dimensione e la profondità del Tiaso e la scansione dei rapporti interpersonali nella lesbo arcaica per il quadro del Tiaso e altre introspezioni sociologiche di Benedetto si limita a rinviare solitamente a gentili a poesie pubblico e saggi precedenti il primo contributo saffico appare come ho detto nei quadri inurbinati nel 1973 il volo di Afrodite in Omero e Saffo individua in Iliade 5.367 e seguenti il modello del verso 13 dell'ode ad Afrodite dove i passeri di Afrodite scendono veloci sulla terra come corteo della Dea che corre in soccorso di Saffo anche in Omero il contesto è riferito ad Afrodite ferita da Diomede e consolata dalla madre Dione di Benedetto mette bene in luce l'intenzione di Saffo di presentare una situazione che attraverso un gioco di allusione e riminiscenze costituisce un rovesciamento dell'offerta dell'offesa di Afrodite prospettandosi come rivincita offesa volo del cocchio consolazione inversione di movimento cielo terra terra cielo di un poema rispetto all'altro sono i motivi unificanti dei passi e possiamo quasi dire che gli schemi grafici che evidenziano nell'articolo le corrispondenze sono anche in linea con lo zeitgeist struttularista dei primi anni 70 dei contributi al testo di Saffo usciti nella rivista di filologia e istruzione classica dell'82 irrompe l'abilità e la passione per l'integrazione che è quasi sempre preceduta da un'impeccabile e meticolosa premessa di metodo atto a preparare il terreno per le proposte la proposta per il frammento 5 e 10 12 sono contrate diciamo dalla recente pubblicazione di integrazioni papirace di un papiro proveniente dalla Green Collection ma per il frammento 57 di Saffo ad esempio che consiste di due citazioni di tre versi fuse da Blomfield due secoli fa e che dove occorre due volte la parola agroiotis Di Benedetto opta per la necessità di rendere indipendente un frammento dall'altro per ragioni metriche l'impossibilità di avere dei poeti di lesbo a scrivere i maggiori associati ad altri cola all'ode ad Afrodite Di Benedetto torna con un'altra emendazione del testo tradito sempre nella rivista di filologia e istituzione classica ai versi 18 e 20 dove un'incalzante progressione di argomenti e di fini osservazioni linguistiche determina quasi spontaneamente la scelta della unica soluzione che cito conciglia il dato della tradizione diretta con quello della tradizione indiretta ovvero Pioxi 2288 con il codice P di Dionigi di Alicarnasso i versi precedenti la famosa domanda di Afrodita Safotis o Safa di Kei sono emendati in Tina Deut Peithom dove Di Benedetto recupera in elisione la di Peithom nel codice di Dionigi dell'Icarnasso Aps Agende San Filottata chi di nuovo devi convincere a condurre indietro per il tuo amore la proposta in tempi recenti è stata accolta in apparato da Hutchinson il quale tuttavia muta Peithom in Peithis anni dopo Di Benedetto pubblica due articoli in 1985 su Safo di grande importanza sui quadri inurbinati e su Hermes in quest'ultimo intorno al linguaggio erotico di Safo sono grato agli organizzatori di questa giornata perché invitandomi a parlare mi hanno offerto l'occasione di un puro divertimento intellettuale con la rilettura di questo saggio per la finezza delle osservazioni e la progressione del ragionamento l'inesauribile messe di confronti che propone contesti di molti ambiti e culture altre testi medici egiziani accadici e la letteratura medica greca che gli permette di raffrontare e integrare quanto a paralleli e spiegazione dei sintomi i versi 9, 10 e 11, 12 dell'Ode appunto Finetai Moikeno Sisosteoisin quando interpreta contestualizzandoli il fuoco sottile che come sotto la pelle che corre sotto la pelle e gli occhi che nulla vedono e rombano le orecchie il contesto del poema si amplia ed emerge nella descrizione dei sintomi di Saffo uno stretto parallelismo tra lingua quotidiana e linguaggio medico della Grecia arcaica che adesso attingeva ma sottili corrispondenze interne al testo emergono anche tra il dolce parlare della ragazza e il non parlare di Saffo espressi dallo stesso verbo fonais fonais viene quindi messo in evidenza cito il delicato equilibrio tra aggettivo e tra soggettivo e oggettivo tra lirica e modulo medico un punto non mi convince completamente e riguarda il parallelismo tra la frase finale del poema con l'avversativo alla pan tolmaton che appare anche nel frammento 58 sulla vecchiaia alla il poema della vecchiaia dove si legge alla tiken poien dopo la constatazione del decadimento fisico Saffo dice ma cosa ci posso fare e di Benedetto traccia un parallelismo con il famoso frammento elegiaco di Archiloco a Pericle dove la situazione di lutto assoluto e tristezza viene risolta nel corso del frammento da due bruschi inserimenti appunto di Allah in fine diverso alla tachista i quali appunto prospettano un rovesciamento di situazione non sono d'accordo perché laddove nel caso dei due frammenti di Saffo questo inserimento di Allah ha un valore a mio modo di vedere puramente consolatorio in Archiloco assistiamo a un passaggio più risolutivo da una riflessione dolorosa a un'azione diversa che probabilmente si risolve nel simposio cioè Archiloco non si limita a consolarsi come nel primo Allah del fatto che questi sono mali inviati dagli dèi ma nel versi 9 e 10 invita proprio a sbarazzarsi di questo lutto e di procedere ad altro probabilmente appunto al simposio in alcuni casi la tensione verso Omero risulta forse eccessiva ai miei occhi e si trasferisce in un presupposto di dialogo di distanza tra poeti che forse si conoscevano si leggevano e qui tocchiamo un problema che è emerso in filigrana anche nella relazione precedente cioè il problema del rapporto tra realità scrittura determina nel caso della lirica altri problemi correlati ovvero il problema della lettura o della memorizzazione di questi testi da parte di questi poeti e in seconda da tutti il problema è la trasmissione e circolazione di questi testi in alcuni casi di Benedetto proprio per questa sua totalizzante passione per la lettura e per questa necessità di credere che di leggere e di interpretare quasi con un senso di horror vacui questi testi immagina rapporti ma di vedere fin troppo stretti tra alcuni di questi autori così ad esempio Pindaro avrebbe sovrapposto nella Pitica Quarta la riminiscenza di più passi di Saffo in un verso e secondo di Benedetto l'uso del verbo doneoi ricorda Saffo il frammento 130 famoso eros deutimo lusimeles donei glucupicron amacaton orpeton ora il passo di Pindaro questo uso di Afrodite di un richiamo erotico in realtà occorre in un contesto mitico narrativo e scorre via senza nessuna allusione di questo tipo quindi in alcuni casi si pone secondo me il problema di una sovralettura ovvero se l'oralità omerica svuota di significato nei decenni precedenti l'interpretazione del testo il compito di Benedetto a volte in campo lirico è quello di sovraccaricare caricare ogni parola di un significato pieno creando un gioco di relazioni di dialogo interno continuo dei poeti tra loro così ad esempio nel caso del Ode nella vecchiaia il confronto con il frammento 7 di Mimnermo porta di Benedetto a dire che non esclude l'idea di una correzione della visione ultra pessimistica di Mimnermo di una correzione intenzionale da parte di Saffo nella affermazione del tetrastico finale sul fatto che vede e apprezza la luce del sole e quindi qui siamo ovviamente in un campo dove ogni studioso può avere una sensibilità diversa io credo che questa prospettiva di Benedetto vada ricollegata e contestualizzata anche nello spirito del tempo la stessa tensione estrema nei confronti di questi testi e quindi la tendenza in alcuni casi a caricare ogni parola di un valore fino eccessivo e di immaginare un dialogo continuo tra questi autori ritrova ad esempio nelle lunghe discussioni che avevo con Bruno Gentili sull'interpretazione degli scoli o anche di questi autori nel saggio appunto sulla vecchiaia di Benedetto mostra una qualche preveggenza perché nel 1985 pubblica questo saggio sul frammento 58 di Saffo che verrà poi integrato dalla pubblicazione del papiro di Colonia nel 2004 a cura di Gronewald e Daniel un saggio quello del 1985 molto apprezzato anche da West e riemerge anche qui un dialogo l'arroganza diciamo britannica non si esprimeva nei riguardi di Benedetto perché abbiamo visto da un lato la sua o sappiamo grazie anche alla ricostruzione di Ferrari del soggiorno di Benedetto a Oxford grazie a Frenkel ma di Benedetto è sempre un interlocutore estremamente stimato da Martin West negli studi su Saffo e vorrei anche sottolineare che correva un qualche filo comune tra di Benedetto allievo di Frenkel a Pisa e un altro allievo di Frenkel a Oxford Oliver Taplin in alcune prospettive di interpretazione della tragedia io ritrovo dei fili comuni che a distanza e l'uno probabilmente non a conoscenza dell'altro possono essere ritrovati scusate sto cercando perché mi accorgo che sono andato molto fuori tempo ma in realtà parecchie cose da dire se come se nel lungo articolo iniziale su Alceo emergeva un interesse fortemente storico per il sostrato di lesbo arcaica e le lotte tra eterie clan aristocratici nell'analisi dei frammenti di Saffo prende piede un'impostazione più marcatamente letteraria ferma restando la solida griglia filologica affiore il grande interlocutore alle spalle di Saffo Omero nel continuo confronto tradizione epica e riuso lirico Di Benedetto utilizza il confronto e lo scarto tra le due lingue e dei generi per esplorare il mondo di Saffo per addentrarsi nell'articolazione dei sentimenti nel fibrillare dell'animo negli intensi o ed estenuati rapporti con i fanciulli di varia provenienza che le ruotano intorno per poi allontanarsi senza mai essere dimenticate per essere anzi recuperate nella dimensione della memoria tanto approfondita l'analisi di Di Benedetto di molti frammenti che a volte si sembra celare tensioni insite anche nell'animo di Di Benedetto l'estrema appassionale tensione dell'autore verso l'oggetto del proprio studio non si tratta però a mio avviso di vero e proprio amore per Saffo perché la stessa impressione in effetti si raggiunge leggendo anche gli schizzi di Di Benedetto su Omero e sulla tragedia ed è quindi il suo un amore totale per i poeti greci tragici lirici per Omero non ispirato esclusivamente direi dalle vette raggiunte da Saffo il rapporto quindi di Di Benedetto è un rapporto assolutamente totalizzante ed è questa chiave di lettura che lo porta a leggere come dicevo il testo molto in alcuni casi forse fin troppo da vicino in alcuni di questi assunti che gli fa vedo il rischio e pongo questo punto non come critica di Benedetto ma come punto di riflessione per indagini future il rischio che gli stilemi i rovesciamenti intenzionali le riprese variate che aveva ad esempio evidenziato molto bene nel primo articolo su Saffo il dialogo incessante tra poeti possano creare una griglia che imprigiona un corpo di testi in cui tu se tiens e si tende a considerare che l'intero corpus della letteratura greca prodotto in passato coincida con più o meno il 10% che è giunto finora a noi e con il quale ci misuriamo forse annattamente analogamente le sosservazioni sull'ampo l'ampros usati nelle lire in due occasioni fondamentali ovvero rendere il luccichio degli astri ed esprime il fulgore delle armi vengono confrontate con la novità l'innovazione rappresentata dall'innumerico ad afrodite dove elampeto illumina il petto della dea e ovviamente il lampron amaricman prosoppo del frammento 16 dobbiamo riconoscere che si tratta anche però di diverse categorie di pensiero di sferi di pertinenza diverse il problema che pongo è quello peraltro già sollevato e che è stato uno degli elementi di critica al saggio di Bruno Snell del 41 sul risveglio sulla scoperta dell'io nella lirica greca è quello di campi e di azione di espressioni diverse che possono essere convissuti tra un genere e l'altro che però proprio la diversa pertinenza di genere quindi diversi argomenti trattati possono aver impedito lo esprimo con un esempio molto chiaro questo mio dubbio prendiamo il primo testo più o meno di cui abbiamo conoscenza nella letteratura greca e cioè CEG 432 l'iscrizione del dipion è un solo verso di perfetta edizione epica in cui tutto concide con la edizione omerica quindi è un verso che esprime la competenza e il flusso dell'epos già nel 740-30 avanti Cristo una sola eccezione atalottata superlativo di atalos hapax in tutta la letteratura greca che non si trova ovviamente neanche nel testo di Omero ora come interpretare questo superlativo come una competente e intenzionale deviazione del goffo scriba peraltro sul o inocue come errore quasi improvvisazione non voluta o come pertinenza al grande flusso di una tradizione epica che noi conosciamo solo in parte attraverso la selezione del testo di Omero ecco questo problema che appunto io isolo sull'iscrizione del Dipulon si pone quando vediamo di Benedetto come molti altri studiosi trattare questi testi come se appartenessero a un unico sistema e ci fosse un dialogo possibile solo all'interno di questi testi e questa sua interpretazione si rivolge anche alla interpretazione che dà dei paralleli che trova a volte in in Saffo ovviamente mentre io credo che in alcuni casi non si possa identificare in un solo testo come calco come riuso consapevole il caso ad esempio di quanto di Benedetto dice sul nesso hoss hoss nel frammento 31 ovvero il frammento della gelosia quando Saffo dice hossgar è sido come io ti vedo con la correlazione tra i due hossi il primo temporale e il secondo modale e di Benedetto individua il preciso parallelo in Iliede 14 294 la seduzione di Zeus da parte di Hera in cui Zeus come si ritrova davanti la splendida moglie dice appunto hoss di den hoss min e ross è un nesso in effetti molto raro e di Benedetto è sempre precisissimo nell'identificare individuare con una griglia di evidenza quello che è il possibile modulo epico nel riuso della poesia di Saffo in questo caso tuttavia se andiamo a vedere e troviamo sì un contesto vagamente erotico ma un contesto vagamente erotico che però produce esiti opposti quindi o entriamo nell'idea di rovesciamento intenzionale riprogrammato eccetera di Saffo quindi di distacco consapevole a ogni singola istanza da Omero oppure possiamo inserire questa correlazione rara hos hos in altri testi omerici dove quello che conta è che in tutti questi testi in realtà questa doppia questa correlazione esprime sempre l'atto del vedere e la conseguente profonda reazione di paura di timore di mancamento di eccitazione di ira holos che viene espressa nel soggetto che vede quindi anche in questo caso forse bisogna allargare questa prospettiva e devo dire che è tuttavia difficile fare i conti con di Benedetto perché ovunque ad esempio nel frammento 95 lo troviamo alla menzione di lotto e rugiada trova l'unico passo di Omero in cui questo occorre e ancora una volta ci si deve chiedere se effettivamente è ripreso intenzionale dell'unico passo di Omero da parte di Safo in cui i due termini occorrono insieme e ancora una volta il quattordicesimo dell'Iliade e quindi questo crea un microsistema di riferimenti o se invece sia occasionale e l'associazione di lotto e rugiada arrivasse anche da altre possibilità quindi in sostanza riguardo a questo sterminato contributo sterminato in termini di intensità più che di quantità di produzione se paragonato a quello che ha detto nel campo della tragedia e dell'epica se l'idea di riuso omerico si debba attenuare pensando piuttosto al grande fiume della tradizione epica e rapporto anche diretto di lesbo con trova di Anatolia anche in termini letterari come ad esempio evidenziato Martin West in un bel saggio del 2002 A View from Lesbos in cui sottolinea che ad esempio il modello del frammento 44 di Alceo sul dialogo tra Zeus e Teti potrebbe essere non effettivamente il primo dell'Iliade ma un canto simile epico ovviamente per noi scomparso che comunque pertiene a un'altra tradizione assolutamente familiare e questi sono elementi diciamo che mi fanno pensare e che ovviamente mostrano la ricchezza delle riflessioni che vengono dalla lettura anche di una sola pagina di quello che ha scritto di Benedetto e io avevo tutta una raccolta di pagine sue che volevo di pagine di frasi sue che volevo leggere ma non manca il tempo volevo tornare adesso a Saffo e i discepoli a lui vicini sapranno chiarire forse se ne interessa per il poema della vecchiaia uno dei pochi integri a seguito del papiro di Colonia vi è sede a rivedere un impulso autobiografico maturato con il passare degli anni o meno in ogni caso il l'acume di Benedetto viene fuori quando appunto appare il papiro di Colonia e molte delle riflessioni che Di Benedetto aveva fatto si rivelano giuste l'integrazione del testo dei due papiri permette ad esempio di vedere che l'idea di Benedetto che il nome di Titono corresse verso la metà del frammento effettivamente era un'idea centrata permette di dare anche valore al Deo Positivo che leggeva mi sembra voleva leggere contro il Men di Snell al verso 3 e anche quest'uso delle particelle rivela l'eccezionale competenza che Di Benedetto aveva sulla lingua greca io penso ho sempre pensato devo dire da anni che fosse il grecista con la maggiore sensibilità per la lingua e la maggiore conoscenza dei problemi della lingua insieme a Enzo De Gani in quella generazione di filologi e la pubblicazione del papiro di Colonia porta anche delle conseguenze e cioè quello che nell'85 Di Benedetto aveva integrato il tetrastilo in cui appare appunto l'elogio della luce del sole si rivela con buona pace degli editori Gronewald e Daniel che ancora credono a quell'idea si rivela in realtà l'inizio di un poema indipendente e Di Benedetto riconosce senza il minimo problema con grande onestà intellettuale che la sua adesione all'idea che quel poema fosse in realtà più lungo era sbagliato e dice anche una frase simpatica i versi con i quali generalmente si riteneva che continuassero i 12 versi precedenti del Carmen della Vecchiaia il papiro di Colonia ha chiarito le cose il quadro dei disagi indotti dalla Vecchiaia ha acquisito maggiore consistenza e maggiore impatto per converso l'evocazione di un atteggiamento di sofferta e accurata rassegnazione si è concettualmente rafforzata quindi già riusciva a ridisegnare il profilo stilistico dell'ode messo di fronte allo stacco di questi versi da quelli precedenti dopo la confessione del pianto della descrizione così forte si capisce che Saffo si potesse attestare in un atteggiamento di accurata rassegnazione ma che ci fosse un ulteriore sviluppo nel senso di non proiettarsi verso una prospettiva gratificante il bello la luce la raffinatezza non sembra credibile un carme di Saffo non era una telenovela quindi nel momento in cui molte delle sue congetture o delle sue divinazioni vengono confermate dal papiro e se non sono confermate vengono comunque come supplementi alcune di esse accettate in pieno da West nell'articolo 2005 sulla ZPE Di Benedetto è pronto diciamo a riprendere posizione riconoscendo che la sua interpretazione precedente era viziata ora permettetemi devo concludere credo non ho parlato di altri saggi di Benedetto che erano tanti c'è un saggio di cui valeva la pena però di parlare è quella sua congettura quel suo ammendamento al verso 34 delle leggende di Muse di Solone dove il testo a Kai Denen corrotto e Di Benedetto in modo molto convincente propone di leggere quel Denen di di trasformarlo e di conseguenza scusate volevo ritrovarlo qui per non sì si diciamo non inventa ma sulla base dell'evidenza epigrafica a partire però dal quarto secolo avanti Cristo trova una forma di infinito ein ionico che in realtà supplisce ben supplisce quel verbo che manca nel testo e ovviamente di leggere proprio il rigore linguistico nel quale Di Benedetto anche lì quasi presagisce l'importanza presagisce tutta una tradizione euboica ricommissione ionico euboico eccetera che giustificherebbe una forma nella poesia arcaica ein anche se non attestata e in effetti l'anno successivo Franco Maltomi negli studi classici orientari dell'83 faceva gentilmente notare a Di Benedetto come in realtà da poco quella forma fosse attestata nella gerinaria estesicola SLG 15 colonna 1 verso 7 in cui si trova Poliucerdion ein e quindi veniva gentilmente fornita a Di Benedetto su un piatto d'argento la evidenza diciamo linguistica di quello che aveva divinato per conto suo anche se poi West rimane fedele a un eurein nel testo senza forse non era conoscenza di quella di quell'articolo di Benedetto vorrei concludere con un ricordo personale dovendo chiudere chi può anche introdurre la sezione riguardante la tragedia greca di cui parlare a Susan Saeed come molti sanno i miei rapporti con Di Benedetto sono stati sporadici quasi sempre a distanza quando ci incontravamo parlavamo anche di politica ci agitavano e sostenevano allora più illusioni sulla possibilità di cambiare qualcosa nel paese e anche su questione di etica della politica discutevamo con passione e concordia di vedute ma oltre al tono appassionato di queste discussioni il ricordo più intenso che porto dentro è legato al modo etico nel quale Di Benedetto viveva appunto la sua vita di filologo e letterato nel corso di un convegno su Sofocle tenutosi all'Università di Verona nel 2002 Di Benedetto tenne una comunicazione su spazio scenico e spazio extrascenico alla fine delle tragedie di Sofocle successivamente pubblicata negli atti del convegno manca tuttavia comprensibilmente in quella pagina un pensiero non è registrato un lampo che mi colpì profondamente e si ricollega come date come Stimmung ai frammenti memoriali pubblicati su Lexis prima di iniziare a leggere il suo testo in quell'occasione Di Benedetto borbottò quasi a se stesso come riflessione personale una frase che recita cito Sofocle ci insegna a vivere e qualche volta ci insegna anche a morire grazie Molte grazie al professor Cingano per questa bellissima e densa relazione dove sono emersi moltissimi aspetti del lavoro di Vincenzo Di Benedetto sui lirici uno degli aspetti più significativi che credo continui a coinvolgere tutti noi è il piacere che Ettore Cingano ha sottolineato nella lettura di questi testi e nello scoprire all'interno delle affermazioni di Benedetto anche possibilità di discussione critica e di ampliamento della prospettiva di inserzione di questi testi in contesti più ampi che del resto lo stesso Di Benedetto aveva percorso molto consapevolmente nel saggio per esempio sui rapporti fra la lingua di Saffo e quella dei medici ci sono ampie inserzioni di considerazioni su contesti non propriamente e non solamente greci ad esempio come è stato giustamente detto pur non avendo prodotto quei grossi volumi che altri settori hanno poi consentito come appunto quelli di cui abbiamo visto per ora o meno e vedremo la tragedia i contributi sulla lirica rimangono fondamentali e ricchi anche di prospettive credo che si possa dire che una parte naturalmente molto importante è quella che ha sottolineato lo stesso Cingano sulla straordinaria conoscenza e competenza e sensibilità linguistica di Di Benedetto che lo ha portato quindi a percorrere in maniera diversa dall'integrazione alla ricostruzione alla congettura il testo di autori molto diversi e molto lontani fra loro forse questo gusto mi permetto però non partecipavo di quella generazione credo possa essere anche stato favorito e qui però poi dopo la parola a altre persone nella lettura e nell'interpretazione dei papiri dai corsi seguiti qui con Bartoletti e quindi con un gusto per che cominciava già del resto a portare Di Benedetto a interessarsi dei papiri già con i primi studi su Dionisio Trasce per esempio quindi un altro dei maestri fondamentali che lo stesso Di Benedetto ricorda e che portava Di Benedetto come è stato scritto mi pare da Franco Ferrari già in periodi in cui non c'erano grandi sussidi informatici o di di vario genere a interagire con i papiri per esempio e con quindi queste possibilità su dati di fatto molto concreti come quelli offerti dai testi di intervenire quindi spero la parola a altri contributi tra i presenti tre brevissime osservazioni uno può essere un contributo alla domanda che si poneva Cingano sul perché parte con questo molto giovanile saggio su alceo penso che la ragione siano le lezioni in facoltà di storia di Pugliese Caratelli che già prima aveva scritto per la storia di lesbine età arcaica sia Mazzarino che Pugliese scrivono su alceo e sul contesto storico e senz'altro la ragione comunque va fatta risalire all'insegnamento di Pugliese Caratelli un studioso che di Benedetto ammirava ammirava molto e che salutava in modo deferente una volta anche assistito e mi disse questo è stato un vero maestro insomma poi altra osservazione l'autobiografia il primo l'elemento vecchiaia autobiografia penserei più no che sì nel senso che l'articolo su Saffo che quello sull'odio della vecchiaia prima della scoperta del papiro che tra l'altro fu oggetto di un bellissimo seminario innormale a principio d'anno in genere faceva parlare me all'inizio ma quell'anno era così entusiasta di questo brano che volle fare il seminario il primo seminario dell'anno beh l'articolo credo dell'83 aveva 50 anni ora insomma non credo che fosse questo cioè e l'altro articolo dopo la pubblicazione del papiro ci torna tra l'altro con un articolo anche sulla stampa di Torino perché perché l'articolo perché il papiro smentiva sembrava smentire di fatto smentisce l'annessione del cosiddetto tetrastico a tutta l'ode e lì era era naturalmente cioè ma lì è interessante notare che anziché restare frustrato dal 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 riconoscimento di quello che era pur sempre un errore cioè ma un errore praticamente inevitabile sulla base delle edizioni esistenti sia di considerare il frammento 58 un'ode comprensiva dell'elogio della raffinatezza lì era contento e la ragione credo che fosse perché questo aumentava la sua stima intellettuale per Saffo cioè lo scoprire che Saffo non introduceva elementi consolatori nella considerazione della vecchiaia faceva sì che la sentisse più dura più ferma quindi più intellettualmente solida di quanto forse avesse pensato precedentemente poi l'ultima cosa ecco Tulli mi è piaciuto che aveva parlato di generosità intellettuale molte note a Saffo quelle filologicamente migliori anche se non sono firmate da lui non c'è VDB come in altri casi tra parentesi quadri perché non volle volle che fossero tutte mie tutte mie le note però ora per non costruire una geografia devo dire che in altri casi era anche intransigente l'integrazione di cui parlava Cingano Peizzo Mapsagen diceva ripreso da Hutchinson ma Hutchinson non a caso fa Peizzeis quindi restituendo il blocco della Sinafia cioè la pausa di fine di verso alla fine dell'indecasillabo invece di Benedetto era ostinato nel volere mantenere questo fenomeno adducendo il massimo che riusciva a fare era un delta apostrofo un de apostrofato eliso nel Carme 31 un po' poco fenomeni di questo genere ci sono anche in Sofocra fa trimetro e trimetro e lì proprio fu intransigente disse o si mette questa integrazione o non se ne fa di nulla io lì per lì gli disse ma potremmo anche non fargliene di nulla poi però insomma questo fatto del de del frammento 31 insomma mi lasciò perplesso e gli disse però guarda che poi ci attaccano infatti un anno dopo Gigante è scritto una notorella e per una volta credo che Gigante nelle polemiche con Di Benedetto avesse proprio ragione insomma quindi insomma è una persona anche molto generosa molto allegra molto anche cordiale anche se molti credono che ha un cattivo carattere però volta a volta anche intransigente dura cioè è come una finestra come una saracinesca che si alza e si abbassa insomma un po' come appunto giorno per giorno per usare un'espressione che gli piaceva grazie aveva un entusiasmo di bambino e quindi questo questo entusiasmo fanciullesco che lo accompagnava lo aiutava in questa in questa in questo discepolato e in effetti ho dimenticato cioè avevo scritto il nome di Pugliese Caratelli ti ringrazio di averlo portato mentre non avevo pensato a Bartoletti ma è evidente che Bartoletti ha esercitato la sua il suo magistero su su Di Benedetto anche se negli scritti che io ho letto non 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 l'ho trovato citato ma è chiaro che Di Benedetto si sarà avvalso senz'altro di Bartoletti devo dire che il pezzo ma non mi convince troppo neanche dal punto di vista del senso perché mi sembra comunque una costruzione un poco elaborata il fatto che Afrodite si debba convincere a persuadere qualcuno eccetera l'ho citato proprio per mostrare l'attenzione diciamo che la filologia recente anglosassone ha avuto nei confronti di Di Benedetto colgo l'occasione tra l'altro per segnalare una cosa che gentilmente Amneris Roselli mi ha messo a disposizione adesso e cioè che verrà pubblicato presto un ultimo inedito di Benedetto proprio sulla ode alla vecchia di Saffo e i discorsi di allora che sarà pubblicato nella miscellanea in onore di Giovanni Cerri quindi è un ultimo contributo di Benedetto a Saffo insieme a quello pubblicato non incluso nella raccolta pubblicato nella Z Pieri del 2010 che è la sua ultima proposta per l'ultimo verso del frammento 31 il verso successivo a Pan Tolmaton e devo dire che un altro saggio che ho trovato interessante non incluso in questa raccolta è quello sulla biografia di Saffo cioè sui papiri d'ossirinco pubblicati negli studi classici orientali del 82 prego la biografia di Saffo è semplicemente in un altro volume della raccolta quella della letteratura ellenistica giustamente perché non sono frammenti di Saffo ma è letteratura ellenistica quindi è nel terzo volume credo allora ottimo perché io mi sono mosso sempre con questo e poi mi sono andato a stampare qualcosa che già avevo grazie io l'ho letto in questo avevo isolato questo volume prego Barbara Barbara grazie mi è piaciuto il ricordo che hai fatto della cartoleria e del libro sulla lirica come modo di avvicinarsi a questa parte della letteratura greca e la domanda che avevo e che mi faccio non solo per Di Benedetto ma per gli studi in Italia più in generale è questa se guardiamo la produzione scientifica sulla letteratura greca a livello internazionale l'Italia produce molto di più sulla lirica che qualunque altro qualunque altro paese in realtà e io mi sono sempre chiesta i motivi di questo e la risposta che mi sono data così fra me e me ma senza senza poi confrontarmi con altri e vorrei ora confrontarmi con te e con tutti è questa forse è l'influenza della letteratura italiana dove la lirica è molto importante così come il teatro greco è importante in Inghilterra anche perché c'è Shakespeare e quindi un archive of performances eccetera viene naturale a Oxford a me pare che forse in Italia è anche la letteratura italiana che ci rende partecipi della lirica greca non so se questa è una spiegazione ma io credo che questo questo filone diciamo di di collegarlo a un a un genere a un altro genere proprio della letteratura italiana sia un'osservazione molto interessante e pertinente e di Benedetto del resto cita ad esempio Petrarca nell'introduzione a Safo cita anche molti altri autori tra cui Kids per parlare di un autore straniero ma credo che ci sia anche un altro motivo cioè proprio la tradizione degli studi classici in Italia la costituzione del liceo classico con l'insegnamento della lirica in un certo anno di liceo e questa è una tradizione che ha permeato l'insegnamento e ha permeato secondo me anche l'interesse per la poesia lirica in Italia è chiaro che anche nel mondo anglosassone ci sono antologie fin dalla fine dell'ottocento di poeti lirici greci quella di Smite Greek Melich Poets quella di Farnel eccetera ma la differenza è che in Italia questa tradizione è continuata nei corsi dei decenni ed è praticamente esplosa nel dopoguerra infatti se noi ci mettiamo a vedere il numero di antologie destinate all'insegnamento nel liceo classico troviamo più o meno che tutti gli specialisti o gli studiosi notevoli a cominciare da Franco Ferrari si sono cimentati in solidissime e utilissime antologie per i licei che curiosamente sono state notate dagli studiosi professionisti di altri paesi i quali hanno sempre osservato e ammirato il fatto che da noi ci fosse questa fioritura dovuta secondo me è proprio originata dal prosperare del liceo classico cosa che ovviamente in paesi in cui l'insegnamento nel liceo è limitato da alcune scuole private non viene permessa quindi credo che l'origine sia quella ma è interessante anche questo che dici tu sulla prevalenza cioè su una forte tradizione lirica diciamo nella poesia italiana bene se non ci sono altri interventi ringraziamo di nuovo il professor Cingano e tutti quelli che sono intervenuti nella discussione e ora passiamo all'ultimo intervento della nostra mattinata di Susan Said sulla tragedia grazie ecco è con molto piacere che abbiamo qui con noi Susan Said professore emerito delle università di Paris Nanterre e della Columbia University è una studiosa notissima autrice di numerosissime pubblicazioni sulla letteratura greca da Umero fino alla tarda antichità e ha pubblicato tra i suoi molti saggi una storia della literature greca con altri autori di un saggio su approche della mitologia greca pubblicato nel 2008 nella seconda edizione e un saggio importante su Umero e l'Odissea molto importante è tradotto anche ripubblicato ora in inglese in un'edizione ampliata da Oxford nel 2010 e naturalmente per il settore di cui si occuperà la relazione di questa mattina cioè la tragedia greca ha scritto due opere notissime la foto tragique del 1978 e sofiste tirano sul prometeo incatenato dell'85 ma è appunto come tutti sappiamo autrice di numerosissimi articoli sui temi diciamo su uno spettro amplissimo di temi che va appunto dalla letteratura epica arcaica lirica tragedica commedia fino all'età della seconda sofistica retorica filosofia e romanzo e quindi con molto piacere che ascoltiamo ora la relazione Susanna I want first to thank you to have invited me to this assessment of the work of Di Benedetto which I consider as one of the major Hellenists of the 20th century and also of course to thank you Luigi for your introduction ok let's just begin Di Benedetto was a fully fledged philologist his expertise includes codicology textual criticism metrics and stage action as long as it contributes to the meaning of the play and is recoverable from the text itself I today I shall focus on tragedy and I must say I found it a daunting touch because how to assess in 45 minutes Il longo studio sulla tragedia that is a scholar a work of a scholar who I happened to meet long ago at first at Dublin at the FIEG and then at Syracuse he has in fact published three books one of each three great tragedians a book on and with Di Benedetto also a book on tragedy which is probably the best existing introduction to Greek theater first for the problem of staging if you compare it for instance with the tragedy in action of Oliver Taplin it is far more complete and second because of the third part it is also an absolutely illuminating introduction to let us say tragedy as a genre and the specificity of this genre we have to add to that of course two commentaries both one at the beginning the other at the end of his career and a lot of papers mostly collected in the Richiamo del Testo and reviews and prefaces also to edition and commentary of other Greek tragedies today I would like first to present the general characteristic of Di Benedetto method in fact with his help because he introduced us into his laboratory in his paper The Longest Studio Sulla Tragedia Greca but also we have to take into account the papers he devoted to his masters first the papers devoted to the paper devoted to Aurelio Peretti and his book Epirema et Tragedia and before him to the works of German scholars such as Schadelwald Monologue Walter Nessel Prologue and above all Walter Kranz Strassimon which all emphasize what is I think a major aspect of Di Benedetto work that is the interest in the formal aspect of the text most of all Di Benedetto was influenced by Eduard Frankel he shared his purpose to illuminate the specificity of the text by a close reading and to assess its originality through a careful comparison to others at least one of his readers Camerbeck in his review of the Di Benedetto Sophocle was extremely aware of the phenomenon that is the importance of comparison but I think he was wrong in assessing the reasons and the consequences of this comparison he thought that the only purpose of Di Benedetto was to find out influences and sometimes he was dubious if these influences of Echos were real but I think in fact that the real purpose of Di Benedetto when he's comparing which he does all the time is always to try to point out very precisely what is the specificity of the text he's reading the problem is not influenced the problem is comparison for the sake of originality and precision because you cannot read the text by itself you have to compare it with many others again like Frankel and his pupil also Taplin Di Benedetto was convinced that and here I quote Frankel for Greek tragedy there exists something like a grammar of dramatic technique in fact he proposed in 1991 in his Pianto and Catarsis Nella Tragedia Greca a typology of the endings of tragedies distinguishing between tragedies ending with lament pure and simple or lament followed with other things either lines of the chorus intervention of the deus ex machina or intervention of some character having a kind of authority and of course he notes the existence of some tragedies where the lament was obliterated but each time his purpose was to demonstrate by this comparison the variety of effect produced by the same type of ending in this or that play and of course the book where this talent of comparing is best displayed is of course the tragedia sullacena he wrote with Meda but I think also that to better define the method of Di Benedetto it's also useful to look at his many criticisms of other scholars for Di Benedetto like the French epigraphist Louis Robert not an indiglishable model often thinks against other scholars even if he denies it and I must say I was smiling when I read in this volume of collected paper your rarissimamente polimizavo con altri studios glaringly false in fact one of his first published papers in 1961 a survey of recent Euripidian studies attacks vigorously the works of Zürcher and Friedrich his paper Critica del Testo o Improvisazione is an harsh criticism of the work of Deganu and the Degani on the indirect textual tradition of Euripidius Orestes in Teatro e Societa he opposes the famous paper of Dodds Euripidius the Irrationalist and his Socratic definition of Rossianalism and proposed to look elsewhere for the most significant manifestations of rationalism in 5th century Athens that is the aptent of Thucydides and Hippocratic Medicine to find a rational order in the world De Benedetto most famous polemic was directed in the late 70s against Jean-Pierre Vernot 1977 and Vidal-Nake 1978 he first criticised two essays of Vernon tension et ambiguïté dans la tragédie grecque and ambiguïté et renversement sur la structure énigmatique de l'édiproi for privileging in the tragic language des zones d'opacité et d'incomunicabilité and for here also I quote again ressorting he criticised Vernon for ressorting to ambiguity as a means of expression and a way of thinking his attack against Vidal-Nake attempt to explain Sophocles philosophies by the Atenean institution of Ephèbia is even more virulent in nearly 20 pages it announces with a fierce irony what he considers and a series of manipulation and misinterpretation but I think it's extremely interesting to try to understand why this opposition and I think the opposition between the two scholars has to be explained first by the similarity of their purpose Di Benedetto posits in his first sentence that there is a link between the theater of Euripides and the society of his time but the same is equally true for Vernon who does not separate the text from the context broadly defined and here I quote Vernon that is l'ensemble des conditions sociales et spirituelles qui ont suscité l'apparition de la conscience tragique moreover according to Di Benedetto Vernon was in fact guilty of superposing upon the historicism of his master Louis Gernet what was in fact a structuralist reading but it is not only that the purpose was the same I think one of the real reason and explanation of this opposition is that it is an opposition between two fields Vernon was by his training not a classicist he was a philosopher but Di Benedetto is a philologist and you have here the opposition between two ways of reading on the one and Vernon who tend to generalize on the other Di Benedetto who is of course sticking to close reading and last I think there is an opposition but I shall try to demonstrate later on in this paper when I reach the commentary of tragedia su la Sena that this is not truly an opposition there is an opposition according to apparently the opposite function to Athenian tragedy for Vernon tragedy was a way of questioning the world of the city state and challenging its set of value for Di Benedetto and this is extremely clear in tragedia su la Sena it was fundamentally a way of stabilizing the existing social order and its values but I think this in fact is a misunderstanding by Di Benedetto of Vernon because they do not speak the same language and do not use the same word on one hand Di Benedetto uses all the time the word tension which appears all over the place but if you look at what he explains as tensions is exactly the facts which are called by Vernon ambiguity so if you suppress this problem of vocabulary and try to compare the text you find sometimes probably more echoes than real opposition ok so let me now move to the text itself and first to theater and society this book opens as everyone knows with a deliberately provocative sentence addressed to the one he called the ben pen sentence I consider that Euripides theater cannot be adequately understood if one does not take into account the financial situation of Athens in the last decades of the fifth century actually it is only in the second part of his book that is the tragedia di Euripide et la realta politica et sociale del suo tempo that Di Benedetto attempts to leak certain passages of the tragedy of Euripides with precise contemporary events and I think that it is probably the best of his work which is most outdated he was it was in fact very fashionable at the time he wrote and it is clear that even he sometimes criticised Gossens and his book Euripide et Athen in 62 in fact Di Benedetto was extremely close to his method and to the method I think probably with worst result of Delbeck in his Euripide et la guerre du Peloponnese all of them attempted to identify in the tragedies of Euripides allusions to events to contemporary events as acknowledged in fact for instance by Peter Burian in the review of Theatro and Society to give just one example in Andromache he tried to demonstrate that the book the play was in fact reflecting the crisis of a police now divided into the poor who wanted to continue the war because it means a salary because those who got and the land owner who opt for peace because it destroyed their field the second station of Andromache is read by Di Benedetto as a kind of parabasis and a call to unity in the same way and in the same play the general consideration of Peleus at line 693-702 which have no obvious link with his direct attack against Menelaus also are considered as an allusion and an appell to unity and it is also I think no change is that in this part of his book he is using a lot fragments that is precisely texts which are completely cut from the context and can be interpreted like direct messages addressed to the audience I could give many other examples but I think it is more interesting to turn to the first and the third part of the book Teatro and Societa because in the first part Di Benedetto portrays extremely accurately the appearance of a new model of tragic character defined by the juxtaposition of pathos and intellectualism in the first part in Hippolytus for example he points out the contrast between Faedra's first appearance on stage with a speech characterized by a series of disjointed and inconsistent images and the rational speech she delivers at line 375 387 the same model reappears in Alcestis you have first the monody of the heroine also characterized by this kind of disjointed style and images and then a speech in iambic trimeters and but it's true also this is just a part of the tragedy but when he analyzes media he demonstrates that what is a core at the character is a kind of extraordinarily strong contrast between the fury of media described by the nurse at the beginning and also heard by the audience to what she is saying from the inside of the house and second the kind of self control and lucidity she develops when she plans the revenge and explain it to the chorus and he demonstrates that this is probably the play of Eurypides where you have the most important development of this and after that he thinks that there is a kind of gradual disappearance of this model because it appears only through secondary characters such as the of or the of the Trojan woman in the same way in the third part of his tragedy Di Benedetto does not anymore interpret the tragedies by linking them to special events but attempt to define general trends characteristic of his late tragedy twenty years before Charles Segal's Euripides and Poetics of Sorrow Di Benedetto identified the presence of what he called La Poetica del Dolore in the Trojan woman and give a wonderful comment of the words of Cuba at the very end of the tragedy where she says and yet had not God turned the world upside down we should have remained not celebrated giving a theme of songs for future generations it is obvious that we have here an echo of the word of Helen in Iliad 6 but also of Alkinoos in Odyssey in book 8 but what I think is interesting is that Di Benedetto used what is obviously a numeric quotation in order to point out the gap between epic and tragedy as he says in the Trojan woman the omeric motive has become empty of any meaning as demonstrated by a conclusion where the chorus lament over a city and its temple who will become anonym without a name and the name and say that the name of the land onoma gas is now afanus it has disappeared so the epic glory to come has been now replaced in its tragedies with an immediate delight in refined and beautiful pictures music and dance and I think there you find probably the best picture of the atmosphere of the last tragedies and you find all what he says there developed immensely in his commentary of the back that is this for instance beautiful images and he begins I shall not talk here about the back but I think what are his comments on some passages of the Trojan woman for instance pointing out the evocation of the departure of the Greek fleet in Ecuba Monodi the description of the entrance of the Trojan horse the evocation of the life of Ganymedes what is also interesting is that Di Benedetto is able to use his huge knowledge of ancient Greece in general in order to illuminate this it says on a face that there what we see is a change of artistic taste well documented by the so-called flowery style in the poetics of Agaton the dithyrum but also vast painting in the last decades of the 5th century his last chapters vivere giorno per giorno and are also a brilliant demonstration of how the renewed sense of the instability of human life ruled by chance gives right to a search for immediate pleasure while the crisis of the police and this is the following chapter foster a new awareness of the importance of personal relationships and philia as opposed to relationship between citizens and these themes also are hugely developed in tragedia sulla schena let us now move to l'ideologia del potere et la tragedia greca in this book di benedetto clearly moved to another definition of what it is to historicize Greek tragedy as demonstrated I think by the substitution in the title of the straightforward societat with ideologia and this harsh criticism of those who tried a simplistic allegorical reading of Greek tragedy he condemned Bachofen who in his Mutterrecht read the Oresteia as a dramatic description of the contest between the maternal and paternal rights and while acknowledging the importance of Thomson book Aeschylus and Athens he condemned severely the attempt of his Italian follower Odone Longo who attempted to find out the correspondence between the gods involved in the Prometheus bond and the various social classes of Athenian society later on he disproves squarely the thesis of Thomson who made Apollo into the representative of the land aristocracy by saying this has not enough support in the text the distance between the two books was already perceived by one of his English reviewers Garvey who pointed out that here Di Benedetto showed and I quote Garvey great sourness and sensitivity in disentangling the various cultural standards the same appears in the Profilo di Vincenzo Benedetto Franco Ferrari who well identified what he called the core the idea guida of the book precisely in the chapters devoted to the Orestia that is the demonstration of the intersection between two heterogeneous ideological trends the modern line of the polis and the ancient line of the genus the first chapter is devoted to the passion and focuses on one question which is the problem of Xerxes responsibility like winning Tony Graham Di Benedetto acknowledges that there are two explanations in the play of Xerxes failure the first one is given by the chorus in the parodos this is the primitive explanation of an ate sent by a jealous god phoning on man at first with friendly words and misleading him into her neck these are the line 98 99 of the person but this ate in Aeschylus is not anymore like in Homer a mistake leading to disaster but a violation of an ethical religious norm that is the crossing of the helisment first by ships and then by the construction of the bridge of boat the account given by Darius in the central scene which emphasizes the collaboration of man and God and points out the hubris of the Persians who did not scramble to plunder the images of the God also goes in the same direction but instead of giving priority to the second that is the hubris explanation as did Winnington Ingram Di Benedetto argues that the first is more important relying on the limited character of Darius explanation which appears only in one episode but I must say I find the soundness of this argument a little bit questionable on the other end he made another point which I found extremely interesting that is he draw our attention to the contrast established by Darius between Xerxes and his predecessors including himself this is of course not new everyone does it what Di Benedetto does is that he reminds us that this is a way of pointing out a bridge of continuity between the descendant and the ancestors which was a major principle of the archaic Greek culture so you have in the same play put side by side kind of archaic ways of explaining the world archaic set of values and on the other new trends which are closely linked to the polychys the chapter of Prometheus is subtle and propose a useful history of the interpretation of the play I must say one can hesitate for instance it's true that Di Benedetto interpretation of Prometheus prophecies which would reflect not at all an accurate view of the future but only the anger of Prometheus and his hope for revenge can be contested I'm not sure that the other one is accurate either but and I am not sure that the only purpose of the tragedy that surrounds Prometheus with such an atmosphere of sympathy is to teach that one has to yield to a superior power I don't think as he does that Aeschylus aimed at depriving of tech of any positive value in agreement with the low status of the craftsman in society and I think here he's doing in fact what he's approaching to Thompson that is kind of assimilation between a tragic text and the status of social classes in tragedy in the same way I am not sure that the absence very curious of pottery in his list of the techni curious because we all know that Prometheus at Athens was especially worshipped as the god of the potters so this absence he says is to be to be explained by a will to estrange and it is certainly a will to estrange his Prometheus from the Athenian god but I think it is just a consequence of something else if you want to represent Prometheus as the one who taught to men all the techni it is not very good to include in the list the only techni which was closely related to him and which would seem in a way limitative the major part of the book by far and the best I think is devoted to the Oresteia the benedetto anatomy of Agamemnon and his portrait of him as a king was learned through suffering when he enters the stage is I think perfectly accurate and firmly based on the text his close comparison between the first part of Agamemnon and the Persian both drawing a parallel between the Argive king and Xerxes that is and pointing out first in both cases a sequel between Daring and Empiety in Agamemnon you have the term which appears as Trasos and this appears also in the Persian in Agamemnon you have Topan Totolmon in the Persian you have Trasos more or less equivalent you have also a line which is nearly quoted not completely but nearly quoted from the Persian and surfaces in Agamemnon in Agamemnon you have the allusion of the destruction to the temples as well as the statues this is what you find in the Persian you have so the only differences is between the and the is exactly the same you have a parallel also between two catastrophes in the in the Persian it's of course the defeats at Salamis and Platea but in Agamemnon you have also the storm and the breakage of the Greek ships you have also not only but as usual contrast he points out a contrast between the two addresses to just the king in the Persians and in the Agamemnon and I think he's perfectly entitled to do that because both of them begin with exactly the same expression but in the Persians it is a way of saying for the Persians that the Persians have been defeated and they lament over the destroying of the army whereas in the Agamemnon it is a way of recalling those who had granted the victory to the to the Greeks by casting his great net above the towers of the Troy and last in the last chapter Di Benedetto also accurately points out the emphasis on the necessity of the Trojan War the balance between a praise and poverty which prevent hubris and the portrait of Athens as a land who has been granted wealth granted wealth by the gods but I think his major contribution in his interpretation of the Oresteia consists at the end of chapter 4 and chapter 5 that is evidencing the transformation of the Erinies and the fear associated to them from negative to positive as they move from the genos to a new political order which is the police let us now look at his Sophocles the last of the three books I think it is very difficult to precisely define the purpose of this book which is brilliant but not an easy reading I agree with the perceptive remark of Francois Lasserre who say that one has to read this text not only with the text of Sophocles in hand but nearly to have around him or her all the texts which are lavishly quoted in the Sophocles but usually sometimes just mentioned with the number of the line without the quotation itself Anglo-Saxon reviewers I must say such as especially Malcolm Heath were absolutely driven mad by this way of presenting the thought moreover they were Heath but also Charles Segal in his long review were all in a way limited in their interpretation by their good knowledge and the influence of the Anglo-Saxon world of another kind of Sophocles the Sophocles of Sophocles and heroic humanism by Cedric Whitman and even more of course the heroic temper of Bernard Knox which was far better and was immensely influential and what in fact Di Benedetto does is to squarely oppose this kind of reading in order to demonstrate that the purpose of the old tragedies of Sophocles was the problem of suffering and he quotes the very Ferrari quotes very well I think the line of one line of the Seminary Romani of Frankel where he says that what is the core of the seven plays is I quote in Italian this is the case of Oedipus and Antigone qualche volta per altri accidenti Ajax Heracles Philoctitis becomes fuori della polis humana and you have a very long and excellent chapter in Tragedia sulla Schena on this topic first I would like in a way to support this opinion and this reading which I share in two ways first I want to point out the change of what Dibedet called interpretation in the second part of the Teatro and Society and in is Sophocle in Teatro and Society to interpret a tragic event was more or less to link it to some event in the contemporary politics or to some character for instance Theseus was maybe a young Alcibiades because he's young or maybe also Pericles who knows in L'Ideologia del Potere interpretation became the understanding of the intersection of two cultural trends and the spelling out of the message both religious and political addressed by Aeschylus to his audience but this message became now the core of the text and not something to be cut out from the text in selected passages and then what is to interpret it's a pure and simple discovery of the unity of each play and more broadly a unity of all the tragedies my second point would be an attempt to exemplify what is Di Benedetto method in this book by looking only at one chapter that is the chapter devoted to Antigone I must say first I found it extremely paradoxical if you want to explain the tragedy to begin right away with the very last words which are pronounced in the play and I quote the great words of the arrogance Megaloi Logoi Tony Perrocon are always punished with great blows Megalas Plagas and as they grow old teach them wisdom Di Benedetto first step is to identify the Echelian egos he found in these four lines he finds them first in the symmetrical description of the crime and the punishment through the return of the same words Megaloi Logoi Megalas Plagas second guided by the occurrence of the same words in Aeschylus 7 and Antigone and this will start a move which leads him without any interruption from one text to another from Antigone on one end to the seven of Aeschylus he starts from a rare word which is the word hyperocos which is to find to be found only once in Aeschylus and once in Sophocles the arrogant and of course he pointed out the echo between Antigone 1351 where he condemned ton hyperocon those who are arrogant and Aeschylus 7 where the same adjective qualifies the arrogant language of the archive leaders hyperocon badzussi this echo induces a broader comparison between the shield scene in the seven and the presentation of the invading army in the Parados of Antigone Di Benedetto draws out our attention in the Parados of Antigone to the boastful words of the Argaise Megales Glosses Compus before returning to the shield scene and privileging there the character of Kapanes who is the personification of boastfulness this man is O Compos boastfulness then he goes back to the Parados of Antigone pointing out that the epithet Purphoros torch bearer is applied there to an anonymous archive warrior the torch bearer Purphoros who in the fury of his mad rush breathes upon the city with the blast of hateful winds and demonstrate that this allude of course not only to Kapanes who in the seven is represented as bearing a shield where you have a naked man Purphoros who is brandishing a torch and also you have the echo between the mynomena you have in Sophocles and the mynomenos of the seven where it is applied not anymore to Kapanes but to an Ares who is in fact identified with the Argive army and then he focused on the second major theme of the Paradox I was now only focusing on the crime let us look at the description of the punishment and in consequences in the Antigone we are told we have a description of the fall of the furious warrior when thus who ate the compass of tongue held against him his fire and then of course we return to the commentary of Antigone and he draws this parallel between these lines and the description in Antigone of the fourth specimen of Lycurgus and the knowledge acquired through suffering with and of course compare this with the in Aeschylus here also all the demonstration focuses on two identical worlds one in Antigone you have the composite apostatzei dripping out from and what is dripping is and getting out is the fierce exuberant force of the mad warrior and then you have the statzei you find in the Parodos of Agamem where you have the knowledge who is dripping in front of the art instead of sleep so relying of these two words it can of course establish a kind of link between crime punishment knowledge except that the whole purpose of the comparison is in fact to demonstrate the enormous gap between the knowledge as defined by Aeschylus and demonstrated in the character of Agamemnon and the knowledge of a Sophoclean hero in Agamemnon what you have is a knowledge which is manifested in fact in the way in which a character has learned to speak and behave in a pious way as demonstrated by the behavior of Agamemnon when he appears on stage whereas in Sophocles what you have is only of course knowledge it is the awareness that you made a big mistake but you don't go further than that and this kind of knowledge is in a way closer to the American one you know in the famous sentence than with the content of the Aeschilean knowledge and he concludes from this examination that what characterized at the end of the tragedy the character of Creon who is deprived of anything of all his powers he is now asking for orders by the chorus he has lost his son and his wife but what he has gained is a new capacity of self consciousness the analysis of Antigone which complements this interpretation of Creon squarely reject first of course reading of the play opposing the family and the state but also second a simplistic contrast between an heroic Antigone and a mean Creon Di Benedetto accurately points out what he calls the crisis of Antigone and the contrast between her first speech and her second speech when she appears on stage for the last time in the Comos and the fourth episode in the first she defines herself in opposition with Creon and uses a vocabulary permeated by the aristocratic value of Cleos glory in the Comos she lament over her death in front of a critical chorus who dissociates itself from her and find as only interlocutors like Ajax the natural world that is the fountain of Dirce and the grove of Thebes also she addresses only not anymore the chorus and it's why Di Benedetto says it's a kind of monologue in some way but she addresses the dead member of her family whom she is about to join in the underworld okay let us now move to the book Tragedia su la Schena written for two parts with Enrico Meda and for the last part by Di Benedetto himself I think that it is by far the best introduction to Greek theater we can have it was prepared by some papers of Di Benedetto who first paid a lot of attention to the book of Carl Reinhardt Aeschylus as regisseur and theolog and also attempted before Oliver Taplin to establish a close connection between the stagging and the meaning second you have his paper on the humanities where he proposes for a difficult problem a bold and I find other convincing solution the scenae in the third part of the trilogy was not included into the scenic space in contrast of course with the Agamemnon and the coef and also in this you have also the third paper even more important which is where he straightforward condemned the reconstruction of the condition of dramatic production to the death of Aeschylus by Amand and his attempt to imagine a permanently existing rock in the theater of Dionysus at the time of Aeschylus let us now go a little more to details in the first part of their book Di Benedetto and Meda why acknowledging the difficulties of reconstructing the appearance of the fifth century theater of Dionysus and Piapps paying not enough attention because now it has become very fashionable to the problem of the shape of the orchestra after the works of Moretti and others some people have been tempted to pose a rectangular or trapezoidal orchestra instead of a round one but I think this problem is in a way minor it does not intrude into the demonstration of Meda what is more interesting is the way in which he tried to demonstrate in the following chapter how you first how they tried to reconstruct the material surrounding they justly leave aside the existence of the evidence of vase painting as well as the late tradition represented by Vitruvius Pollux and Scolia they also do not rely at all on vase painting this being said they accepted the possibility of a non permanent through elevated structure corresponding to to the octos of pagos in the text and representing in Aeschylus Supplians the mound which support the statues of the god in Prometheus the cave the rock where Prometheus is chained and maybe in Philoctetes also the cave where Philoctetes live this I think maybe is more dubious this mound also is used to represent in the persian the tomb of Darius and in the tomb of Agamemnon they definitely exclude the encuclement not only as did Taplin for Aeschylus but for all 5th century tragedies and suggest that the interior of the Scennae was made visible because one could just take off the facade of the Scennae but what I find so this is perfectly accurate and well informed but what I find more interesting is the way in which they in chapters devoted to scenic space extra scenic space and retro scenic space he proposed a kind of map of all the ways in which these elements are used in various tragedies and so I think provide the reader for who is working on any of this tragedy with a very convenient list so that he knows where to pick parallel passages and better identify the specificity of this there is also another part of the book which I found extremely interesting this is the part devoted to the chorus first trying to identify what is the purpose of having on stage a chorus which is a group of people and Di Benedetto posits and I think he's right that this is a way not really to represent the city state but it's a way of suggesting how closely in archaic period and even in 5th century Athens the individual was linked to the community so the existence of the chorus is a way of manifesting the importance of the community second it's also very important the way in which they classify the different ways the different kind of intervention of the chorus in the tragedy that is either a chorus who addresses the character by giving advises or attempting to dissuade them but also a chorus which can be asked by the character to give his opinion and then a kind of broader kind of intervention that is the way in which the chorus expresses and give a kind of echo to feelings and emotion and second also give a kind of philosophical thought and commentary of what is going on on the stage and last also introducing a mythical narrative which are the background of the segment which is used by the play and represented by it but let us now move to the last third part which I must say I had first a lot of problem in reading it but I think it was really rewarding to get meaning out of it and especially the chapter which is devoted by Di Benedetto to what he calls the anthropology because I think it's there that you really understand what were the link and the opposition between Fernand and Di Benedetto what Di Benedetto wants to do when he's looking at this topic is not at all to simply demonstrate kind of intersecting cultural links but the question he's asking is the following one and this is also the question valid for his analysis of the stabilizing role of Greek tragedy he says how come that tragedy can stabilize social structures whereas it is always representing struggles and struggles where it is always very difficult to assign who is right and who is wrong and I think we are back to Vernon and his tension but Di Benedetto as a philologist and a literary critic introduces I think an element which is totally absent from Vernon is a philosopher he is interested in the meaning Di Benedetto says what transforms the tragic struggle into a positive lesson is precisely the fact that they are represented and by being represented they are set in a way a little bit far from the people who are involved in the problem and by becoming spectators an audience of this we can probably better understand what is the kind of behavior we have to accept and I think this is a way of understanding Greek tragedy which is absolutely fascinating and I must say the five examples he is giving of it are all extremely important he first looked at the media where he demonstrated that there is this character and he is correcting in some way what he said in society there is a kind of foreground and background the is the lucid cleverness so fay women the background is the mythical sorceress and we see he shows how this kind of background contaminates and question the foreground so this is why you can say that this is a questioning of the rationalism of the fifth century in the trachinian woman you are exactly the same but presented in another way that is you have also two words but they are different they are encapsulated by two different characters you have the present Dejanera and you have Nessus the centaur which introduces into the tragedy also this kind of savage former world he does exactly the same with his analysis of Oedipus Rex opposing the past of Oedipus this terrible genos plagued with monsters the sphinx etc and the awareness of Oedipus and I must say that his analysis are absolutely identical more or less with the analysis of Vernon and also of Knox when they demonstrate that in the tragedy the use of the intellectual vocabulary which is first used positively in the first part become just a tragic self awareness in the second part and it is of course the same for the back of Euripides I wonder I think I have no time to go into detail into the commentary of the two commentaries the only point I want to remind is that in both of them Di Benedetto appears as a very conservative textual critic he accepts and for Orestes is glaring you compare his commentary with the one which follows that is Willink and West and he nearly never accepts their innovation and does not propose himself nearly any correction but on the contrary I was surprised to discover that he is more prone to find interpolation than they do sometimes and second you have of course in Orestes an excellent textual not only textual criticism but very close reading by someone who is very sensitive to all the nuance of the words but also of the metric all these qualities are to be found in his last commentary except that there they are enlarged by enormous introduction where you see how it is necessary to master the whole of Greek culture in order to be able to properly appreciate just one of its pieces thank you ringraziamo davvero Sanseid per questa bellissima relazione era certo un tour de force quello di presentare questa produzione di Benedetto così ampia così articolata è anche esposta con evoluzione cosa interessante che emerge molto bene è l'evoluzione sia della centralità di alcuni temi interpretazione politica interpretazione linguistica letteraria con alcuni importanti spostamenti di enfasi da un periodo all'altro però anche con alcune ovvie costante forse lascerei a questo punto la parola al pubblico se avete domande o richieste altrimenti forse comincio io una delle cose interessanti che secondo me emerge è anche la vicinanza di alcuni temi rispetto a Omero assolutamente ero distrutta quando ho ascoltato il paper di Barbara possiamo quasi forget about formula etc and just put side by side simply I would replace with Omero I should say formula and formula whose meaning changes through the setting whereas in the tragedy you have words and sometimes it's why Di Benedetto focuses sometimes with rare words because it only words such as for instance you can point out precisely the differences because if not there would be too many for instance it would be very interesting to look through all the tragic poets at all the occurrences of the words which mean defiling etc but this would be an enormous work and more difficult to do than where you are guided by the formula in some way It seems to me we can also find a different area of communality which is in the relationship between power and poetry and I think there is a difference between the and and the Paris school and I dare say it has also something to do with different national political contexts and easier or more difficult relationship to institutional power No I think you are perfectly right both of them have been Marxist at some point Vernon was a member of the Communist Party and remained having his card of the party until death even if he was not agreeing at all because of his memories of the resistance where he played a major role in the South of France Exactly but Vernon was interested you know he was a philosopher the Greek world was for him only I think a mean and not an end that is he wanted to look at the Greek world very squarely in order also to think clearly upon his own this was also the purpose of Di Benedetto but I think the priority was reversed Di Benedetto wanted first and foremost to understand the Greek text and then consequently drove on it a lesson which can be used to us and I think it's not an accident if Di Benedetto was first so interested first in Euripides and the last Euripides especially and then by Sophocles because there you have a very clear questioning of the political power which you don't find or not find exactly in the same way in the tragedies of Aeschylus and I think this also is a reflection of the period in which Di Benedetto was living where we are usually questioning the political power and so he was very sensitive to his aspect also all what he says you know about the fact that one has to live giorno per giorno etc this also seems to me extremely modern and I think he was precisely drawn to privilege these themes in his work because of that the time in which he was himself living yes riguardo al rapporto con Vernano lo dico così visto che forse è la cosa più spettacolare della storia di questi decenni ma credo che Di Benedetto rifiutasse di Vernano essenzialmente l'uso di alcune categorie concettuali come l'ambiguo l'ambiguità la polisemia che tra l'altro presupporrebbe un pubblico atenese estremamente raffinato capace di cogliere il doppio senso che si cera nel dialogo tra i personaggi ma insomma è questo non è tanto la prospettiva marxista cioè la storia personale dei due è ovviamente diversa ma neanche opposta cioè e poi tra l'altro si stimavano sostanzialmente quando tutti si aspettavano una critica a Vernano una volta Gimedetto ne fece un elogio in un'occasione pubblica cioè il punto è però l'uso di categorie concettuali come appunto quelle usate da Vernano che secondo di Benedetto non erano produttive per usare una parola che gli era cara per capire la tragedia greca ecco questo è il punto centrale poi non credo che Vernano sia così marxista cioè lo è già poco di Benedetto Vernano non credo cioè quella di Vernano marxista è un'idea sì vulgata ma in realtà le radici di Vernano sono germe ma soprattutto l'antropologia strutturale di Levi-Strauss e della scuola francese ora sì va bene insomma il marxismo non è incompatibile forse con tutto questo ma certo il punto di partenza la visione vernantiana è una visione strutturalista ora Bimento detestava lo strutturalismo non lo studio delle strutture ma la riduzione di fenomeni intellettuali culturali e politici a strutture diciamo più o meno astratti o comunque più o meno riconosciute come avviene appunto in Levi-Strauss in questo si lega all'insediamento anche di Timpanaro di Sebastiano Timpanaro che nel saggio sul materialismo contesta ferocemente anche un po' eccessivamente Levi-Strauss o Lutafreude e mezza cultura europea ecco diciamo I think you are I would agree nearly with all you said that is I have attended you know ten years when I was in Paris the seminars of Vernon and first it's true that what Vernon was interested in was la pensée grecque you know Greek sort a kind of very global thing and he nearly never proposed us a close reading of a text of a tragedy that was absolutely obvious but I think that the word which was attacked by Di Benedetto was highly criticized by him because ambiguity means that the same word at the same time may have two meaning when Di Benedetto is speaking of sanctione that means that in two parts of the world the beginning and the end of a deeper strex you have two ways of evaluating the value of Sophia technet etc which change squarely from the beginning to the end but this of course is not ambiguous at all but if you forget that you know you can see some echoes and I was thinking for instance of the second paper of Vernon about Oedipus Rex which is not only ambiguity but tension e ambiguity which demonstrated that he was in some way aware of them but was not interested of them and it's true that his seminar with you know all this Parisian surrounding of anthropology structural and Vidal also was more an historian was also very much influenced by that was very favorable as this kind of I must say I agree with it was an extrinsmixer of Vernon presenting himself as the pupil of Gernet but at the same time being extremely influenced by the psychology of another of his masters and by let us say the atmosphere of the time that was the structuralism which was all over the place at this time to next to the school normal after having taught in Torino professor Gambiano is tutti noto come un grande studioso di filosofia con opere dedicate a Platone in particolare ma non solo e anche a problemi molto più vasti di storia della cultura compresa anche la storia della scienza e per cui è una figura particolarmente appropriata per parlare di questi interessi di Vincenzo di Benedetto nei rami che appunto illustrato grazie ancora e le do la parola tradizione retorica ringraziare per l'invito ma in questo caso non è retorico il mio ringraziamento perché l'amicizia con Vincenzo era iniziata nel 75 e durata in interrotta anche se con allentamenti nel tempo quindi con piacere che partecipo a questo convegno a lui dedicato sino agli anni 60 del secolo scorso la medicina antica era in Italia sostanzialmente terra di nessuno a confronto con illustri tradizioni come quella francese che già nell'ottocento aveva conosciuto l'edizione del corpus ipocratico dovuta all'I3 ed era ora illustrata da studiosi quali Festiugère Fernand Robert Robert Jolie il giovane Giovanna iniziava o come in Germania dove era stata da lungo tempo oggetto di esplorazioni da parte di grandi filologi a cominciare dallo stesso Villamovic Odils Theodor Gomperz Sino Pollens Dai Greber Edelstein Hans Diller la medicina greca in particolare ipocratica costituiva in Italia un passatempo domenicale come si usa dire per medici in servizio in pensione o miniera di curiosità per dilettanti la situazione muta radicalmente proprio verso gli anni sessanta nel cinquantasette esce una traduzione annotata di ippocrati di alcuni scritti ippocratici a cura di Linda Untersteiner Candia nel sessantuno una un po' più ampia cura di Giuliana Lanata nella collana enciclopedia di autori classici diretta da Giorgio Colli qui a Pisa nel sessantacinque una più ampia corredata da un'ampia introduzione a cura di Veggetti nella collana classici della scienza che era diretta da Ludovico Geimona ma un decisivo contributo scientifico che si pone ormai a livello di quanto di meglio si stava producendo nell'astrografia internazionale data da un articolo appunto di Vincenzo di Benedetto pubblicato nel sessantasei su Critica Storica la rivista che era stata da poco fondata qui a Pisa da Armando Saitta che era una rivista largamente aperta ad ambiti disciplinari diversi se si vedono i primi numeri è interessante la panoramica che si offrono titolo era tutti lo sapete tendenze probabilità nell'antica medicina greca esaminava alcune opere significative del corpus epidemie 1 e 3 prognostico malattia sacra e medicina antica in questo articolo emergono già alcuni punti saldi che resteranno costanti nel lavoro di Benedetto primo luogo il rifiuto di impelagarsi nella questione da lui giustamente considerato irrisolubile sulla base dei dati disponibili dal celebre riferimento del fedro platonico ipocrate all'anonimo londinense o a galeno della paternità ipocratea di singoli scritti scritti che presentano alternative e differenze radicali naturalmente questo non escludeva che potessero esserci contatti anche notevoli tra scritti diversi per esempio lui segnalava tra il prognostico ed epidemie 1 e 3 ma questo non legittimava sostenere che fossero opere di uno stesso autore così in un articolo pubblicato poco dopo nel 70 71 in studi classici orientali in un fascicolo dedicato al suo maestro Peretti intitolato il debito dell'antica medicina nei confronti con regime delle malattie acute egli riconosceva nessi e convergenze tra i due scritti ma anche differenze in particolare la prospettiva storica in cui l'autore dello scritto medicina antica collocava il suo discorso sulla medicina e questo impediva quindi l'assegnazione a un solo autore diversamente era la situazione di epidemie 2 5 e 6 che egli sulla scorta di Fernand Robert assumeva per ipotesi che fossero opera unitaria riconducibile in ultima analisi a un solo medico come a suo avviso mostrava la concezione degli umori presente in essi ma al di là di questa prospettiva metodica generale l'articolo del 66 mostrava già chiaramente quale fosse la prospettiva dalla quale gli guardava la medicina apocratica egli non sembrava interessato a investigare per esempio nessi e conflitti tra medicina apocratica e medicina popolare o magia come faceva invece Giuliano Alanata e poi come sorbiamo tutti avrebbe fatto soprattutto Geoffrey Lloyd diversamente poi da me ma credo anche da Veggetti di Benedetto non arrivava alla medicina partendo dalla filosofia in primo luogo dalla filosofia di Platone ovviamente non si trattava di negare che Platone fosse di negare che fosse profondamente interessato ai problemi suscitati dalla medicina occorreva però studiare la medicina ipocratica per così dire iuxta propria principia più che per chiarire Platone Aristotele tantomeno per assumere quella che allora era molto diffusa una prospettiva platonocentrica nell'approccio al pensiero antico quale trovava espressione in un'opera che in quegli anni era ancora molto influente nella cultura italiana e cioè Paideia di Werner Jäger che nel terzo volume aveva dedicato un capitolo alla medicina ipocratica ma diceva Vincenzo tendendo a collocare l'antica medicina greca su una linea che attraverso Socrate porti a Platone l'obiettivo dell'articolo del 66 era invece studiare cito l'uso che i medici facevano di certi procedimenti di generalizzazione per cui nell'esame di un fenomeno individuavano delle tendenze più o meno accentuate che lasciavano un margere più o meno ristretto di casi eccezionali di conseguenza la previsione dell'esito della malattia era spesso presentata come solamente probabile con un sensibile margine di incertezza ciò che colpiva di Benedetto in alcuni scritti ipocratici in particolare in epidemie 1 e 3 era l'aderenza alla realtà su cui tornerò osservata e registrata in tutti i particolari di rilievo ma al tempo stesso nell'intento di cogliere quanto permane costante nel decorso della malattia il medico era però costretto proprio per il suo senso della realtà e del concreto a riconoscere l'esistenza di eccezioni per cui non si poteva parlare propriamente di legge ma di tendenza per forza di cose diceva la logica del hoi pleistoi si sostituiva alla logica dei pantes emerge qui un punto che avrebbe sempre caratterizzato l'analisi di Benedetto il peso decisivo assegnato al lavoro linguistico dei medici nel caso in questione si trattava di rilevare l'espressione linguistica attraverso le quali si manifesta questo atteggiamento attento a cogliere i percorsi tendenziali e i gradi di probabilità nei fenomeni da hoi pleistoi a mali stai l'acchiston os epitopoli una espressione importantissima per la cultura per esempio in isocrate o in aristote pensate alla fisica di aristote senza tener conto della nozione di os epitopoli sarebbe incomprensibile su una lida diversa invece secondo di Benedetto si collocava malattia sacra questo scritto non si limitava a registrare fatti ma diceva intende consapevolmente prospettare una sua teoria dell'origine delle malattie e presenta quindi in linea col precedente di Alcmeone dottrine anatomiche e fisiologiche interpreti moderni hanno dato grande importanza al fatto che l'autore di questo scritto rifiuta di attribuire uno statuto speciale alla malattia sacra in cui si ritiene sia da identificare l'epilessia sostenendo che non esistono malattie divine ma tutte sono divine in quanto tutte naturali e hanno considerato questo scritto come una spia importante appunto del clima di competitività non solo tra medici ma anche tra forme alternative di medicina di Benedetto non è interessato a questo aspetto si limita a osservare contro Pollens che parlare di cose divine non implica che l'autore riconoscesse la presenza nel mondo di una razionale giustizia divina dubbiamente l'autore di Malattia Sacra era una personalità notevole il cui spirito critico dice Vincenzo si accompagna una forte esigenza di sistemazione teorica ma è proprio questo prevalere di teorie generali in certo modo a prioristiche non agganciate adeguati corredi osservativi che spiega credo il fatto che di Benedetto anche nel libro maggiore dell'86 non affronta l'analisi di scritti per esempio come il peritecnes o natura dell'uomo o aria a quei luoghi o regime caratterizzati appunto da massicci impianti teorici generali sconfinanti con la filosofia eccezione rilevante sotto questo aspetto è ovviamente medicina antica su cui di Benedetto è tornato ripetutamente ma la cosa si spiega dato credo il carattere peculiare del discorso teorico di questo scritto caratterizzato da un fondamentale empirismo lo dice di Benedetto stesso che di Benedetto rabbisa coniugato con un altrettanto fondamentale materialismo anche inventere medicina ricorrono indicazioni di probabilità di proporzionalità tra due fattori di tendenza ma spesso dato il livello delle conoscenze scientifiche dell'opera l'autore si trova di fronte a una realtà di cui prende atto l'impossibilità di pervenire a una misura esatta anche se indiretta del fenomeno e quindi la necessità di riconoscere che non si può evitare l'errore bisogna accontentarsi della maggiore approssimazione possibile nucleo centrale del quadro teorico di questo scritto e quindi da lui ravvisato nella questione del metron ravvisato nell'aestesis del corpo ora contro Jäger che pensava che il corpo in questione fosse quello del malato e che quindi si fosse un riferimento al suo tactgefühl alla sua intuizione il che portava ad accostare la posizione di medicina antica al relativismo di Protagora di Benedetto preferiva accogliere l'interpretazione che aveva già dato Theodor Gomperz che si trattasse del corpo del malato cioè la sensibilità del corpo del malato di fronte all'alimentazione medicina antica diceva di Benedetto studia reazioni oggettive indipendentemente dalla coscienza del soggetto su Protagora visto agli antipodi di un corretto atteggiamento scientifico e di un razionalismo attento al carattere oggettivo della realtà ma personaggio decisivo per la cultura della seconda metà del quinto secolo e poi ancora per Platone di Benedetto sarebbe tornato ripetutamente anche a proposito del frammento dello scritto sugli dei un tema a cui non poteva non guardare con simpatia ma il punto di riferimento positivo la linea nella quale innestare l'indagine dei medici non erano dati a suo avviso né dal sofista Protagora né dal suo avversario Platone bensì dal naturalismo dei filosofi ionici nel libro su Euripide del 71 egli afferma che il carattere cito fondamentalmente materialistico deterministico della filosofia ionica sino ad Anassagora e Archelao non può essere misconosciuto nonostante che opere come quella di Jäger sulla teologia dei primi pensatori abbiano voluto richiamare l'attenzione sul carattere religioso di queste speculazioni ma si tratta di un'interpretazione che valorizza eccessivamente un aspetto che non era essenziale in questi pensatori che si proponevano anzitutto di conoscere il problema della natura anzi la testimonianza dello stesso fedone pratonico era preziosa indicazione della componente materialistico deterministica del pensiero di Anassagora al binomio empirismo e materialismo di Benedetto associa un terzo termine storicismo ed è cosa assai significativa se si pensa che cosa implicava questa parola in Italia negli anni in cui compare quel suo primo articolo eccezionale rispetto al resto del corpus è per di Benedetto il senso storico di medicina antica che ha a suo fondamento una concezione dell'utile come fattore determinante nello sviluppo dell'umanità e questo suo conseguente materialismo affiora anche altrove come non condivide il presupposto di un'antitesi tra empiria e scienza che non abbiamo motivo per ritenere che fosse presente nell'antica medicina greca dice così di Benedetto non condivide una opposizione o separazione tra empirismo e materialismo cosa che invece avveniva sovente nei dibattiti teorici del tempo vale la pena citare un passo decisivo rivelativo dell'immagine e concetto di scienza proprio di fatto proprio da Di Benedetto si trattava di un empirismo che intendeva rispecchiare con la maggiore approssimazione possibile la realtà esterna al soggetto e in effetti nell'antica medicina greca non si può in ultima analisi tirare un taglio netto tra empirismo e materialismo è significativo il fatto che proprio in quei medici forniti di maggiore cultura come l'autore del Deprisca Medicina appaia più evidente una concezione materialistica della realtà faccio notare che anche il termine rispecchiamento è indice del tempo se si pensa all'importanza che Lukács aveva in quegli anni e alle tematiche del realismo in funzione anti-idealistica non credo di sbagliare dicendo che per queste riflessioni che sono l'impianto teorico che sorregge le indagini di Vincenzo sulla medicina antica era decisivo il rapporto con Sebastiano Timpanaro da lui frequentato sin dai primi anni pisani nel 67 sempre su critica storica Di Benedetto pubblica un saggio su Leopardi e i filosofi antichi dove punto di partenza era ovviamente classicismo e illuminismo nell'ottocento italiano di Timpanaro libro che Di Benedetto aveva recensito nel 69 nella rivista di filologia e istruzione classica qui tra l'altro affermava e cito questo passo perché secondo me è molto significativo oggi che non ci siamo sufficientemente liberati siamo nel 69 liberati dalle suggestioni yegeriane un ripensamento sulla matrice razionalistica di alcuni aspetti fondamentali della cultura antica può riuscire molto produttivo un altro dei suoi stilemi produttivo come sapete se non altro perché può contribuire a confutare definitivamente una concezione platonocentrica dell'antichità classica concezione è inutile dirlo profondamente antistorica nel senso che è contraddetta dai dati di fatto e può inoltre spingere ad approfondire la ricerca sottolineo su certi settori non sufficientemente studiati della cultura antica dove credo ci sia un riferimento proprio alla medicina antica a Timpanaro di Benedetto attribuiva il merito di aver contribuito a suscitare un rinnovato interesse per il materialismo che è uno dei fatti più importanti della cultura italiana del dopoguerra che la nozione di scienza al fondo delle indagini di Benedetto fosse modellata sulle scienze empiriche più che su quelle matematiche mi pare confermato dall'introduzione al simposio di Platone pubblicata nell'85 non posso fermarmi a discutere questo perché mi porterebbe lontano mi limito semplicemente a dire che lui fa riferimento all'uso della nozione di ipotesi che si trova termine che si trova sia in medicina antica sia ovviamente nella repubblica di Platone e tende però ad appiattire l'una sull'altra cioè quindi la dimensione propriamente matematica della nozione di ipotesi in Platone che ha connessa al problema della coerenza e consistenza logica non entra nei suoi interessi lui per ipotesi pensa a qualcosa che deve essere verificato in qualche modo empiricamente ma è chiaro che per la matematica questo aspetto non tiene però questo secondo me conferma che il suo interesse predominante era per le scienze empiriche qualificare la medicina ipocratica come scienza suscita d'altra parte il problema del nesso tra scienza e progresso Timpanaro come sappiamo era contrario alla nozione cuniana di rivoluzione e paradigmi ma anche a quella linea Bachelard Althusser Foucault di coupure epistemologiche anche ammesso che siano applicabili nelle scienze esatte nelle scienze umane sanno di fantasia specie in filologia qui non esiste progresso totalmente distruttivo del paradigma preesistente Giovanni Fiesoli in un intervento su Timpanaro ha ricordato quel che diceva Timpanaro le corruttele testuali stanno alle malattie come i filologi ai medici nel ricordo di Maria Timpanaro pubblicato sul ponte nel 2001 Di Benedetto avrebbe rievocato la situazione di Pisa favorevole alla storia della scienza negli anni della sua formazione grazie ai lavori di geografia antica di Peretti ma soprattutto le ricerche esemplari diceva di Maria Timpanaro Cardini nell'ambito soprattutto della storia della matematica ma anche della medicina si pensa in particolare sui studi su Almeone ma introduceva anche un'importante osservazione il problema del confronto e dello sviluppo ha poco senso in poesia ma cito la nozione di uno sviluppo scientifico si ripropone quando si tratta di ambiti di conoscenza caratterizzati da strette interconnessioni di modo che la singola acquisizione può risultare manifestamente incompleta oppure quando si guarda nel suo complesso la cultura di un'epoca e si fa entrare in gioco la nozione di frequenza si ripropone ma non con la cogenza della necessità ma secondo Di Benedetto per Maria Timpanaro che sentiva fortemente l'impatto etico dell'acquisizione nel vero il confronto e la nozione di sviluppo erano vitali come l'aria che respirava aggiungerei che la nozione di sviluppo poteva più agevolmente essere applicata all'ambito delle matematiche anche se non meccanicamente privilegiato appunto da Maria Timpanaro ma forse meno nell'ambito della medicina antica costellata da posizioni molteplici quadri teorici diversi non di rado alternativi e di Benedetto uno dei problemi che tormentavano e hanno tormentato di Benedetto nel suo approccio agli iscritti medici antichi è quello di cercare di individuare se esistono delle cusche più antiche e cusche più recenti che è un'impresa estremamente difficile che è un'impresa estremamente difficile io qui ho analizzato alcuni suoi iscritti ma mi interessa soltanto farvi notare che questo era un problema importante lo vedo invece mi soffermo invece sul modo in cui questo problema si accosta alla questione delle due scuole di Cnido e di Cos nei suoi primi articoli di Benedetto sembrava accettare la distinzione tra le due scuole scuola di Cnido e scuola di Cos anche in senso cronologico così nel 70-71 ravvisava in regime delle malattie acute dove centrale l'attenzione al singolo malato un progresso rispetto ai medici Cnidi per i quali centrale la malattia in generale ma che dato il livello della conoscenza scientifica dell'epoca si trovano in un vicolo cieco nel 74 come sappiamo esce il libro di Joannat pur in archeologie dell'école de Cnido e l'anno successivo il primo volume di Grenzman Cnidische Medizin entrambi partivano dai cenni alle cosiddette sentenze Cnidie nei regime delle malattie acute sentenze Cnidie che sarebbero state caratterizzate da descrizione di sintomi di singole malattie cenni prognostici scarse prescrizioni terapeutiche ma Joannat cercava di individuare quali scritti del corpus fossero riconducibili ad esse si trattava a suo avviso di malattie 2 affezioni interne sino ai più recenti di affezioni vuse malattie 1 mentre Grenzman riteneva necessario fondarsi anche sulla tradizione posteriore relativa alle sentenze Cnidie non solo sull'analisi interna dei singoli scritti a prescindere dalle differenze comunque entrambi affermavano una distinzione tra le due scuole nel 76 vabbè qui io avevo osservato appunto reduce dal convegno di Monz avevo constatato come questo problema delle due scuole Cnidio e Cospos centrale nel dibattito internazionale di quegli anni eravamo quattro gatti e a Monz non eravamo poi non eravamo moltissimi però lo status della questione era quello in quegli anni e comunque al centro era questa questione ora chi è stato presente al colloquio ipocratico successivo del 78 a Parigi e ricorda la devastante demolizione della ipostatizzazione delle due scuole di Cosse e Cnido compiuta in quella circostanza da Di Benedetto egli prendeva in esame le testimonianze antiche da un'iscrizione di Delfi del IV secolo a Galeno per mostrare che non esistevano elementi per poter parlare di due scuole distinte sul piano istituzionale nel mondo greco oltre Cnido e Cosse erano esistiti altri centri dove la medicina era praticata in modo rilevante Rodi Cirene Crotone nello stesso corpus non c'è alcuna testimonianza che parli di una contrapposizione Cnido Cosse ma non è possibile distinguere le due scuole neppure in base a dottrine o elementi teorici caratteristici di ciascuna e Di Benedetto lo documentava attraverso un esame della teoria degli umori dove le posizioni sono ben più di due certo è legittimo diceva cercare di individuare alcune caratteristiche delle sentenze Cnidie e cercare di ritrovare queste caratteristiche in alcune delle opere del corpus come avevano fatto con diceva contributi di grande importanza Giovanna e Grenseman ma i loro lavori risultavano viziate alla base al di là dei loro meriti specifici dall'ipotesi di una distinzione Cnido e Cosse e le stesse sentenze Cnidie non coprivano l'intero arco dei medici attivi a Cnido la discussione sarebbe continuata ma non posso seguirla qui quando nell'83 pubblica la prefazione alla raccolta curata da Lami scritti ipocratici è proprio sui cosiddetti scritti Cnidi che di Benedetto appunto ha la sua attenzione in particolare su affezioni interne e malattie 2 richiamando che su questi scritti erano importanti le indagini di Joannà con la limitazione detta ora la novità di questa prefazione è data però dal raffronto di questi scritti con testi egizi e babilonesi dove si ritrova lo stesso ordine espositivo nonché l'uso dell'antecedente del condizionale per introdurre la sintomatologia e del conseguente che riguarda invece il pronunciamento sulla curabilità del caso e l'indicazione prognostica si tratta diceva di Benedetto di moduli dotati di una forte carica di arcaicità nei testi greci però se aveva una concezione meno statica della malattia pur permanendo questo tipo di struttura questo uso del condizionale in questo caso come si vede di Benedetto ha ritenuto possibile istituire una sequenza cronologica fra questi testi orientali e quelli greci e al tempo stesso rilevare in questi ultimi greci tratti di arcaicità che consentono di collocare in una fase meno avanzata della scienza ipocratica cioè quel problema dello sviluppo e del progresso che dicevo prima ora io credo che nell'opera di Benedetto anche nel libro maggiore rimanga una tensione tra il riconoscimento che entro uno stesso segmento temporale anche posizioni culturalmente arretrate rispetto ai nostri standard possano coesistere con altre più consapevoli avanzate dal punto di vista metodico e l'esigenza di pervenire anche a determinazioni cronologiche c'è una tensione tra questi due aspetti che di volta in volta lui sottolinea pervenire a determinazioni cronologiche quando è possibile su dati oggettivi c'è il famoso caso di quella stella di cui si parla in una degli scritti sull'epidemia eccetera eccetera su cui c'è stata una lunga discussione a partire da Deigreber eccetera eccetera ma a volte anche in base a una comparazione tra elementi metodici e teorici nell'introduzione all'antologia di Lami però emergono anche altre novità in primo luogo l'attenzione per la denominazione delle malattie e in secondo luogo il rilevamento dei limiti dei mezzi terapeutici del medico antico da ciò di Benedetto traeva la conseguenza che tra gli ultimi decenni del quinto e il primo del quarto tende a porsi fuori campo il modo in cui curare singoli stati morbosi e a imporsi la necessità di non provocare cambiamenti che vadano contro le abitudini del malato e di formulare per converso concezioni generali della malattia ma la novità più importante qui a mio avviso è data dall'attenzione riservata agli scritti chirurgici fratture e articolazioni considerati parti di un'unica opera forse il punto più alto diceva della medicina del quinto e quarto secolo dove si raggiunge forse anche un grado molto alto di efficacia terapeutica ora per tutti questi aspetti questa introduzione costituisce in nuce lo sui titoli del libro che Di Benedetto pubblica poi nell'86 col titolo Il medico e la malattia la scienza di Ippocrate già il titolo è emblematico ciò che a Di Benedetto interessa non sono teorie generali presentate in vari scritti del corpus su che cosa sia la malattia o in che cosa consiste la medicina gli scritti che affrontano a tale questione generali come ho già detto non sono al centro della sua indagine ciò che l'interessa sono i modi in cui una serie di medici autori si pongono di fronte alla malattia intesa come un dato oggettivo da osservare registrare e se possibile controllare nell'inscindibilità del binomio malattia malato l'orizzonte entro cui Di Benedetto intende muoversi è espresso chiaramente dal sottotitolo in gioco è la scienza che emerge nel corpus entro questo orizzonte alcuni capitoli rimpredono e sviluppano tematiche che aveva già affrontato l'analisi dei trattati tecnico-terapeutici la confutazione della distinzione cosecnido l'analisi delle nozioni di tendenza e probabilità ma vengono ad aggiungersi anche nuovi temi come una più ampia trattazione sul tema dell'alimentazione della dieta e altri che arricchiscono il modo di intendere la scienza di Ippocrate che costituiscono tra le pagine più significative del libro penso in particolare all'analisi dei disturbi psichici un ambito che non era ancora chiaramente nettamente concettualizzato ma basato sul presupposto di un continuum psicofisico per cui turbamento mentale era segno di sconvolgimento del malato nella sua totalità e dove soprattutto la donna data la sua posizione nella società diceva di Benedetto pagava un prezzo particolarmente alto a livello della sua psiche la cosa veniva evidenziata attraverso la malattia ma era la base anche di fenomeni collettivi di ampia portata qual era l'esaltazione dei riti dionisiaci e ovviamente qui l'importanza anche poi la ricaduta di tutto ciò sugli studi sulla tragedia ma anche sull'eros platonico eccetera così il capitolo sull'elaborazione e l'impiego della nozione di segno nei due modi possibili o perché il fenomeno segno è uno strumento per pervenire alla causa di ciò che viene percepito o perché attraverso il fenomeno segno si è in grado di prevedere lo sviluppo ulteriore dell'affezione morbosa ma anche nel libro credo la novità più rilevante è l'ampia terza parte dedicata a fratture articolazioni dove mostra che in quest'opera sono posti anche obiettivi di anatomia pura anche attraverso la rilevazione di differenze tra uomo e animali per cui secondo di Benedetto è legittimo individuare una linea che da fratture articolazioni porta a erofilo e resistrato rivedendo la tesi che attribuisce invece un ruolo di svolta decisiva a Aristotele cioè bisognava tener conto anche di fratture articolazioni si tratta di un'opera questa secondo Di Benedetto che sente il fascino dello strumento come prosecuzione e potenziamento della capacità operativa dell'uomo ma tutte le pagine di Di Benedetto in questo libro sono intessute con un'analisi sistematica della terminologia usata dai medici della formazione dei nomi indicanti alle malattie incluse le varie forme di disturbi psichici paure fobie manie frenite melancolia su denominazione a partire da parti del corpo dagli effetti provocati eccetera eccetera così la terminologia connessa alla nozione di segno semeion tecmerion martyrian come quella per rilevare gradi di probabilità o per la formazione del lessico anatomico nel caso degli scritti chirurgici non esito a dire che questo aspetto costituisce uno degli esiti più cospicui dell'indagine di Di Benedetto sulla medicina antica del resto si tratta di un aspetto questo che attraversa l'intera sua produzione anche l'introduzione al simposio di Platone ora dopo il libro Di Benedetto non scrive più sistematicamente sulla medicina ipocratica devo ricredermi perché grazie alla meritoria opera di Riccardo di Donato ho preso per la prima volta conoscenza di uno scritto sul giuramento di Ippocrate un breve scritto degli anni più tardi che però mi sembra un po' che si collochi a sé non rientri più in una linea dominante partecipa ad alcuni tra i successivi colloqui ipocratici ma senza contributi iscritti e allora nasce la domanda ma allora si era trattato solo di una parentesi anche se di una lunga parentesi nel suo ricordo di Edward Frankel del 2000 dirà che il tema di tendenze e probabilità non era appropriato per un rapporto di interlocuzione fra lui e Frankel cioè questo Frankel non gli interessava niente di tutto ciò eppure a mio avviso c'è un elemento di continuità fra i suoi studi sulla tragedia che ovviamente lo avevano assai avvicinato a Frankel e quelli sulla medicina antica nel lessico critico di Benedetto c'è un'espressione tipica che ricorre sistematicamente con una grande frequenza un vero proprio stilema credo ed è questa espressione modo di porsi di fronte alla realtà cui corrisponde nel lavoro del filologo diceva diceva il modo di porsi di fronte al testo aspetto questo che gli sottolineava per Frankel si tratta di un appello alla ricerca di oggettività e al tempo stesso del riconoscimento dei limiti che la realtà stessa pone a ogni impresa pratica e conoscitiva umana in linea con Timpanaro di Benedetto riflettendo nel libro su Euripide del 71 sull'attualità di un'opera antica rilevava che ci sono costanti malattie invecchiamento morte erotismo spinta verso illusioni consolatorie religiose e arte e basta pensare a tante pagine di Timpanaro su questi temi ma che ciò che è eterno e ciò che è contingente sono dissociabili solo per via di astrazione questo senso della realtà vista in tutta la sua complessità e drammaticità è ciò che lega in un filo comune in un comune contesto culturale di forte tensione razionalistica i medici i tragici i tucidide nella seconda metà del quinto secolo è il riferimento a questa dimensione che permetta di Benedetto di istituire talora anche confronti con la filosofia coeva e immediatamente successiva sino a Platone oltre il quale mi pare che il suo sguardo però non si sia mai esteso sistematicamente ricordo soltanto le pagine in cui metta a confronto la fedra dell'Ippolito di Euripide e la polemica di Socrate contro la tesi diffusa che nonostante uno conosca il bene tuttavia a volte commette il male l'analisi porta di Benedetto a concludere che in realtà non sussiste contrasto come per lo più si è interpretato col socratismo conoscere il bene attuarlo solo che questo proposito coincide nel caso di Euripide con l'autodistruzione del personaggio l'ottimismo diceva che sta alla base della concezione socratica della conoscenza come sufficiente a garantire agli uomini la felicità e quindi scalzato alle fondamenta esso contrasta con una concezione tragica o anche più semplicemente realistica della vita di Benedetto di Benedetto riconosceva a Eric Dotz il merito di esplorare aspetti poco considerati della cultura greca e di contribuire a demolire la concezione neo-umanistica della grecità ma gli imputava di partire nel suo saggio seuripidi irrazionalista da una concezione ristretta di razionalità presupponendo che la struttura della realtà stessa sia in qualche senso razionale faccio notare che anche Momigliano nella sua recensione ai greci e l'irrazionale aveva sottolineato come quel che mancava nel libro di Dotz era un chiarimento sulla nozione dell'opposto di irrazionale cioè di irrazionale che cosa intendeva Dotz per razionale in qualche modo qualcosa di simile c'è anche qui ma allora obiettava di Benedetto si sarà costretti a negare anche il razionalismo di Tucidide o dei medici greci posti costantemente di fronte a una realtà disumana e non certo organizzata secondo leggi razionali eppure il razionalismo di questi medici si manifesta nel fatto che essi elaboravano nuovi metodi conoscitivi attraverso i quali erano in grado di registrare e ordinare i fenomeni che essi si trovavano di fronte cioè il razionalismo del V secolo non è tanto caratterizzato dalla convinzione o dall'illusione di trovare un ordine razionale nella realtà egelismo o di individuare dei principi capaci di determinare il comportamento dell'uomo ma piuttosto dall'esigenza di conoscere e registrare fatti senza nulla concedere a mistificatorie deformazioni della realtà sottolineo questo aggettivo mistificatorie che appartiene anche al lessico di quell'epoca il concetto di mistificazione era anche di uno dei miei maestri Pietro Chiodi nelle sue analisi di Heidegger eccetera non diversa da questo era per dimedetto il senso dello stesso lavoro filologico come esercizio razionale alla cui base c'è il testo anche per lui si possono impiegare le parole che gli usò nel 2003 per caratterizzare il lavoro di Timpanaro l'intellizione del testo poteva risolversi nell'accertamento del singolo dato documentato in quel testo stesso o poteva diventare l'avvio di un processo conoscitivo il cui esito era la struttura del reale da queste basi è uscita la scuola oggi più viva in Italia di studi sulla medicina antica grazie molte grazie professor Cambiano per questa bellissima lettura del lavoro di Vincenzo di Benedetto sulla medicina che mette il rilievo da una parte gli spunti e le novità metodologiche nello studio di questi testi e sottolinea come un dato di fondo efficace fin dall'inizio fino alla fine della sua relazione questo fondamentale rapporto e questa fondamentale messa in evidenza dei dati della realtà come elemento con cui inevitabilmente ci si deve confrontare come elemento di stimolo nell'azione sia del filologo sia dello storico della scienza e infine anche così credo che sia un elemento da non dimenticare questa opera di Benedetto nella formazione nella proposta di nuovi criteri di metodo nella proposta di iniziare in Italia un tipo di studi che ha portato a quella che appunto giustamente Cambiano ha definito nei suoi meriti di validità una scuola di studiosi di medicina alcuni li vedo qui presenti spererei che qualcuno di loro ci desse un contributo a questa riflessione ma naturalmente li ringrazio di essere venuti e apro quindi la discussione ho visto che stiamo anche parlando dell'impact factor di Benedetto nel novembre dell'85 a Neris Roseli mi ha mandato un strato da Casa Viva dove era cantaccio quel giorno d'estate il protagonista è un giovane archeologo che scava sull'isola di Kos e facendolo lì è molto utile in la mia tesi di laurea e questo perché insomma sono citato più spesso dello Schliemann in modestia a parte e quello che ha fatto l'autore è che ha copiato una parte della prefazione di scritti opocratici di Vincenzo allora quello che dice Vincenzo della mia tesi lo copia insomma lo ho anche qui se volete guardare che non dico delle per mitomania ma forse anche per questo però siamo meris io volevo ricordare soprattutto tu hai cominciato dicendo agli inizi negli anni sessanta metà degli anni sessanta avanzata studio della medicina se ne eravamo tutti bambini era terra incognita ed è verissimo e credo che questo abbia veramente ha avuto un'influenza fondamentale proprio nel formare gli allievi perché ha buttato una quantità di giovani inespertissimi ma che non avevano nessun retroterra di nessunissimo genere a lavorare con lui su testi che lui andava scoprendo di volta in volta a sua volta perché è vero che l'articolo del sessanta sei tratta dei grandi testi quelli poi noti in antica medicina epidemia 1-3 male sacro prognostico che sono i capisaldi insomma diciamo però il passo successivo è epidemia 2-4-6 che è invece un terreno assolutamente ostico e quindi qua c'era questo lavoro di lessico su cui io insisto sono contenta che tu abbia insistito molto perché di lessico di strutture sintattiche di mancanza di strutture sintattiche di cercare veramente di leggere senza rete perché non c'è bibliografia non c'è passato se non i grandi ovviamente i grandi litre tutta la la letteratura assolutamente presente che allora noi non praticavamo più di tanto insomma quello era il punto di partenza e ognuno poi ha preso strade diverse insomma proprio perché era un campo di ricerca assolutamente completamente vergine e lui aveva una dimensione molto molto aperta e molto larga in questo in questo senso quindi dava anche compiti assegnava compiti completamente completamente diversi ed è vero che il libro comincia con la traduzione di un testo non c'è quasi nulla prima una presentazione ma lui entra così in media stress e questo facevano i seminari e questo vorrei ricordare veramente a tutti quelli che hanno vissuto i seminari di quegli anni ricorderanno veramente lo shock di avere questi testi assolutamente incomprensibili ecco che venivano fatti a pezzi e ricostruiti solo questo è un ricordo così proprio molto affettuoso si può anche aggiungere che lui era partito da Ippocrate i primi studi furono su Ippocrate adesso però gli studi sulla medicina antica si sono allargati in altri periodi e si arriva a Galeno eccetera quindi voglio dire è stato produttivo nel senso suo anche l'estensione ad altri ambiti cronologici ad altri autori e così via una breve conversazione con Peppe Gambiano alla fine della discussione di stamattina mi sollecita mi sollecita a intervenire a proposito di questa splendida ricostruzione di una parte essenziale del percorso di Vincenzo di Benedetto rispetto a una serie di categorie la prima delle quali è la categoria del materialismo e la mia riflessione sarà per usare un'immagine epica proposta nella condizione di chi come il fratello minore si mette dietro lo scudo e la piccola freccia che io lancio non ha nessuna pretesa di confronto con la lancia che Diomede ha appena appena scagliato la questione del materialismo Cambiano l'ha detto con grande chiarezza si pone per Vincenzo di Benedetto in un momento della storia culturale del nostro paese in cui questo era un discrimine c'era chi stava da una parte e chi stava dall'altra Vincenzo è arrivato a Pisa con idee relativamente chiare su dove voleva andare ma alcune influenze hanno precisato questa sua linea giustamente Beppe ha detto che l'influenza fondamentale resta quella di Sebastiano Timpanaro in questo campo Sebastiano Timpanaro non è stato soltanto l'amico il fratello maggiore ma è stato l'unico maestro al quale Vincenzo abbia riconosciuto questa funzione questa funzione si esplicava a una serie di livelli la mancata distinzione dei quali conduce a confusione primo livello livello dell'ideologia a livello dell'ideologia può sembrare parliamo di cose più lontane dei presocratici dei fisiologi era la distinzione fra materialismo storico e materialismo dialettico c'è gente che ha passato nottate a litigare schierandosi da una o dall'altra parte coloro che praticavano il materialismo storico ritenevano che il loro marxismo fosse praticabile cioè non fosse una analisi filosofica del reale ma fosse una premessa a una pratica politica e il materialismo storico di Vincenzo di Benedetto accanto a Sebastiano Timpanaro era uguale a quello di Maria Cardini che nel 1946 si occupava degli asili comunali di questa piccola città in ossequio alla sua fede socialista questo aggettivo è determinante per qualificare il marxismo di Vincenzo di Benedetto Beppe ha detto con chiarezza Vincenzo comincia nel 66 su critica storica e ha fatto il nome di Armando Saitta benissimo io ricordo il mio esame per entrare in questa scuola ricordo di essere stato interrogato da Armando Saitta settembre del 1965 la prima domanda che ho ricevuto e che non ho dimenticato quale atteggiamento ebbe Crispi nei confronti dei moti contadini in Sicilia cioè l'ideologia era il tratto dominante di un atteggiamento nei confronti di tutto a cominciare dall'opera intellettuale e dal lavoro di ciascuno quindi Vincenzo scrive sulla rivista che un socialista avvia per far praticare il materialismo storico tu sasimut per parlare come un altro amico del quale sto per rievocare il pensiero e non fu una scelta facile per lui fu una scelta molto coerente che lo inseri in una comunità che l'oreste di Vincenzo si è uscito nella collana della nuova Italia passa attraverso non passa attraverso timpanero correttore di bozze passa attraverso Tristano Codignola senatore del partito socialista nella stessa corrente intellettuale etica e politica che arriva poi al fatto che in quella stessa collana le mie amiche hanno trovato una collocazione innocente dal punto di vista ideologico perché loro non erano minimamente sfiorate da ciò che era stato prima ma quello che era stato prima era molto molto importante ora accade nella storia della cultura quello che accade in natura ci sono i fiumi poi ci sono dei fiumi che si inabbissano e che risorgono il fenomeno della risorgenza nella nostra lingua va distinto da quello della resurrezione perché questo è un fenomeno razionale si può studiare diciamo così e si possono fare le analisi chimiche c'è una risorgenza di interesse materialistico in Vincenzo nel momento in cui decide per spirito filologico applicato alla storia del pensiero di studiare gli etnological notebooks di Carlo Marx e dato che era una persona seria quelli di noi che sono stati suoi amici nella distinzione del pensiero per tutta la propria vita di adulti se lo ricordano con l'edizione del creder degli etnological notebooks che lui leggeva come leggeva gli altri testi in modo totalmente non diverso quello è il periodo della lotta contro le mistificazioni quello è il periodo di una discussione in cui l'aspetto dell'ideologia prevaleva su altri aspetti allora che cosa vuol dire evitare gli equivoci in questo campo vuol dire cercare di capire come a seconda delle stagioni del pensiero un autore si atteggia nei confronti del pensiero degli altri e non soltanto dell'oggetto della sua propria ricerca ma del modo in cui gli altri praticano quello che considera un cibo che solum gli appartiene c'è un sentimento diciamo così di legittima appropriazione dell'oggetto della ricerca che comporta alcuni atteggiamenti molti dei presenti tutti meno i più giovani anzi tutti meno i giovanissimi hanno incrociato la vitalità con cui Vincenzo praticava la sua passione conoscitiva non c'è niente da stupirsi che nella stessa stagione della riscoperta degli errori del materialismo dialettico in senso antidogmatico Vincenzo si sia posto il problema di misurarsi concorrenti di pensiero che riteneva contaminate o contaminantesi rispetto a questo fiume di cui si sentiva parte la questione che è stata evocata stamattina è esattamente quella che deve essere analizzata sui due versanti sottolineo sui due versanti con lo stesso rigore con cui studiamo i frammenti dei lirici perché non possiamo studiare i frammenti dei lirici con rigore e misurare i millimetri e quando parliamo di frammenti papiracei e non porci un problema di precisione e nelle definizioni quando ci misuriamo con la storia del pensiero hai evocato la nozione di historien du dimanche quando Fevre usa questa categoria lo fa nei combats pour l'histoire è una battaglia che si fa quella per la verità allora Franco ha assai opportunamente ricordato il modo in cui nel 2004 nell'ultima visita di Jean-Pierre Vernant in Italia Vincenzo già seriamente ammalato abbia di sua spontanea volontà deciso di venire espressamente nella circostanza in cui Vernant partecipava a un nostro seminario di presentazione della Polivalence des Images e nello stupore di molti ma non di chi vi sta parlando Vincenzo recitò un elogio che riempì di gioia Vernant poco prima che la malattia lo sottraesse alla possibile attività quali sono i termini sull'altro versante in che cosa consiste il marxismo di Vernant il marxismo di Vernant ha una origine filosofica nella sua formazione e soprattutto nella formazione della generazione cui ha appartenuto e quindi ha una origine nel razionalismo delle Lumiere la sua tesi è su Diderot non su Carlo Marx ma è immediatamente pratica politica ed è esperienza di vita è un insieme che entra in crisi nella sua forma di pensiero nell'immediato dopo guerra la famiglia Vernant si componeva di due persone una delle quali la moglie Lida ha tradotto i quaderni filosofici di Lenin dal russo al francese e ha tradotto gli scritti di Stalin per le editions sociales quindi il livello di integrazione nel marxismo organico francese è un fatto storico rispetto al quale non si possono fare capriole da un punto di vista culturale l'orientamento culturale di Jean-Pierre Vernant è ispirato dalla psicologia storica storica è lo stesso aggettivo del materialismo storico ed è una filosofia antifissista è il termine che usava il suo maestro Ignace Meyerson che non può accettare forme dogmatiche o strutture se dobbiamo parlare di marxismo francese Suzanne frequentava le stesse stanze della Rue Monsieur le press quando alla fine degli anni settanta ho cominciato a frequentarle se c'è un nome che non poteva comparire in quelle stanze è quello di Althusser che era il marxismo dialettico francese il materialismo dialettico francese per cui c'è un crinale che è effettivamente molto sottile camminando sul quale è possibile cadere è anche possibile non incontrarsi i due a livello del pensiero non si sono mai incontrati e questo è assolutamente chiaro sul piano della reciproca comunicazione intellettuale le cose stanno in modo completamente diverso nel senso che io serenamente e con gioia posso testimoniare del fatto che i due si stimavano oltre che rispettarsi nel senso che Bernat non ha mai inteso di infrangere la soglia che aveva stabilito e che ha sempre tenuto a dire che la prefazione a Mite Tragedie II era esclusivamente scritta da Pierre Vidal Nacchi il quale aveva uno spirito diverso e si era diciamo lasciato andare a quella replica bruciante che agli occhi del dibattito internazionale ha creato il caso concludo con un pensiero le culture sono diverse fra loro se ad uno di noi viene chiesto di scrivere un articolo in una circostanza celebrativa di uno studioso pochi sono capaci di imitarne lo stile e pochi si pongono persino il problema di imitarne la linea del pensiero qualcuno si vada a vedere per chi è stato scritto tensione e ambiguité qualcuno si vada a vedere in quale circostanza si è voluto dedicare a uno studioso o a un altro a benveniste piuttosto che a Levi Strauss e cerchi di capire che il micro contesto va tenuto in considerazione e va rispettato concludo con un pensiero che non vuole essere di alleggerimento o di ironia è una cosa che mi è capitato di dire a Vincenzo io penso che pochi uomini hanno avuto problemi con la nozione di tensione fino al limite della ambiguità nel rapporto con il problema della conoscenza come il mio amico Vincenzo di Benedetto e che non accettare alcune di queste nozioni perché fanno scomparire la bellezza della verità che può essere una soltanto e non trina e diciamo è un limite non diverso da altri che altri hanno avuto pare che comunque la lezione di cercare il riferimento oggettivo l'ancoramento la realtà questo sia stata una costante di tutto il suo lavoro quindi anche il suo lavoro testuale rientra in questa forma mentis più generale sono altri interventi se non ci sono ringraziamo ancora una volta il professor Gambiano grazie a voi e a questo punto ci avviamo al nostro ultimo intervento invitiamo quindi professor Bruni a parlarci degli studi di letteratura italiana di Vincenzo Di Benedetto con molto piacere che introduciamo l'intervento del professor Bruni dell'Università di Firenze il professor Bruni come saprete è autore di numerosissime pubblicazioni sulla letteratura italiana da Petrarca fino alla letteratura contemporanea e in particolare uno dei campi di studi privilegiati è proprio la letteratura neoclassica ha pubblicato numerosissime edizioni e saggi tra cui Foscolo polemista del 94 poi due saggi recenti del 2007 e del 2008 Foscolo traduttore poeta e belle vergini le grazie tra Canova e Foscolo ha inoltre curato molte edizioni di testi di Foscolo gli sepolchi della traduzione di Monti dell'Eliade dell'esperimento di traduzione dell'Eliade di Foscolo e di numerosi altri testi italiani con particolare attenzione per Monti e Parini e quindi con molto piacere che gli diamo la parola per il suo intervento grazie ringrazio e anche per me non è ringraziamento retorico per queste generose parole di presentazione e soprattutto per l'invito che molto mi onora perché essere chiamati a parlare di un atleta degli studi come Vincenzo di Benedetto è indice di distinzione automatica anche per me c'è diciamo l'imbarazzo e l'emozione di cui diceva stamani Barbara Graziosi di dover parlare di un uomo che non ha avuto il piacere di incontrare quindi mi trovo a cercare di estrarre diciamo le competenze culturali di De Benedetto dalla sua sfera libresca senza l'accesso alla mediazione dell'uomo in più c'è la responsabilità oggettiva perché credo di essere forse l'unico italianista in sala quindi come dire i giudizi che ora esprimerò costituiscono in qualche modo una forma di apertura della corporazione diciamo abbastanza indegnamente gli studi di italianistica di Vincenzo di Benedetto si assestano su misure sicure nel quadro di una bibliografia amplissima due libri dedicati rispettivamente a Foscola e Manzoni e l'edizione critica commentata del sesto tomo dell'Io di Foscolo al trittico maggiore vanno aggiunti i 15 capitoli figuranti nel quarto volume della raccolta di saggi sparsi il richiamo del testo si tratta tanto per intendersi con l'ausilio dell'aritmetica elementare di 270 pagine in ottavo grande e dunque di un altro libro dissimulato di una saggistica che corre da Dante due studi a Montale due scritti passando attraverso due note petriarchesche un contributo sulla Gerusalemme liberata sei interventi di Foscoliani infine un saggio su Manzoni e uno su Leopardi l'indice dichiara dunque che l'interesse di De Benedetto ha attraversato per intero l'arco cronologico della letteratura italiana con soste obbligate sulle stazioni maggiori in un percorso che lascia affiorare apertamente le sue inevitabili predilezioni mi pare di poter dire che l'impegno di Versati in servizio della letteratura nazionale venga subito dopo l'ambito professionale del grecista superando di gran lunga le numerate immagini di letteratura latina che pure Di Benedetto ha frequentato direttamente dal momento che ha insegnato anche filologia greco-latina l'appassionamento speciale per la letteratura italiana va ricondotto con tutta probabilità alla militanza civile e politica dell'uomo che ha saputo assumere posizioni ideologiche esplicite e coraggiose in tempi difficili per l'ideologia prescindendo ora dal merito e anche a fattori esistenziali emergenti sullo sfondo a proposito di Foscolo lo stesso Di Benedetto ha ricordato in un'intervista giornalistica che tale amore risale all'infanzia e agli anni di liceo mentre l'appassionamento tecnico è stato propiziato dall'edizione critica delle grazie dovuta a Mario Scotti uscita nel 1985 è lecito presumere che sulle precondizioni di base abbia agito poi quella curiosità naturale per problematiche aperte acquisita alla scuola di Giovanni Pugliese Carratelli del cui Magistero di Benedetta ha riconosciuto la centralità in anni decisivi della sua formazione dato cito le sue parole il carattere interdisciplinare della sua cultura e anche del suo insegnamento del resto il nome di Giovanni Pugliese Carratelli è stato evocato proprio stamani il nodo biografico comprensivo di suggestioni esistenziali e di indicazioni di scuola giustifica l'intensità di un lavoro applicato perfino a sponde filologiche complesse si pensi alla decodifica vittoriosa dei geroglifici dell'abbozzo di foscolo del sesto tomo dell'io distinto da cassature frequenti tali ambiti si deve precisare sono del tutto insoliti per studiosi che pure allarghi nel loro campo di interesse è inimmaginabile poniamo un esempio contrario voglio dire quello di un italianista che si dedichi alla decifrazione di codici latini o greci in vista di un'edizione critica di un classico antico il fenomeno si sa non è isolato e nasce nell'ambito di una scuola magistrale come quella di Pisa che può allineare sullo stesso versante nomi prestigiosi ricordati da Di Benedetto come colleghi lettivi pensando almeno a Antonio La Penna e Sebastiano Timpanaro insieme con questa buona compagnia Di Benedetto coltivava il gusto per il confronto serrato con gli altri studiosi manifestato soprattutto nel dissenso e addirittura nella polemica aperta nel fuoco di analisi di formi con qualche peculiarità che merita di essere sottolineata in apertura gli argomenti di Di Benedetto ricondotti alla dialettica del confronto discutendo di Foscolo discutendo di Manzoni si intitolano due repliche pepate a critiche ricevute sono concentrati costantemente sulla testualità e prescindono sempre dai personalismi o gran virtù dei professori antichi così dovendo differenziare la sua interpretazione da quella altrui Di Benedetto non esita a derubricare a lapsus in influente la definizione sua un errore grave dell'interlocutore cioè l'attribuzione a Orazio di un verso in realtà di giovenale in base alla medesima deontologia sono continui i generosi riconoscimenti dei meriti dei singoli studiosi nell'escussione della biografia secondaria frequentata da Di Benedetto con minuziosa competenza da italianista provetto in area antica e moderna di là dalle forme colpiscono poi le acquisizioni ricavate dal fruttuoso confronto che vanno ben oltre il perimetro delimitato dalla vispolemica per Foscolo per esempio è nel fuoco del dibattito che Di Benedetto precisa alcuni spunti essenziali ridotti a schema illustrativo per quanto concerne il primo carme cito il rigetto nei sepolcri della linea materialistico nichilistica che affiora nell'Ortis soprattutto nella parte nuova del secondo Ortis due il rigetto dell'esperienza oraziano satirica quella propria dei sermoni tre il procedimento di depoliticizzazione rispetto all'orazione a buona parte nonostante alcuni punti di riscontro quarto il contatto con Pindemonte e più in generale con tutto un filone di cultura moderata anche francese fin qui la citazione a questi motivi conduttori che costituiscono novità interpretativa di grande momento Di Benedetto aggiunge la corretta lettura del poema omerico da parte di Foscolo che cito nella parte finale dei sepolcri coglie della poesia omerica cioè dell'Iliade un dato essenziale quale è quello della evidenziazione del lutto e della prospettiva di morte su tale impianto si inserisce poi il messaggio antibonapartista del carme che esalta un vinto non un vincitore intacita contrapposizione di Ettore all'Achille assiso sul trono imperiale nel caso della polemica manzoniana condotta avendo alle spalle la guida ai permessi sposi appena pubblicata risulta inevitabile la conferma delle sue tesi relative alle fonti che implica il richiamo a immanenze antiche Agostino e Petrarca ma non Omero e fra i moderni non Laclos ma soprattutto Rousseau anche in questo caso ricorre una giunta stimolante l'intuizione dell'immanenza del linguaggio tragico da Racine a Shakespeare nella tessitura della prosa manzoniana che in quanto priva di modelli era vincolata alla polifonia di afferenze diverse talora sorprendenti frasaggi autonomi intendo dire non dettati da ragioni occasionali ha uno spicco particolare sul versante antico lo scritto dedicato a Dante intersezioni di registri espressivi nell'episodio di Ugolino del 1994 che si segnala per l'importanza delle nuove fonti esibite la tebaide di Stazio per il conto Ugolino che morde il cranio dell'arcivescovo Ruggeri Giobbe per le parole dei figli di Ugolino lo scritto si distingue soprattutto per la contestazione aperta della tesi tecnofagica evocata scrive di Benedetto con intensa simpatia intellettuale da un critico e da un dantista di eccezione come Gianfranco Contini la razio della posizione alternativa di Di Benedetto si fonda sulla rilettura della lettera a Can Grande in cui l'Alighieri accenna al teatro di Seneca senza però citare il Tieste mai ricordato anche altrove importante il Tieste per accreditare l'argomento positivo si riscontra inoltre l'assenza di un rapporto di continuità logica fra l'endecasillabo finale poscia più che il dolor poter il digiuno con quanto immediatamente precede scrive di Benedetto in più con l'ipotesi tecnofagica si avrebbe anche l'incongruenza che il racconto di Ugolino finirebbe senza che essa arrivasse al termine finale costituito dalla morte di Ugolino tale difformità divarica la prassi del poeta che in tutti gli altri grandi episodi di equivalenza simmetrica Paolo Francesca Piccarda ha cura di relazionare il verso sfraghiss con l'evidenza conclusiva del contesto in area moderna impressiona per la sua c'è il saggio che è il saggio su un montale fra trascendenza e immanenza ancora del 94 che si apre con una verifica testuale condotta sul tacuino pavese del poeta e dunque con correzioni del tutto persuasive rispetto alla lezione dell'opera in versi di Bettarini Contini in particolare nel primo verso la trascendenza in cielo figuriamoci invece di la trascendenza è in calo figuriamoci l'analisi continua con significativi rilievi dedicati alla svolta ideologica di Montale riconducibile al 1968 al suo antimarxismo e al suo rifiuto dello storicismo di marca crociano idealistica dunque con un esame che trascorre con disinvoltura dal controllo autoptico dell'autografo alle ragioni ideologiche di sostegno al testo il secondo scritto di Montaliano interpretazioni del Montale inedito del 95 depone a favore della curiosità del critico che si pronuncia con un intervento militante sulle prime poesie del diario postumo uscite a partire dal 1986 prima ancora della pubblicazione in volume nella veste definitiva del 1996 si deve precisare che erano emersi allora soltanto i dubbi di merito sollevati da Giovanni Raboni nel 1986 mentre era di là da avvenire l'impugnazione dell'autenticità dell'opera da parte di Dante Isella dovuto a Montale di Isella che è del 1997 che propende risolutamente per il suo carattere apocrifo oggi in via di conferma pare notevole comunque che di Benedetto titolare evidentemente di un buono orecchio per la poesia osservi in relazione alla grana stilistica del Vienne de Paretre cito che la scrittura diventa più immediatamente comprensibile ma anche più banale ma anche più banale date le peculiarità di metodo si può dire che corra un filo rosso di continuità fra saggi sparsi e tre libri maggiori a cominciare dallo scrittoio di Ugo Foscolo titolo che riecheggia il precedente di Giuseppe Billanovic dedicato a Petrarca si tratta di un libro interminabile di ben 468 pagine del tutto inusuale a norma delle misure della critica contemporanea sembra quasi che l'affezione al poeta impedisca di Benedetto di staccarsi dal tema chi non ceda la tentazione di consultare l'opera in base alla varia problematica magari in virtù dell'analitica scansione interna ma si attenga a una lettura progressiva rimane come estordito e sopraffatto dall'abbondanza dei dati puntuali prodotti in servizio fitti di riscontri interni ed esterni per lo più pertinenti nelle varie proposte tanto per cominciare è necessario precisare che il titolo allusivo al laboratorio del poeta volutamente generico non deve lasciare interdetti perché il volume costituisce una vera e propria monografia sub specie filologica dell'opera di Foscolo in questo senso è davvero unico atteso che lo scandaglio dello studioso attraversa per intero tutto il cantiere della produzione poetica di Foscolo a partire da Sionetti parte prima per giungere ai sepolcri parte seconda e infine alle grazie parte terza la straordinaria articolazione resa poi accattivante dall'originalità degli approcci denunciati dai titoli dei 27 capitoli distintivi senza trascurare le 6 appendici finali intesa da approfondire aspetti peculiari per varie ragioni rimaste esclusi dalla sistematica esplorazione che precede è un libro dunque di grande laboriosità e di intensa preparazione che trasferisce nell'ambito dell'italianistica al dispositivo di quella filologia formale precocemente appresa magari in maniera ancora inconsapevole fin dal liceale tramite la frequentazione dichiarata da Di Benedetto di un'antologia della lirica greca ad uso dei licei Polimnia di Gennaro Perrotta e Bruno Gentili dunque di derivazione pasqualiana se ne è parlato anche stamani di Polimnia si può aggiungere come dire un aneddoto se volete abbastanza singolare e divertente perché appunto in questa antologia ad uso dei licei che appartiene alla grande tradizione della letteratura scolastica degli anni 50 e che era attiva anche nella storia e nella letteratura italiana figura antologizzata la 14esima Olimpica di Pindaro e nel cappello introduttivo si dice che questa Olimpica è alla base delle grazie foscoliane ebbene la tesi è ripresa di Benedetto con una sottolineatura esclusiva nei suoi studi e per esempio non cita pure altri testi greci che sono stati a mio avviso con buone ragioni ricordati che so il diciottesimo libro dell'Iliade o la Spis attribuita a Esiodo e che fanno gioco quasi come un tributo a questa passione giovanile di Polinia che lui aveva scoperto e che è decisiva appunto per la sua formazione credo che sia a questo libro che di Benedetto debba la sua scelta di grecista le caratteristiche interne sommariamente descritte stiamo parlando appunto del libro foscoliano comportano una inevitabile scelta dell'esemplificazione magari limitandosi sono dette alle grazie visto che De Sepolcri si è già detto l'essenziale in relazione agli scritti sparsi è opportuno precisare subito che il trascorso di area dello studioso dall'antichistica all'etanialistica implica intanto l'acquisizione di una larga messe di fonti inedite l'abitudine professionale di un'orecchia d'uso al ritmo degli esametri e la vastissima competenza in ambito greco-latino suggeriscono a Di Benedetto scoperte singolari che integrano in modo consistente il patrimonio dell'agnezione di lettura a carico per giunta di un autore come Foscolo che esibisce nella sua scrittura abbondanti riusi citazionistici dall'antico singolare in proposito l'analisi di Di Benedetto del sonetto forse perché della fatal quiete che sviluppa il percorso dell'indagine tra il livello stilistico tributario dei apporti classici Virgilio Catullo e Lucrezio Volgari Petrarca Monti e di area europea Yang con la conquista da parte di Foscolo scrive di un senso nuovo del tempo rispetto alla tradizione la fuga dei giorni di fatti non costituisce più pretesto di nostalgia come nel passato ma corrisponde a un processo di acquetamento delle tensioni interne proprio perché il poeta non ha un futuro di fronte a sé di là dall'accertamento che capovolge un topos secolare a seguito delle vicende della modernità distinte da un effetto mutageno preme rilevare qui l'osservazione generale che di Benedetto esplicita e che prefigura una costante della sua lettura dei testi la critica da lui praticata si sviluppa nel segno di una perentoria definizione teorica quando osserva cito che il rapporto di un poeta di un vero poeta con il modello è sempre qualcosa di conflittuale il poeta si nutre delle esperienze precedenti e nello stesso tempo se ne deve dissociare si tratta di un momento di un momento aureo a correzione di un andazzo che dopo la diffusione della griglia teorica relativa all'intertestualità da parte di Giulia Cristeva troppo spesso si è limitata a una registrazione passiva dei dati magari favorita dalla diffusione di archivi elettronici che hanno messo a disposizione degli utenti larga messe di referenze stilistiche in realtà il nodo problematico della questione si innerva proprio nel confronto dialettico una vera e propria lotta con l'angelo di De Benettiana Memoria fra la ricezione nel contesto di arrivo del precedente riutilizzato ad altro scopo perché il coagulo di nuovo conio che deriva dal processo di saldatura deve obbedire alla funzione di un richiamo inequivoco alla fonte e insieme favorire un rifacimento che aiutando la trama inedita liberi la novità dall'ipoteca di ogni possibile mimetismo la terza sezione dedicata alle grazie risulta problematica perché un lettore odierno difficilmente può condividerne l'impianto la ragione si può intendere agevolmente in base al giudizio che Di Benedetto dà del lavoro dell'ultimo editore del secondo carme nell'atto pure di esibire delle correzioni integrative scrive senza però dimenticare che il pregevole lavoro editoriale dello Scotti resta altamente valido e merita la riconoscenza degli studiosi sacrosanto l'obbligo della riconoscenza discutibile invece l'osservazione relativa alla validità dell'edizione la quale se per la prima volta ha sì il merito di presentare in appendice un'antologia dell'outline del 1822 cioè delle grazie inglesi incorre tuttavia nel limite di non illustrarne adeguatamente la fisionomia tanto che la conclusione del secondo carme risulta del tutto pacizzata il significato dell'ultima prova poetica di Foscolo sfugge completamente al lettore visto che il segmento testuale di riferimento è collocato addirittura dopo gli abbozzi poetici che precedono si infrange così nell'edizione Scotti una norma acquisita della filologia di autore che impone di anticipare nella prassi corrente la stampa definitiva rispetto alla varia lezio dei manoscritti preparatori la riflessione di Benedetto dedotta in base all'asimmetrico testo critico costituisce prova provata del carattere depistante di una scelta editoriale impropria di Benedetto infatti si sofferma a lungo sui problemi connessi con l'elaborazione certificata dagli autografi sotto il rispetto cronologico e stilistico ma manca il bersaglio dell'individuazione del nucleo generatore del carme la valorizzazione cioè della tematica connessa con la venere italica di Canova esposta agli uffizi nel 1812 di più gioca un ruolo del tutto forviante anche il disconoscimento nell'edizione Scotti dell'importanza degli appunti foscoliani dedicati alla venere italica dell'agosto settembre 1812 le postille di Foscole infatti non sono segnalate per il loro spicco dalla collocazione in apertura come pure avrebbe dovuto imporre l'inevvocabile cronologia ma risultano mescolate e confuse entro la serqua di numerosi abbozzi all'interno dei quali perdono il loro carattere incipitario di qui la difficoltà obiettiva di individuare un itinerario d'accessa al secondo carme pur è riconoscibile a norma di calendario anche per un conoscitore del poeta della statura di Benedetto il quale scrive pagine al solito molto ricche di dati puntuali è destinata a riuscire ancora utili a chi vorrà tentare in futuro una serie azione di materiali che spesso rappresentano un autentico rompicapo per l'esilità dei dati a disposizione limitati spesso alle modalità del ductus o alla diversità dei mezzi scrittori le pur stimolanti argomentazioni di Benedetto però sono rimasti di necessità estranee rispetto agli ultimi studi intesi a individuare il nucleo generatore delle grazie riconosciuto nel rapporto di Foscolo con Canova il richiamo all'asse privilegiato definito dal lavoro del poeta rispetto a quello dello scultore ha consentito di ravvisare la forma definitiva dell'opera nella stampa londinese del 22 e nelle prose collegate il merito di queste prospettive inedite si deve però precisare è oggettivo e va attribuito ai nuovi materiali di servizio in particolare alla ricomparsa della rara stampa dell'Hotline del 22 emersi da poco e dunque esclusi dal raggio di indagine di Benedetto un altro aspetto superato nella foscolistica di Benedetto va ricondotto del pari a un eccesso di fiducia riservata ancora agli studi di Mario Scotti al quale si deve l'attribuzione a Foscolo della tragedia giovanile Edippo uscita nel 1983 accolta da Di Benedetto con una fiducia ribadita nell'appendice prima del sesto tomo dell'Io Foscolo a Venezia l'ipotesi oggi definitivamente caduta è stata incrinata in anni successivi alle ricerche di Di Benedetto da un saggio di Maria Maddalena Lombardi nel 96 poi confermato nella denegazione attributiva da uno scritto di Franco Longoni nel 1988 più lineare discorso è possibile fare per la curatela di Di Benedetto del sesto tomo dell'Io data all'evidenza della proposta l'impianto del lavoro è propiziato da un'intuizione felice che riguarda scrive Di Benedetto la rivelazione nella prosa italiana di un modo nuovo di raccontare rappresentata appunto dal tentativo incompiuto di Foscolo veniva così corretta da Di Benedetto in modo discreto ma affermo la tendenza maggioritaria degli studi in ordine al romanzo italiano bilicati fra due archetipi fondativi il romanzo epistolare dell'Ortis e il romanzo storico di Manzoni la vittoriosa affermazione dei generi di fatto aveva messo in ombra l'apertura di credito del sesto tomo alla narrativa europea per mezzo di un registro che abbandonando scrive Di Benedetto la passionalità patriottica dell'Ortis si ricongiunge per l'impiego dei moduli ironici e dissacranti a Montesquieu le Temple dei Mid a Swift novella della botte allo stern del viaggio sentimentale poi tradotto dall'interessato al Cervantes del Don Quixote senza dimenticare i precedenti veneziani di Pietro Chiari e Camillo Gritti la costellazione dei nomi evocati segnala l'equilibrio dell'analisi di Di Benedetto che si giova del riconoscimento della formazione veneziana di Foscolo perché proprio la sua afferenza scrive a un ambiente iperletterario quale era la Venezia della seconda metà del Settecento costituiva una base eccezionalmente propizia di questa apertura europea l'importanza di questa scoperta che apre veramente una prospettiva nuova nella dimensione narrativa del nostro Ottocento letterario non necessita di ulteriori incrementi semmai sorprende che Di Benedetto apre e chiuda risolutamente la nuova linea di indagine relativa all'autore circoscritta a una finestra temporale ridotta scrive il sesto tomo si risolse in un fallimento perché i tempi non erano maturi ci si aspetterebbe a questo punto un cenno che qui manca alle più tardi lettere a più tardi lettere scritte dall'Inghilterra ugualmente inconcluse ma nate del pari dall'esigenza di sperimentare in altro ambito motivi di derivazione esterniana il lavoro intorno al sesto tomo di Di Benedetto si raccomanda inoltre per una numerosità davvero straordinaria di approfondimenti e di precisazioni di carattere biografico e critico che rendono il volume assolutamente indispensabile per ricostruire la cultura di Foscolo Giovane data all'intensità di un commento di 135 pagine in corpo piccolo un vero e proprio libro nel libro trascegliendo Fior da Fiore mi paiono imprescindibili i contributi consegnati all'appendici fra le quali spiccano in particolare la già citata prima sezione Foscolo a Venezia e il segmento dedicato al piano di studi nel primo saggio Foscolo a Venezia Di Benedetto corregge risolutamente la tesi di Carlo Dionisotti che aveva cito enfatizzato al di là della giusta misura il rapporto tra il giovane Foscolo e il Cesarotti attraverso un'indagine condotta sui testi giovanili in particolare sull'asillo generanzi rivelando una competenza guerrita del vario contesto da Bertola a Mattia Butturini a Giovanni Pindemonte e altri ancora di là dalla varia casistica l'indagine di De Benedetto evidenzia la svolta di un poeta politico come Foscolo svolta collocata nel 1795 cioè nell'imminenza del 1796 anno dell'ingresso in Italia dell'armata di Napoleone Buonaparte di qui in contemporanea il viraggio filalfieriano alla base del Chieste composto in quello stesso 1795 nel secondo contributo nota al piano di studi nel 96 pur muovendosi con qualche difficoltà perché costretto a riferirsi a una riproduzione fotografica il manoscritto del piano di studi allora irreperibile è ricomparso solo più tardi nel museo storico dell'Università di Pavia non manca di correzioni felici all'edizione Gambarin giudicata difettosa in molti punti di più Di Benedetto intende appieno la grande importanza di questo documento giovanile riuscendo a rendere funzionale e parlante perfino un semplice elenco di nomi Di Benedetto ha la brillante idea di fatti di confrontare l'onomastica del piano di studi di Foscolo con l'elenco di autori che Cesarotti allega ai rischiaramenti apologetici aggiunti al saggio sulla filosofia delle lingue applicata alla lingua italiana ne deriva una dissonanza di fondo che ribadisce per via pragmatica l'autonomia del giovane Foscolo rispetto al maestro Padovano a conferma di quanto già inteso per via di esplorazione dei testi salta a questo punto un paragrafo dedicato alla rappresentazione filologica del sesso tomo dell'io perché è un po' complicato mi rendo conto ad essere comunicato per via orale il volume manzoniano di Di Benedetto guida promessi sposi è il più complesso e articolato sotto il rispetto del metodo che si sviluppa nel segno per esempio della intertestualità e della variantistica dell'approfondimento delle fonti della fruizione di dati statistici invocati talora come dirimenti e di altri ancora la varietà degli approcci è assicurata dall'impiego di una strumentazione di base che si giova di concordanze cartacee ed elettroniche la Litz 2.0 del 95 e la Litz 3.0 del 98 assolutamente indispensabili per un'indagine che procede a partire dal frangimento minuzioso della lettera del testo avanti di allargare lo sguardo d'insieme all'interpretazione complessiva prima ancora di aprire il libro colpisce subito il titolo guida promessi sposi si tratta di un dettato così depresso nella sua scolastica evidenza anche se corretta dai sottotitoli l'idea tormentosa personaggi genti dall'età da far sospettare l'impiego di un espediente ironico ora c'è da dire che qui mi diceva proprio poco fa di Donato che il titolo è appunto redazionale cioè imposto dalla casa editrice e questo appunto spiega molte cose l'understatement sembra nascondere dietro lo schermo di un'etichetta seriale una persuasione che invece non intende limitarsi a offrire percorsi didattici adatti a scolari diligenti mira in realtà a reinterpretare il romanzo nel suo complesso anche a beneficio degli addetti a lavori in tal senso fa gioco la strumentazione degli indici finali gli indici dei personaggi l'indice selettivo degli argomenti l'indice delle singole parole e espressioni concepiti come chiavi ermeneutiche per disvelare i segreti dell'opera tramite una microscopia intesa come procedura necessaria delle modalità anzidette si giova il perimetro del volume articolato in quattro parti dopo la premessa e l'avvertenza i personaggi e le idee tormentose lo spazio della gente polifonia delle idalità l'autocensura dell'eros suddivise rispettivamente in dieci capitoli le prime due sezioni sette capitoli il terzo segmento quattro capitoli il quarto la semplice descrizione esterna dimostra che è impossibile in questa sede rendere conto in modo conveniente di una ricchezza informativa che esige un lettore intrepido attento a recepire la segnalazione delle numerose fonti inedite e la molteplicità degli spunti analitici si dovrà procedere dunque tramite il metodo del campione per rendere conto se oppure grossamente dell'incidenza del libro nel quadro della manzonistica attuale si impone in primo luogo il motivo conduttore del tutto originale che attraversa come un filo rosso gran parte della ricerca lo spazio dedicato all'idea tormentosa definita cito come una specie del tutto particolare di turbamento interiore che deriva dal presentarsi e dall'incalzare di per sé tendenzialmente ossessivo di un'idea che si impone e permane nella mente del soggetto e non la si può scacciare oppure la si caccia via come difficoltà si la caccia via con difficoltà un'idea incalzante dotata di una forte capacità di iniziativa qui finisce la citazione non è azzardato forse definire tale griglia di lettura come approccio psicanalitico debole per dirla con il linguaggio degli epistemologi tanto più notevole per lo storicista e marxista di Benedetto in paraggi cronologici in cui la psicanalisi non trovava udienza favorevole in quell'area se si pensa al duello ingaggiato dalla polemica di Sebastiano Timpanaro più di vent'anni prima con il lapsus freudiano è vero però che tale itinerario che riguarda tutti i personaggi principali del romanzo è modulata correttivo nel segno di una ricerca di semantica storica che individua le premesse testuali del motivo addirittura nel terzo stasimo dell'agamennone di Eschilo per poi soffermarsi scendendo per l'Irami in Petrarca Agostino il re Lir di Shakespeare la fedra di Rasin e perfino al ridosso di Manzoni nei pensieri d'amore di Monti si giunge così allo snodo di rimente del pensiero di Rousseau con il quale Manzoni si trova a colluttare di continuo sia pure con prelievi indispensabili come ad esempio sottolinea di Benedetto il democraticismo dello scrittore e cioè l'amore per la povera gente ma il distinguo è risoluto e inequivocabile cito se non che di fronte alla sfida che Rousseau aveva lanciato alla fine del contrat social a coloro che non volessero riconoscere la specificità del politico rispetto a valori religiosi anche quelli cristiani di fronte a questa sfida Manzoni deve aver avvertito un'esclusione che lui non poteva accettare si trattava perciò di andare oltre Rousseau pur conservandone alcune importanti tesi di fondo si trattava di andare al di là dell'ambito del politico per affermare l'etica e la fede cristiana fine della citazione la novità del punto di vista che attraverso i richiami alle fonti agli sviluppi delle varianti permette di evitare derive psicologistiche consente di segnalare la ricchezza interiore del personaggio di Lucia rivisitato nella chiave sorprendente la premessa è fissata in una verifica testuale a proposito dell'ottavo capitolo del romanzo nell'atto di entrare nella stanza di Don Abbondio per il tentativo del matrimonio a sorpresa Renzo che nel ferme Lucia afferrava la mano di Lucia nei promessi sposi la prende per un braccio con un depotenziamento del linguaggio per evitare ogni allusione di tipo vagamente sensuale la pruderia dell'autore nei confronti del personaggio ne prepara però un riscatto a detta di De Benedetto tramite l'insorgenza costante nella mente della giovane del pensiero ossessivo che cito crea così con una situazione erotica di secondo grado la censura si autovanifica e crea una forma nuova e più sofisticata di letteratura erotica neppure sul piano ideologico l'acquisizione del modulo del pensiero ossessivo rimane senza conseguenze perché è chiaro cito che contro l'idea tormentosa non vale organizzarsi e il credente può essere legittimato a ritenere che un aiuto valido può essere fornito solo dalla fede religiosa ancora sul piano dell'interpretazione complessiva Di Benedetto nega la patente di Bildungsroman ai promessi sposi tesi questa sulla quale magari si può eccepire data la natura aperta di snodi determinanti all'interno dell'opera Di Benedetto nega per esempio qualsiasi parentela odissiaca generale per Renzo cioè per un personaggio che lui definisce complesso e di spicco in quanto portatore di idealità di grande rilievo ideologico che obbligano l'autore a prenderne le distanze attraverso il procedimento dell'ironia più importa che Manzoni lasci in sondata la grande questione del male nel mondo tema amplificato dall'epidemia della peste in proposito è possibile solo ravvisare la sospensione del giudizio dell'autore scrive infatti Di Benedetto Manzoni era convinto che Dio è per tutto ma probabilmente Manzoni era anche convinto che più di quello che ha scritto non si poteva dire altrettanto divaricato risulta il motivo conduttore della questione politica agitata in premessa dalla scelta di stare dalla parte degli umili la simpatia manifestata in proposito crea la distanza nei confronti dei detentori del potere anche in questo caso però il credo religioso di Manzoni frena ogni slancio improprio scrive Di Benedetto i termini di riferimento in positivo sono nel romanzo dei valori che non sono di per sé trasferibili in una proposta politica sono i valori dell'etica cristiana ed evangelica e tuttavia l'adesione rigorosa allo spirito evangelico comporta di per sé una dissociazione nei confronti della dimensione del politico in quanto tale e dalle strutture di potere esistenti fine della citazione il limite obiettivo dell'ideologia dell'autore non deve nascondere però il rilievo che Di Benedetto riprende da Cesare Casis la presenza di Manzoni è un passo ampio ma molto significativo quindi mi pare obbligatorio citarlo perché tra l'altro appunto Di Benedetto assume per intero è la lettura di Casis la presenza in Manzoni di qualche cosa che è assolutamente nuovo e originale nella letteratura italiana il senso della responsabilità della società nei confronti dell'individuo il cattolico Manzoni invita la rassegnazione però solo dopo avere spietatamente smontato l'atroce meccanismo che produce la monaca di Monza con una così rara e ammirevole mancanza di rispetto per certe istituzioni a cominciare dalla famiglia che si lascia dietro di Deleu in ordine all'importanza delle fonti del romanzo basti qualche esempio isolato ma dirimente perché solo un classicista della capacità di ascoltazione sottile come quella di Di Benedetto poteva percepire un contatto con Odissea 14esimo 49-51 quando Omeo accoglie Ulisse al suo rientro in Itaca e con Ovidio per l'episodio di Filemone e Bauci a proposito dell'incontro di Renzo con l'amico al suo ritorno in paese nel 33esimo dei promessi sposi o ancora ravvisare il precedente del passo merico appena rammentato cioè di Odissea 14esimo 49-51 nel pranzo di Renzo con Fra Cristoforo nell'Azzeretto nel 35esimo dei promessi sposi il roso conto per quanto sommario e parziale si presta una considerazione stravagante dovrebbe essere chiaro che gli italianisti quorum ego confesso debbano riconoscere un largo debito in evaso con gli studi di Benedetto perché la sua libera critica mai apologetica e sempre ispirata all'evidenza della testualità non è stata usufruita a fondo come pure indiscutibilmente merita per quanto concerne Manzoni c'è da dire tuttavia che nel recente commento ai promessi sposi di Teresa Poggi Salani del 2013 sono ben 10 le occorrenze riservate alla guida ai promessi sposi di De Benedetto c'è da augurarsi dunque che la rilettura solleciti una fruizione rinnovata perché dalla frequentazione si potranno ricavare spunti propositivi di grande utilità dovendo infine concludere è inevitabile osservare che la formazione del filologo classico abbia favorito senza dubbio l'originalità del punto di vista di De Benedetto capace di scoprire aspetti inusitati nelle opere assunte a pretesto aspetti magari opacizzati nella competenza di un italianista di professione dalla stessa familiarità con il dibattito tradizionale ma a parte le risultanze open geni è contato di certo per Di Benedetto il sicuro elegante maneggio di una griglia interpretativa che ha saputo declinare la dialettica che nell'antichistica corre tra filologia formale e storia istituendo un ponte dunque tra la scuola riconducibile a Giorgio Pasquali e i sistemi critici più avvertiti dell'italianistica contemporanea è nata di qui l'attitudine a indagare ogni piega del testo in base alle esigenze di un metodo appreso per ammissione esplicita alla scuola di Scivola Mariotti ha scritto in proposito di Benedetto non è metodico era un modo di dire di Mariotti che ancora risuona nella mia mente e di fatti il refrain ritorna con qualche frequenza sotto la sua penna si realizza per questa via la congiunzione rara di una ricerca che poggia sullo zoccolo duro della testualità più capillare ma capace di aprire in modo subitaneo ogni volta che l'interpretazione lo imponga a uno sguardo di profondità indirà indirizzato verso un'interpretazione complessiva da ultimo mi pare di poter dire che dalla rivisitazione di un'esperienza così intensa derivino almeno due ammaestramenti a futura memoria il primo più tecnico appena accennato ma che va ribadito sollecita la combinazione dell'analisi puntuale con lo sguardo alto di una teoria strettamente correlata il secondo insegnamento aperto all'esperienza del vissuto esistenziale suggerisce l'opportunità di adottare fermezza nella polemica giustificata insieme con il riconoscimento generoso dei meriti dell'interlocutore mi pare che di questi requisiti debba alimentarsi ancora oggi la nobiltà della ricerca più rigorosa vi ringrazio per l'attenzione grazie siamo noi che ringraziamo per questo bellissimo approccio che fa vedere una serie di temi come una serie di temi ricorrono e si e si intrecino appunto non è il metodico cercare di riconoscere gli interessi gli spunti culturali che uniscono gli studi italianistici agli studi di Benedetto sul mondo antico alcuni elementi mi sembrano diciamo emergere chiaramente vorrei intanto lasciare la parola al pubblico se ci sono domande o richieste in realtà non è una domanda è più un'osservazione su quello che ho sentito le soste sulle stazioni maggiori ecco questa è una bella espressione che abbiamo sentito della letteratura italiana si affianca a ha una sosta sulle stazioni maggiori anche della letteratura greca questo a me sembra un aspetto molto interessante dell'opera di Benedetto in generale pochi fanno proprio tutti gli autori canonici greci e poi anche molti autori canonici della letteratura italiana e forse possiamo chiederci farci qualche domanda su questa scelta quello che è venuto in mente a me è questo certe volte la condizione di marginalità assoluta dal punto di vista economico culturale anche geografico aiuta a incontrare i grandi della letteratura faccia a faccia direttamente senza senza mediazione così di Benedetto in cartoleria può leggere i lici greci e trovarsi vicino a loro senza senza mediazione e questo dovrebbe farci riflettere sul potere dei libri in cartoleria lontani da questa sala e l'altra cosa che però è anche importante da riconoscere è che poi invece questo incontro diretto con i grandi della letteratura va invece immediato e volevo qui offrire un momento di gratitudine per la scuola normale superiore perché queste istituzioni forti che riescono poi a non lasciare il ragazzo in cartoleria ma metterlo in contatto e ad avere un dialogo così importante come abbiamo sentito ora con tanti studiosi e lettori della letteratura mi sembra importante così forse alla fine di questa giornata è utile rinnovare non solo il nostro impegno culturale letterario però anche un impegno sociale nel cercare di mantenere aperte queste istituzioni che favoriscono poi l'incontro e il dialogo pare che le sue parole chiamino come dire una facile aggregazione da parte di tutti sono vere sono autentiche ecco nel caso di Di Benedetto c'è in più una passione civile molto intensa che lega sempre i suoi scritti a esigenze dirette anche di militanza prima ne accennava appunto di Donato facendo capire i termini la temperatura quasi di un'epoca che anch'io in parte per ragioni di anagrafe ho vissuto e misurando la distanza posso intendere l'effervescenza di quei momenti quando davvero ecco scrivere un libro significava compiere un gesto civile ecco ricordo quello che dice Di Benedetto del classicismo di Timpanaro dice che è un libro scritto praticamente dagli studenti che a Pisa altrove occupano le facoltà è un momento intensissimo di vita civile perché si pensava allora di poter cambiare il mondo anche per via di scoperte culturali ecco e così via quindi senz'altro possiamo ereditare molto da queste esperienze in termini di metodo di competenza di deontologia professionale è irraggiungibile perché ormai appartiene a un'epoca inesorabilmente perenta ecco il il tessuto civile che allora animava quelle discussioni ecco quelle quegli aperti dibattiti insomma grazie comunque belle parole ha detto da meditare perché volevo appunto dire che sono d'accordo certamente sullo stretto legame tra l'amore per la letteratura e la passione civile e questo secondo me spiega anche il fatto che il suo interesse sia stato relativamente ridotto per quell'area della letteratura greca la poesia ellenistica va bene che appunto non si alimenta di passioni civili e di interesse politico è una letteratura puramente erudita e quindi credo che si l'amore per questi grandi ma in cui individuava anche in qualche modo un interesse di questo tipo quindi confermerei la sua lettura grazie anche se dall'ultimo si era messo si parlo io io magari forse c'era qualcuno però che voleva parlare ho visto una mano che no non si fa niente allora io dico proprio due parole credo a questo punto in chiusura poi ridò la parola naturalmente innanzitutto ringrazio io sono il figlio del professore di Benedetto sono Saverio sono anche citato dediche quindi magari qualcuna sarà anche diciamo anche di quelli che non conoscevano personalmente papà in corso del mio nome io volevo ringraziare Luigi e Maria Chiara per la stupenda organizzazione e tutti quelli che sono intervenuti per le parole che hanno speso su papà e penso che fuori da ogni retorica che lui sarebbe stato davvero felice di un'iniziativa di questo tipo per il semplice motivo che si ricordava il suo pensiero ecco lui sicuramente nella sua diciamo dimensione intellettuale umana dava un peso fondamentale proprio a quello che scriveva a quello che era il suo pensiero e alla trasmissione alla comunicazione del del suo pensiero quindi il fatto che oggi si sia discusso appunto della della sua produzione scientifica intellettuale a tutto tondo come è stato fatto in questo in questo convegno è una cosa che l'avrebbe secondo me davvero reso felice spero anche perché magari viste le relazioni molto belle ci sarà anche occasione per pubblicarle questo naturalmente poi lo lo vedranno gli organizzatori insomma ma credo che sarebbe veramente una cosa una cosa bella vista anche la grandissima qualità delle stesse in queste opere a tutto tondo è anche bello che si è stato citato varie volte la raccolta degli scritti cosiddetti minori cioè in realtà minori non sono c'è il richiamo del testo fatta mirabilmente dall'amico di Donate di cui papà era veramente contento anche gli ultimi anni perché proprio a casa ci sono almeno due edizioni dei volumi tutte a sua volta scritte scartabellate insomma lavorate perché lui poi aveva gli piaceva tornare sulle cose sui stessi libri annotarli appuntarli trovarci errori innanzitutto e poi collegamenti quindi era un processo continuo che non si esauriva con la pubblicazione stessa questo un pochino con tutti i libri credo che abbia una decina di edizioni dell'Odissea perché venivano poi distrutte quindi erano totalmente illegibili da tutte le cose e quindi era una cosa di questo tipo perché era un laboratorio appunto come giustamente è stato messo nel titolo come lui aveva scritto per Foscolo appunto che era stato citato in particolare credo che papà sarebbe stato molto contento della dimensione a tutto tondo e della dimensione di critico letterario che emerge da questo convegno c'è nella prima relazione di Barbara Graziosi riferimento appunto a papà come critico letterario oltre che come filologo e lui questa era una cosa a cui teneva molto lui diceva sì io sicuramente nasco come filologo classico però io mi sento un qualcosa se non di più di ulteriore cioè un critico letterario e in tal senso secondo me tutto l'impegno che ha profuso per parecchi anni sulla dimensione anche italianistica si collega proprio a questa sua volontà la sua volontà di trascendere un po' sotto in un rapporto bello di competizione nel senso bello del termine con quello che appunto è stato sicuramente un suo maestro come è stato Sebastiano Timpanaro che aveva scritto su Leopardi papà mi raccontava che avrebbe sempre voluto fare un libro su Leopardi ma poi non l'ha mai fatto probabilmente perché sentiva il peso della produzione scientifica di Sebastiano sulla cosa però lui dice io mi sono cimentato in maniera più in maniera diversa cioè ho fatto più il critico letterario mentre Sebastiano restava più filologo classico nella sua appunto interpretazione dell'Ottocento italiano e in queste per concludere proprio su questo su questo punto dell'italiano sono contento che in particolare appunto il professore abbia sottolineato l'aspetto della guida promessi sposi del testo promessi sposi che papà amava molto e che anche lui gli dispiaceva un po' diceva forse ho sbagliato titolo come dire se era piaciuto che se ne fosse discusso di più appunto ma è vera quella cosa io c'ero quando ne parlava con Evaldo Violo quando veniva quindi non posso che confermare il titolo doveva essere l'idea tormentosa quella doveva apparire al centro quindi sono molto contento del fatto appunto che è stata valorizzata e vorrei concludere con un fatto che papà era contento quando aveva saputo che Scevola Mariotti poche settimane prima di morire aveva detto accidenti ho letto tante volte i promessi sposi e non ci ho mai visto quello che ci ha visto Vincenzo e che io penso che questo ricordo finale dia un po' tutta la dimensione proprio anche del carattere di come papà era felice quando si parlava di lui quando se ne parlava in maniera reale e anche positiva e come abbiamo fatto oggi quindi con questo ricordo vi ringrazio ancora e vi ringrazio tutti grazie grazie davvero Savera per queste bellissime parole c'erano ancora delle domande e ho delle interventi grazie una notte marginale ma che mi sembra possa essere utile per i giovani che sono qui con noi che si inserisce nel significato della giornata di oggi che parla del produrre cultura e di trasmette allora mi fa piacere se è stato fatto il nome di Franco Longoni come interlocutore di Vincenzo e Benedetto su Foscolo Franco era anche lui un grecista di formazione si è laureato a Milano con Del Corno con una tesi su un papiro di Berlino che parla del DT Rambo e ha insegnato per decenni a scuola ma è una persona di grande raffinatezza e di grandi interessi culturali e è diventato poi italianista ed è scomparso nella primaria di quest'anno e mi ricordo che mi raccontava spesso di questi vivaci scambi epistolari su Foscolo con Vincenzo e Benedetto quindi mi sembra che dia l'idea questa altra persona scomparsa con un itinerario non dissimile anche se meno accademico di quello che significa appunto fare produrre e comunicare cultura grazie per questa evocazione Franco Longoni che è scomparso il 13-14 giugno scorso mi aveva mandato tra l'altro per la mia rivista 600 e 700 un lavoro sulla moda un lavoro curiosissimo su un libro non stampato ma è rimasto in bozze che lui che lavorava credo anche per una libreria antiquaria di Milano aveva avuto in sorte e purtroppo ecco il lavoro l'aveva mandato per una prima lettura è rimasto inconcluso per questa improvvisa scomparsa e allora io ho cercato ma naturalmente non sarà all'altezza del suo lavoro ho cercato di completarlo perché mi pareva distinguendo con le parentesi quadri ogni intervento perché mi pareva doveroso insomma rendere pubblico quello che presumibilmente è il suo ultimo lavoro era un uomo di raffinatissima cultura ecco spiccatamente classicista proprio e aveva anche lui applicato all'ambito dell'italianistica in particolare Foscoliano il tesoro delle sue competenze che erano davvero notevoli ecco bene grazie ci sono altre domande interventi allora diciamo forse possiamo brevemente concludere e appunto mi fa piacere mi fa piacere le parole di Saverio noi abbiamo cercato un po' anche con il nostro titolo di alludere a entrambi questi aspetti cioè il filologo e l'interprete naturalmente i titoli sono sempre un compromesso appunto come anche a volte non con una esigenza editoriale ma con esigenze come dire comunicative però effettivamente questo è uno degli aspetti più interessanti cioè è una delle cose più curiose che poi anche a noi magari forse come allievi colpire il fatto che di Benedetto avesse fatto edizioni da giovane l'Oresti i Papiri di Bartoletti e poi alla fine l'unica l'edizione critica che ha fatto non è stata di Safo ma di Foscolo che rappresenta il suo diciamo il suo interesse anche appunto di scoperta di novità e anche un altro e invece un altro punto generale era quello che uno degli interessi suoi era arrivare a interpretazioni letterarie interpretazioni letterarie a cui si arrivava tramite un'analisi empirica dei singoli passi dei singoli punti e questo appunto ricollega secondo me molto con quello che si è detto sullo studio della medicina e della scienza antica cioè di nuovo le grandi categorie ambiguità e strutturalismo non andavano bene perché erano da una parte troppo aperte l'ambiguità e dall'altra troppo sistematiche lo strutturalismo appunto lì c'era Pantes invece lui era per o Sepito Poluo o Ipollò cioè quindi qualcosa di empirico che cerca di ricostruire a partire dai segni del testo e dai rapporti fra i vari testi un discorso generale un'analisi generale a volte appunto come diceva Willy a volte caricando di testo moltissimo di senso in maniera fortissima i rapporti anche lessicali fra i pochi testi i pochi frammenti che noi abbiamo ma comunque sempre cercando di ricostruire un senso un'importanza culturale che si basa sui dati di fatto e questo è un altro aspetto che ad esempio a me sorprendeva il fatto che mentre per tantissimi altri testi lui ricostruisce una filiera un rapporto appunto Foscolo e i suoi modelli Manzoni i suoi modelli antichi e moderni quindi con un cannocchiale un telescopio di numerosissimi autori per Romero non lo fa mentre molti hanno tentato di farlo di ricostruire ciò che c'era nella tradizione indoeuropea ciò che c'era nel ciclo ciò che c'era nelle versioni del ciclo e abbiamo degli elementi per poterlo fare e lì secondo me appunto era l'empirismo il suo criterio guida cioè noi possiamo ricostruire quello che non c'è se abbiamo un papiro di saffo in cui mancano tot sillabe e io so che quella sequenza deve avere due brevi e una lunga e deve rispettare quel numero di lettere il salto di dover ricostruire interi poemi intere tradizioni sulla base dei pochi frammenti è una cosa che in teoria forse è possibile ma è troppo poco empiricamente fondata e quindi cerco di allontanare e un altro aspetto che secondo me interessante che emergeva oggi era quello della visione politica e civile appunto curiosamente appunto Omero era nella citazione che aveva giustamente selezionato Barbara che io naturalmente adesso non riesco più a ritrovare era visto come qualcuno che nel suo testo presenta una realtà sociale ma suggerisce qualche cosa che la contrasta qualche cosa che va al di là e quindi facendo una lettura diciamo anti aristocratica o comunque in un certo senso against grain contro la la corrente e paradossalmente invece nella sua lettura della tragedia greca sottolineava molto a differenza di altri interpreti l'aspetto di conservazione della società cioè quello che dice di di Eschilo dice in relazione a questi temi che si rivela la politicità della tragedia greca nel senso che di regola lo sbocco consisteva in un atteggiamento che presupponeva il riconoscimento e l'accettazione delle strutture sociali e politiche fondamentali cioè mentre vedeva in uno Omero qualcuno un testo che tendeva a contrapporsi alla realtà politica per la tragedia vedeva soprattutto gli aspetti stabilizzatori e gli aspetti invece che vedeva come di contrasto alla politica li riconduceva o a una tendenza personale in Euripide quindi specialmente nel libro del 71 quindi come visti come evasione come disimpegno quindi una prospettiva personale oppure nel libro su Sofocle come di nuovo una prospettiva personale dell'eroe che è al di fuori della polis ecco questo diciamo mi sembrava un aspetto interessante della relazione appunto sul sistema di potere che di benedetto cerca sempre di mettere in luce e cerca sempre di farlo sottolineando appunto le tensioni le tensioni dell'individuo in cui evidentemente c'è una parte di riconoscimento della propria tensione intellettuale sociale politica e appunto anche a me sembra che da un punto di vista politico lui fosse supposizioni spesso non riconducibili a un partito il fatto stesso che abbia cambiato molte volte schieramento politico il fatto stesso che abbia cambiato questa sua tensione a contrastare uno status quo e però riconoscere lucidamente la forza e l'efficacia mi sembra uno degli aspetti più caratteristici ecco dire solo una cosa mi dispiace se nessuno ti ha parlato delle baccanti perché è un autore a cui è molto piccolo l'ho percevuto tanto però mi piaceva moltissimo allora non ricordo io una si ricatta di leggere per me le leggere non so perché è molto bello certamente questo appunto le baccanti purtroppo nell'intervento di Susanne Saidi qualche cosa lei avrebbe voluto dire ma il tempo era ahimè tiranno ma appunto ecco questo mi permette di collegare alla cosa a cui accennava anche Saverio noi speriamo davvero di riuscire a raccogliere in una pubblicazione gli interventi di oggi in una forma che discuteremo diciamo di cui discuteremo con gli autori e quindi ci sarà spazio anche per sviluppare una serie di temi o di aspetti che sono per forza di cose nelle relazioni orali rimasti a uno stato più di abbozza bene grazie grazie